Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti, la stasi sopra Berlino, di Paolo sul Dio. Questa è la cronaca di un giorno in cui la storia si mise a correre, un giorno che cambiò la faccia dell'Europa e del mondo, il 9 novembre del 1989, quasi vent'anni fa, il giorno della caduta del muro di Berlino. Protagonista di quel giorno non fu solo la storia con la S maiuscola. Protagoniste furono anche le storie, le vicende di tanti e tanti uomini e donne che avevano vissuto una situazione terribile, una separazione durata 28 anni, imposta con la forza per ragioni politiche, con la creazione di un muro che divideva una città che era stata sempre un'entità unica e che improvvisamente si trovava separata non solo fra due stati, ma separata fra due mondi, con tre posti uno all'altro. Il 9 novembre dell'89 era un giovedì autunnale, una giornata umida, grigia, però la gente non stava a casa, Berlino era molto animata. Animata anche da molti giornalisti che erano venuti ad assistere a un crollo del regime che si pensava imminente. Fra quei giornalisti, inviato dall'unità, c'ero anch'io. La percezione che si respirava quasi nell'aria era quella di una crisi davvero molto grave, senza soluzioni possibili se non quella di una svolta clamorosa. A maggio c'erano state le elezioni comunali ed era successa una cosa straordinaria per la RDT e più in generale per un paese dell'est. La SED, il partito dominante costituito dalla fusione del partito comunista tedesco e dei socialdemocratici alla fine degli anni Quaranta, Unione imposta da Mosca, sosteneva di aver conquistato praticamente quasi tutti i seggi delle amministrazioni locali a scapito dei partiti del fronte nazionale, e cioè dei partiti finti che vivevano soltanto grazie al permesso dell'autorità sovietica e della stessa SED, conquistando il 90-95% dei voti. La cosa era incredibile, ma era successa già tante altre volte, senza che ci fossero proteste particolari. Però il momento era diverso. In quel momento, nella tarda primavera dell'89, tutti guardavano a Mosca, dove Mikhail Gorbachev stava dando corpo alla sua perestroica. Gorbachev era considerato in Germania quello che i tedeschi chiamano un Hoffnungstreger, cioè un portatore di speranza. Un uomo dal quale si poteva in qualche modo prendere l'esempio. Poi la situazione precipitò nell'estate, perché cominciò un esodo continuo dei cittadini della RDT che volevano lasciare il paese attraverso l'Ungheria. L'Ungheria era governata da Kadar, che si stava spostando su posizioni vicine a quelle di Gorbachev, che quindi cercava un buon rapporto con gli occidentali, e in questo clima aveva ordinato di allentare molto i controlli alla frontiera con l'Austria. L'11 settembre ricordo che tutti gli inviati che seguivano gli avvenimenti tedeschi erano a Brema, dove c'era un congresso della ZDU particolarmente importante, perché era la prima volta che veniva messa in discussione l'autorità del cancelliere Kohl. Ma proprio mentre parlava Kohl, la sera arrivò la notizia che l'Ungheria, deponendo le ultime perplessità, aveva aperto la frontiera con l'Austria. E quindi cominciava un flusso, a questo punto massiccio, di cittadini dell'est verso l'Austria. La stessa situazione nei giorni successivi si creò a Praga, dove migliaia di cittadini dell'est, che potevano circolare liberamente all'interno del blocco orientale e quindi potevano raggiungere Praga, occuparono l'ambasciata della Repubblica Federale, cioè della Germania Ovest, chiedendo di essere portati in Germania Occidentale. La situazione all'ambasciata di Praga fu risolta grazie all'intervento di un giovane diplomatico che si chiamava Michael Steiner, oggi l'ambasciatore della Repubblica Federale a Roma, e del ministro degli esteri della Repubblica Federale, Hans-Dietrich Genscher, che riuscì ad ottenere, a strappare alla nomenclatura della RDT il permesso perché i rifugiati nell'ambasciata fossero portati nella Germania Federale. Concedendo il permesso, però, Berlino Est commise un errore clamoroso per una stupida ragione di principio. Vole, infatti, che i treni che portavano quelli che loro chiamavano i fuggiaschi non passassero direttamente dalla Ciecoslovacchia alla Germania Federale, ma attraversassero il territorio della RDT. Accadde così che questi treni furono circondati da folle di persone che manifestavano da un lato la gioia perché c'era stato questo cedimento del regime e dall'altro cercavano in qualche modo di salire anche loro sui treni per poter lasciare il paese. Un ulteriore aggravamento della crisi avvenne all'inizio di ottobre. Il 7 ottobre cadeva il quarantesimo anniversario della fondazione della RDT e per l'occasione alle cerimonie previste era stato invitato anche il leader del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev. Gorbachev fu accolto dalla folla come una sorta di eroe popolare. Ci furono manifestazioni in tutta la città al grido di Gorbi, Gorbi, il che lo pose in una situazione di pesante imbarazzo perché da un lato non poteva sconfessare queste persone che gli attribuivano il merito della perestroica. Dall'altro era pur sempre ospite del gruppo dirigente del paese più importante del patto di Varsapia che ancora esisteva. Però Gorbachev trovò comunque il modo di segnalare ai dirigenti della RDT il modo in cui la pensava. Ricordo che proprio davanti al monumento ai caduti delle guerre sulla Hunter del Linden a Berlino di fronte a una selva di giornalisti stranieri che lo pressava con i microfoni, le telecamere, i registratori, Gorbachev pronunciò una frase che poi sarebbe diventata una sorta di leitmotiv di quei giorni, di quel momento storico. Chi arriva tardi disse viene punito dalla storia. Era un chiarissimo riferimento, un chiarissimo invito ai dirigenti erediti ad adottare il metodo delle riforme. Ma la risposta fu durissima, fu una risposta di chiusura assoluta. La sera stessa Erich Onecker, che era il segretario generale della SED e anche il presidente del Consiglio di Stato, quindi il capo del partito dello Stato, che partecipando alla cerimonia ufficiale per il quarantesimo anniversario al Palazzo del Repubblic, il palazzo un po' kitsch che lo stesso Onecker aveva voluto a Berlino davanti al Duomo per ospitare tutte le istituzioni statali e di partito del paese. In questo discorso Onecker fu molto chiuso, disse che nell'RDT tutto funzionava perfettamente, che non c'era bisogno di nessuna riforma, che il socialismo era fortissimo e avrebbe vinto presto su tutta la linea. La sera ci fu l'ultima manifestazione di potere del regime, una fiaccolata della FDJ, dei giovani della FDJ, la FDJ era la gioventù del partito, che in divisa con le loro camicie blu sfilarono sulla Hunter del Linden fino alla porta di Brandenburgo, evocando, devo dire, altre sfilate in tempi molto lontani e molto più spiacevoli. Ma anche questa prova di forza fu poi alla fine un fallimento, perché dopo la manifestazione moltissimi giovani restarono in strada e si unirono alle manifestazioni spontanee che si svolgevano un po' dovunque al grido di Gorbi Gorbi. Pochi giorni dopo, il 9 ottobre, era prevista all'Ipsia una grande manifestazione. Il 9 ottobre era un lunedì e da mesi ormai all'Ipsia, ogni lunedì per iniziativa di una parrocchia evangelica, la chiesa di San Nicola, si tenevano delle manifestazioni per chiedere le riforme. Ricordo che il clima era molto teso in vista di questo appuntamento, perché giravano voci secondo le quali il regime avrebbe cercato un confronto duro con i manifestanti, come era accaduto pochi mesi prima, in giugno, sulla piazza Tiananmen di Pechino, dove la rivolta dei giovani era stata soffocata dai carri armati cinesi. In realtà, per fortuna, non successe nulla. 70-80 mila persone sfilarono per il centro di Ipsia, mentre la polizia si mantenne prudentemente in disparte. Però anche questo fatto, anche la mancanza di una repressione dura, fu considerata da molti ambienti come uno smacco per il regime. Tant'è vero che neppure una settimana dopo, il 17 ottobre, avvenne un mutamento drammatico al vertice della sede. In una seduta convocata all'ultimo momento del politbureau del partito, Erich Honecker, che aveva guidato il paese fin dalla fine degli anni Sessanta, raccogliendo l'eredità di Walter Ulbricht, venne destituito e sostituito alla guida della sede da Egon Krenz, un personaggio scialbo poco conosciuto, era il capo della FDJ. Mentre tutti si aspettavano che se Honecker avesse dovuto lasciare il potere, il potere stesso sarebbe passato nelle mani di un riformatore, come poteva essere Hans Modrov, considerato un po' il Gorbacioviano, per così dire, della RDT. Il 4 novembre, questa volta a Berlino, a Lustgarten, il grande giardino dove un tempo era stato il castello degli imperatori tedeschi, si tenne una manifestazione enorme con molte centinaia di migliaia di persone, si dice forse un milione di persone, cui partecipò, fra l'altro, gran parte dell'intelligenza della RDT, segnalando il fatto che anche una parte dell'establishment, diciamo, era consapevole del fatto che il regime ormai era agli sgocci. Tant'è vero che il 5 novembre, il giorno successivo, ci fu l'ultimo atto di questa erosione di potere. Il 5 novembre cadde infatti il governo di Willi Stoff e la SED si riunì per discutere se convocare un congresso straordinario, che significava evidentemente che si sarebbe imboccata la via di un mutamento politico radicale nel senso della democratizzazione delle riforme, oppure se si doveva andare verso una liberalizzazione, ma più cauta, più stemperata nel tempo. Si tenga conto del fatto però che, nonostante che la crisi fosse ormai precipitata e fosse gravissima e fosse del tutto evidente, nessuno pensava, o quasi nessuno pensava ancora che la caduta del muro fosse imminente. Ricordo di aver intervistato proprio il 5 novembre il massimo esperto di questioni intertedesche, il professor Fred Oldenburg, titolare del settore delle relazioni intertedesche del più importante istituto di studi sulle società dell'est della Germania, con sede a Colonia, e Oldenburg aveva detto queste parole, dice voi non tedeschi aspettatevi di tutto, sappiate che la RDT è una crisi gravissima, che non c'è nessuna soluzione politica che possa salvare il suo gruppo dirigente, quindi può succedere qualsiasi cosa, una cosa soltanto non aspettatevela. Per il momento il muro di Berlino non cadrà, né nei prossimi giorni né nelle prossime settimane. Era il 5 novembre, il muro sarebbe caduto esattamente quattro giorni dopo. E veniamo alla cronaca del 9 novembre. Per la sera del 9 novembre è annunciata una conferenza stampa di Günter Schabowski, che è il portavoce del Poliduro della SED. L'argomento della conferenza stampa, almeno in teoria, dovrebbe essere la convocazione o meno del congresso straordinario, che intanto, ma i giornalisti ancora non lo sanno, la SED ha deciso che non ci sarà, se andrà piuttosto verso una conferenza d'organizzazione. All'inizio della conferenza stampa Schabowski dà conto di questa decisione della SED e poi chiede ai giornalisti se ci sono domande. A quel punto prende la parola un giornalista italiano, Riccardo Herman dell'ANSA, che formula la domanda decisiva, quella che poi in qualche modo provocherà la caduta del muro. Infatti chiede Herman, nei giorni scorsi voi avevate preparato delle disposizioni che riguardavano il passaggio di frontiera da parte dei cittadini della RDT. Queste disposizioni sono state bocciate perché sono state giudicate troppo caute, perfino da ambienti della SED e da life dei yacht, quindi adesso che cosa farete? A questo punto Schabowski dice ma ci sono delle nuove disposizioni, le conoscete no? E tutta la sala, pienissima ovviamente, risponde in coro no, non le conosciamo. A quel punto Schabowski mette una mano in tasca e tira fuori un foglietto e comincia a leggerlo. Lo legge con l'aria evidentissima di una persona che legge un testo per la prima volta. Non si sa se il foglietto l'aveva in tasca dall'inizio della conferenza stampa o gli era stato portato da un collaboratore che tutti avevamo visto per giungerlo sul palco a un certo punto mentre lui parlava. Comunque sia, Schabowski legge questo testo il quale effettivamente configura una certa liberalizzazione dei passaggi di frontiera perché indica che possa uscire dal paese qualsiasi cittadino della RDT che sia in possesso di un passaporto, anche se non erano moltissimi cittadini della RDT che avevano il passaporto, purché vada la polizia e si faccia rilasciare un permesso di espatrio temporaneo che la polizia comunque è tenuta a concedere a meno che non esistano motivi di forza maggiore. Quindi si tratta effettivamente di una certa liberalizzazione. A questo punto Herman insiste e chiede, dice ma da quando entrano in vigore queste misure? Schabowski, ancora più perplesso, guardandosi intorno con l'aria di chi cerca aiuto da qualche parte e non lo trova, esita un momento e poi risponde, ab sofort, da subito. A questo punto una giornalista americana chiede se le nuove disposizioni valgano anche per il muro di Berlino. Schabowski risponde, il muro di Berlino è una parte del confine intertedesco, quindi effettivamente valgono anche per il muro di Berlino. La conferenza stampa di Schabowski è stata trasmessa in diretta dalla TV occidentale, quindi moltissimi tedeschi dell'est, specialmente berlinesi, che hanno l'abitudine di guardare regolarmente la televisione dell'Ovest, anche se la cosa in teoria sarebbe proibita, sanno immediatamente quello che sta succedendo. Altri lo apprendono invece alle 10 di sera, quando va in onda un telegiornale ufficiale della DDR che riporta in diretta la parte della conferenza stampa in cui Schabowski ha dato l'annuncio. Quindi fra le 8 di sera e soprattutto dopo le 10, migliaia di cittadini cominciano in piccoli gruppi ad andare verso il muro, all'inizio soltanto per curiosità, per sapere che cosa sta avvenendo, anche perché in teoria non potrebbe passare subito, perché anche chi ha il passaporto dovrebbe comunque andare alla polizia, ottenere il permesso e gli uffici della polizia ovviamente a quell'ora sono chiusi. Verso le 11 c'è una grandissima folla, sia a est che a ovest del muro, perché anche all'ovest sanno quello che sta succedendo e migliaia e migliaia di persone affluiscono verso il confine per vedere che cosa succederà. Si comincia a capire che qualcosa di molto grosso sta avvenendo, che la folla non potrà essere trattenuta e infatti, come vedremo domani, siamo già praticamente alla caduta del muro di Berlino. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera su Radio 2. Verso le 11 della sera del 9 novembre, il giorno in cui cade il muro di Berlino, ai varchi nel muro stesso, diciamo, e soprattutto alla Bornholmerstrasse, che sarà quello un po' in cui avverranno gli avvenimenti principali, ormai la folla si è raccolta in dimensioni molto notevoli. La polizia ha sempre più difficoltà a fermarla. A un certo punto si comincia a passare mostrando il passaporto, poi la cosa crea una certa irritazione, perché giustamente qualcuno teme che, visto che la polizia mette sul passaporto, possa, se la situazione politica cambierà, creare delle difficoltà. Quindi la pressione aumenta, alla fine la polizia cede e la folla comincia a uscire da Berlino Oeste verso Berlino Ovest. Inizia così una notte, per definire la quale i tedeschi useranno un aggettivo molto significativo, diranno una notte wanzinnich, che vuol dire pazzesca, impensabile. E in effetti è una notte un po' folle. La gente arriva da tutta Berlino e anche dalla parte dell'Ovest, perché anche all'Ovest si è diffusa la notizia e quindi migliaia e migliaia di persone, anche da quella parte, vengono verso il muro a vedere che cosa sta succedendo. Le due parti della città si incontrano. Si arriva con bottiglie di birra, champagne, vino, si fanno dei brindisi, si balla per strada, si accendono dei falò. Dei giovani salgono a cavalcioni sul muro, davanti alla porta di Brandenburgo, mentre i giornalisti televisivi americani salgono sui tetti delle macchine per piazzare le telecamere in modo che possano riprendere anche quello che sta succedendo dall'altra parte. I cittadini dell'Est sciamano verso l'Ovest e si perdono quasi nella notte di una città che, pur essendo la loro città, loro non conoscono, conoscono pochissimo. C'è un grandissimo traffico di monete da 20 pfenniche. 20 pfenniche erano la monetina che serviva per utilizzare i telefoni pubblici. Allora non esistevano ancora i telefonini. Quindi tutti i tedeschi dell'Est che riescono ad andare all'Ovest cercano di telefonare dall'Ovest ai parenti, amici, conoscenti, persone che non hanno più visto da chissà quanti anni e che avevano avuto molta difficoltà a contattare perché anche telefonare era difficile fra le due Berlino. Cominciano ad arrivare anche persone da lontano. Una di queste persone è il grande violoncellista e direttore d'orchestra russo Rostropovich. Rostropovich il 9 novembre il pomeriggio ha tenuto un concerto a Parigi. Poi la sera è tornato in albergo, ha visto quello che sta succedendo a Berlino, ha telefonato a un amico che ha un aereo privato e si è fatto portare in Germania. Dopo mezzanotte è davanti alla porta di Brandenburgo, prende una sedia e si mette a suonare. C'è un ricordo molto bello che lui stesso ci ha dato di quella serata in cui racconta che all'inizio suonava delle musiche di Bach in tonalità maggiore per commentare, accompagnare la gioia della caduta del muro. Poi a un certo punto gli vennero in mente tutte le persone che erano morte per cercare di fuggire dalla RDT e quindi passò a una tonalità minore. E quando smisi di suonare, raccontava poi Rostropovich, piangevo come un bambino. Nella folla c'è anche un tassista che chiede informazioni a tutti perché vuole andare assolutamente al Van Zee, il grande lago che è alla periferia sud-ovest di Berlino-Ovest. Gli chiedo perché, dice perché quando io ero giovane era molto bello e riuscivamo con i miei amici a vedere le corse, le famose corse che si svolgevano sul Rennweg di Berlino dal treno della Esban. Quindi ho questo ricordo bello, voglio per forza andarci. Dico ma a quest'ora non ha senso, non si vedrà niente. Dice sì, però io voglio andarci perché non so poi domani che succederà, se sarà ancora possibile oppure questo sogno finirà, diciamo. Una signora chiede se per caso le autorità di Berlino-Ovest non abbiano deciso di aprire straordinariamente i negozi e se soprattutto in questi negozi accetteranno i marchi orientali. Un'idea un po' folle visto che ormai siamo in piena notte e che soprattutto nessun negozio dell'Ovest si sarebbe mai sognato di accettare i marchi dell'Est. Ma insomma il clima è questo. La follia sembra propagarsi mescolandosi alla gioia del ritrovamento fra due città che per anni non si sono parlate. All'alba quasi tutti tornano a casa. In fondo il giorno dopo è un venerdì, anzi il giorno stesso ormai è un venerdì e si torna al lavoro. La città diciamo pian piano si svuota, salvo per molte centinaia di cittadini dell'Est che si sono persi nella notte a Berlino-Ovest e non sanno più come tornare perché si trovano in quartieri che non conoscono e non sanno da che parte dirigersi per ritornare verso i marchi del muro. Quindi c'è un momento di quiete. Ma la mattina sul tardi riprende l'esodo verso Berlino-Ovest e si forma una lunghissima fila al checkpoint Charlie perché questa volta i berlinesi dell'Est vogliono passare non a piedi ma con le loro auto. Soprattutto le Trabant, le famose macchinette dell'Est tipiche di tutto il blocco orientale, ma in modo particolare della RDT, piccole, rumorose, puzzolenti che non piacciono tanto ai berlinesi dell'Ovest che se le vedono arrivare in massa. Ad ogni cittadino della RDT quando arriva a Berlino-Ovest vengono dati cento marchi occidentali e con quelli le persone cominciano a entrare nei negozi, a spendere, a formare file per gli acquisti che per anni non hanno potuto fare all'Est. È l'inizio forse dei primi piccoli problemi dell'unificazione che poi verrà, delle prime incomprensioni fra berlinesi dell'Ovest e berlinesi dell'Est, fra tedeschi occidentali e tedeschi orientali. Però a dominare ovviamente è ancora il clima di gioia, il clima di grandissima soddisfazione per la caduta del muro. A Ovest Willy Brandt, presidente del Partito Socialdemocratico, ma soprattutto l'uomo che per anni è stato borgomastro di Berlino-Ovest, festeggia la caduta del muro insieme con Kohl affacciandosi su una grande manifestazione dal balcone di Schöneberg, lo stesso dal quale John Fitzgerald Kennedy tanti anni prima aveva pronunciato la sua famosa frase «Ich bin in Berlina, anch'io sono un berlinese». Brandt pronuncia una frase che dà esattamente la misura di quello che sta succedendo. Torna a crescere insieme e dice ciò che deve stare insieme. Ma va detto che quella notte non proprio tutti sono felici. Chi conosce Berlino sa dove si trova l'ambasciata russa, che all'epoca era ancora ovviamente l'ambasciata sovietica, e alla fine della Hunter de Linden è verso la porta di Brandenburg. Quindi l'ambasciatore sovietico, che non è un uomo di Gorbachev, non è un Gorbacheviano, ma un uomo che fa riferimento alla vecchia guardia sovietica, diciamo così, si vede sfilare sotto gli occhi qualcosa che lo terrorizza. Vede con i propri occhi la caduta del mondo in cui continua a credere. Vede l'assalto al confine fra i due blocchi. E' tempesta di telefonate Mosca e Gorbachev, chiedendo che Gorbachev intervenga presso gli altri leader, quantomeno per protestare per quella che in tutta evidenza è una violazione dello Statuto internazionale di Berlino. Che sia una violazione non c'è dubbio, perché, come è noto, Berlino era divisa in quattro settori e il confine separava i tre settori occidentali dal settore orientale e quindi rappresentava il confine tra il patto di Versailles da una parte e un'entità comunque occidentale dall'altra. Gorbachev si rende conto che la situazione può presentare dei pericoli, è molto perplesso, ma non interviene. Si sa che quella notte ci fu un intenso traffico di telefonate tra il Cremlino, la Casa Bianca e le altre capitali dei paesi occidentali, ma a prevalere alla fine sono i consiglieri di Gorbachev che conoscono la Germania e si sono resi conto ormai che il processo di liberalizzazione e democratizzazione dell'RDT non può essere fermato, in particolare Valentin Fallin. Quindi è quella notte stessa che si getta alla prima base della complicatissima trattativa che si svilupperà nei mesi successivi e che alla fine porterà all'unificazione della Germania. Nella folla che festeggia c'è anche Ghero. Ghero è un giovane, poco meno di 30 anni, e ha alle spalle una storia tipica di quei mesi, di quegli avvenimenti. È arrivato a Berlino-Ovest anche lui dall'Ungheria, compiendo la stessa lunga deviazione intorno al muro che la storia d'Europa ha messo in mezzo a Berlino. Ghero, fuggito attraverso l'Ungheria e poi l'Austria, è finito a Berlino-Ovest nella casa della zia di sua madre, che si trova a Wedding, nel quartiere occidentale di Wedding. Dal palazzo di Wedding, nel quale è ospite, si sale un paio di piani, può vedere la stazione di Pankov, il quartiere dell'est che è immediatamente prospicente, Wedding al di là del muro, canto alla quale stazione c'è il palazzo in cui si trova il suo appartamento, la sua stanza, le sue cose, i suoi libri, i suoi dischi, le cose che ha lasciato per fuggire. Ghero non può telefonare perché la sua famiglia non ha il telefono, dovrebbe rivolgersi a un vicino o una vicina, ma la cosa è abbastanza pericolosa e quindi manda una lettera che viene recapitata a sua madre dalla madre della signora da cui è ospite. La sera stessa Ghero riceve la risposta e la lettera di risposta finisce con una domanda della quale, e mi racconterà poi Ghero, anni dopo lui e la madre ancora ridevano, perché dice noi stiamo bene, siamo tranquilli, e alla fine la madre chiede com'è il tempo da te? Da noi è buono, spero che anche da te il tempo sia buono. Le due case distavano una dall'altra soltanto 500 metri. Anche quella della famiglia B è una storia tipica. La famiglia B è composta da padre, la madre, un figlio maschio e due figlie femmini. Il 13 agosto del 1961 erano tutti a Rimini, in vacanza, cosa abbastanza inusuale per una famiglia della RDT, che avevano, come è noto, non solo molte difficoltà ad uscire dal paese, ma anche grandi difficoltà economiche per i soggiorni all'estero. Però la famiglia B è un po' speciale. Il padre è un medico molto affermato, che esercita a Berlino Ovest, e la madre è una scultrice molto ortodossa, diciamo, molto vicina ai responsabili della politica culturale e artistica della RDT e quindi è una famiglia un po' di privilegiati, il che consente loro di essere in Italia nel momento in cui il muro viene eretto. Subito dopo l'elezione del muro però si pone un problema immediato e difficilissimo da risolvere. Perché? Dove si torna. Se la famiglia torna a Berlino Oest rischia di rimanere prigioniera della nuova situazione che si è creata. D'altra parte trasferirsi tutti all'Ovest significa affrontare chissà quali incertezze. Quindi di fronte a questa scelta così radicale, imposta, come dire, dalla politica mondiale, dalla storia, il padre e il figlio decidono di andare all'Ovest e si trasferiscono da dei lontani parenti in una città dell'Ovest. Mentre la parte femminile della famiglia, cioè la madre con le due ragazze, decide di tornare a Berlino e torna a Berlino dove lei riprende il suo lavoro, la madre, il suo lavoro di scultrice e in poco tempo diventa una delle maggiori autorità nel campo artistico della Repubblica democratica tedesca. Insomma, la famiglia si separa e la madre, quando raccontava questa storia, teneva molto a precisare che non si erano separati perché il rapporto fosse finito, perché ci fossero difficoltà di carattere sentimentale o personale. No, la famiglia si divise soltanto perché era stato costruito il muro di Berlino. Furono in qualche modo, come si può dire, separati della storia. Le figlie, specialmente la più giovane, non accettarono mai questa situazione. Erano molto amareggiate per il fatto che il padre era praticamente scomparso, anche se non aveva voluto poi divorziare e non si faceva più vivo perché il medico, da quando era passato all'Ovest, diciamo, evitava assolutamente di tornare a Berlino, se non per poche ore e in aereo, perché temeva che se avesse fatto il viaggio in auto o in treno avrebbe potuto essere intercettato dalla polizia dell'Est che lo avrebbe potuto accusare di fuga dal paese. Quante furono le storie simili a quelle della famiglia B? Cioè quante famiglie furono divise dal muro? Quanti figli dai genitori? Quanti mariti dalle mogli? Quanti fidanzati dalle fidanzate? Dagli psicologi che hanno compiuto sappiamo che i casi di ricongiungimento furono relativamente pochi. Furono pochi probabilmente perché 28 anni sono lunghi, in 28 anni i figli crescono e dimenticano, in 28 anni i rapporti, anche quelli più consolidati, si logorano e quindi anche questo fu un prezzo diciamo molto personale, molto intimo che la popolazione della Germania Est pagò al muro di Berlino. Con questo vi saluto e vi do nuovamente l'appuntamento domani alle otto della sera La storia della famiglia B è in qualche modo emblematica di una condizione umana generale nella RDT prima della caduta del muro. Come lo è un'altra storia, la storia di un altro giovane, questo si chiamava Jens. Jens veniva da una piccola città sul Baltico, vicino a Stralsund, ed era un giocatore di pallannuoto, un bravo giocatore di pallannuoto, al quale nella sua città tutti attribuivano grandi qualità e prevedevano per lui un grande futuro da sportivo. Tanto che a un certo punto Jens fu convinto dalle sue autorità scolastiche a trasferirsi a Berlino, dove avrebbe potuto militare in una squadra più importante. Quindi Jens arrivò a Berlino con grandissime speranze, cominciò la sua carriera in una nuova squadra più importante e all'inizio dell'89 si presentò la prospettiva di un torneo dal quale la sua squadra avrebbe partecipato e se avesse ottenuto dei buoni risultati avrebbe potuto andare anche all'estero a gareggiare in Francia e in Olanda. Quindi Jens era molto eccitato da questa prospettiva. Inspiegabilmente, inspiegabilmente per lui, però quando fu il momento di definire la squadra, anche se lui era considerato da tutti il migliore, non fu chiamato a partecipare alla trasferta. Il problema era che Jens aveva dei parenti lontanissimi, dai quali lui conosceva malapena il nome, in Danimarca e in Svezia. Ma forse il problema vero era che lui qualche tempo prima aveva rifiutato di prendere certe pilloline che il suo trainer voleva assolutamente che prendesse. Si sa che il doping era una pratica molto diffusa nella RDT e forse la spiegazione più esauriente del miracolo tedesco orientale che portò la Germania Est è avere grandissimi risultati sportivi in una Olimpiade, guadagnare addirittura più medaglie degli Stati Uniti e come si seppe dopo la caduta del muro e dopo l'unificazione con la pratica del doping era stata rovinata la vita di intere generazioni di atleti. Forse Jens non era consapevole di tutto questo, però lui non voleva assumere sostanze che non conosceva. Quindi va dal suo trainer, chiede spiegazioni sul perché non è stato messo in squadra, litiga, c'è una specie di rissa, la polizia lo arresta e chiama a testimoniare tutte le persone che conoscevano Jens. Nella speranza che qualcuno dica che lui si è comportato male, che voleva fuggire all'estero, insomma nella speranza di poter attribuirgli qualche reato tale da mandarlo in carcere. Jens viene rinviato nella sua città dove lui decide che comunque nell'RDT non ci vuole più stare e che fuggirà. E fuggirà come? Fuggirà facendo quello che sa fare, nuotando. Quindi comincia uno bizzarro allenamento quotidiano, passa ogni giorno una o due ore in una vasca piena d'acqua e ghiaccio per abituarsi al freddo del mar Baltico, con la prospettiva un giorno di andare verso il largo, intercettare qualche imbarcazione danese o svedese e farsi portare sulla terra firma. Una prospettiva assolutamente insensata, per fortuna, arriva il 9 novembre e la caduta del muro di Berlino risolve il problema prima che Jens faccia qualche stupidaggine. Arriviamo così al 4 dicembre, un altro giorno decisivo nella vicenda della caduta del muro di Berlino. L'irruzione nella Normanenstrasse. Nella Normanenstrasse, nel quartiere orientale di Lichtenfeld, c'è la sede centrale della Staatssicherheit, cioè la sicurezza di Stato, quella che in sigla, abbreviata, viene chiamata normalmente la Stasi. La sera del 3 dicembre si diffonde la voce che la Stasi, a capo della quale fino a pochi giorni prima, fino a metà novembre, era stato ancora il potentissimo ministro della sicurezza Erich Milke, che poi è stato costretto alle dimissioni, ma si ritiene che continui a manovrare le fila pur essendosi ritirato. Si diffonde la voce che la Stasi stia distruggendo gli archivi, o comunque manipolandoli. Quindi la mattina del 4, dopo un tam-tam notturno che ha toccato tutti i gruppi dell'opposizione e tanti cittadini normali, si forma davanti alla Normanenstrasse una folla considerevole. Non ci sono solo tedeschi dissidenti, come si capirà molto bene poi. Intanto ci sono sicuramente degli agenti della Stasi stessa che contano sulla confusione che si sta creando per rientrare nel palazzo e distruggere effettivamente documenti compromettenti. Ci sono sicuramente agenti del KGB sovietico, preoccupati che qualcuno possa mettere le mani su documenti che provano l'esistenza di una rete di spionaggio sovietica in Germania federale e in Occidente. Ci sono i servizi segreti occidentali della Germania occidentale e ci sono anche i servizi segreti americani. La CIA e l'FBI interessate tutte e due alla possibilità di scoprire nell'archivio, tra gli atti della Stasi, la rete delle spie dell'Est negli Stati Uniti e nella NATO. A un certo punto la situazione precipita. Pare che un funzionario o qualcuno insomma venga visto uscire da una uscita secondaria sul retro dell'edificio con una valigia piena di carte e quindi questo darebbe corpo al sospetto che dentro si stia cercando di distruggere qualcosa o di portare via qualcosa. Quindi la folla forza il cordone di polizia ed entra dentro l'edificio. In un primo momento vengono trovate soltanto delle cose insignificanti. Una montagna di striscioline di carta che sono il prodotto del lavoro delle macchine macina documenti che pare addirittura il giorno prima o nei giorni precedenti erano state mandate a comprare a Berlino Ovest perché quelle in dotazione alla Stasi non bastavano per distruggere tutto quello che c'era da distruggere e sacchi pieni di brandelli di carta. Sacchi pieni di brandelli di carta accumulati in modo un po' burocratico e masochista perché non c'era alcun bisogno di conservarli in quel modo con quell'ordine tant'è che ancora oggi c'è un ufficio speciale a Norimberga che lavora su quel materiale con delle persone che facendo una paziente opera di ricucitura come dei puzzle rimette insieme i documenti. Si calcola che per fare tutto questo lavoro in realtà serviranno 300 anni. Ma poi la folla scende nelle cantine e nelle cantine scopre che cosa veramente è stata la Stasi. Ci sono 170 chilometri di scaffali che contengono 6 milioni di atti, 4 milioni relativi a cittadini della RDT più 2 milioni relativi a cittadini stranieri, molti prevalentemente tedeschi occidentali ma non solo. E soprattutto c'è l'elenco di 180 mila agenti ufficiali regolarmente reclutati e 120 mila IM, Informelle Mitterbiter, ovvero sia spie, spie che la Stasi ha utilizzato non reclutandole ma costringendole a lavorare con il ricatto, con la prospettiva di vantaggi economici o con altri strumenti di pressione. Nell'archivio ci sono quindi 120 mila Informelle Mitterbiter, cioè detto più semplicemente spie. Chi sono? Perché l'hanno fatto? Una piccolissima percentuale lo ha fatto per ragioni diciamo ideologiche, nel senso sono gli zeloti del socialismo che pensavano effettivamente di contribuire al successo del sistema e dello stato della patria di cui si sentivano i cittadini. Ma alla grandissima parte sono persone che sono state costrette attraverso ricatti, ricatti di tutti i tipi, da quelli diciamo economici, a quelli sessuali, a quelli relativi a segreti della vita passata e così via. E tanti che lo hanno fatto semplicemente per un interesse personale anche molto meschino, per qualche soldo in più, per favorire una carriera che magari si era fermata, per superare nella carriera il vicino di scrivania. Questo delle spie, denunzianten, come verranno anche chiamati, degli informelle mitterbiter sarà probabilmente il capitolo più doloroso nell'eredità lasciata dal sistema della RTT. Comunque in ogni caso la vastità e la pervasività dell'archivio è davvero impressionante, non ha confronto con nessun'altra dittatura di nessun altro stato del mondo. Tanto da far sorgere la domanda a che cosa servisse questo incredibile apparato per un paese che aveva una popolazione di soltanto 17 milioni di abitanti. Una risposta in qualche modo me la diede in un'intervista fatta nel 1995 Hans-Jörg Geiger, che era stato uno dei primi funzionari messi al controllo dell'archivio della Stasi e poi sarebbe diventato in seguito presidente del Bundesnachrichtendienst, cioè del servizio segreto della Germania unificata. Geiger disse una cosa apparentemente paradossale ma che probabilmente corrispondeva ai fatti, e cioè l'apparato della Stasi era talmente ampio che in realtà non poteva servire ai suoi scopi istituzionali, e cioè a scoprire i nemici del regime e a compiere indagini su quello che facevano. Funzionava in qualche modo al contrario, e cioè il regime quando si imbatteva in personaggi che davano fastidio o soprattutto ovviamente per motivi politici, perché erano dissidenti, perché contestavano il sistema, ma anche qualche volta per altri motivi, per motivi di concorrenza nel potere o perché si opponevano a certe decisioni che il potere considerava importanti, quando si imbatteva in queste persone, intanto andava a vedere se c'era un dossier nell'archivio che li riguardava, e se non c'era lo costruiva ad arte. Il modo di costruirlo in genere era più o meno sempre lo stesso, si partiva dall'attribuzione di un reato che era il tentativo di fuga illegale dal paese, oppure in qualche caso l'accusa era quella di spionaggio, e anche se la cosa non aveva alcun fondamento, si cominciavano a raccogliere informazioni dappertutto finché non si trovava qualcuno disposto a dire, dicendo la verità o magari dicendo anche il falso, che il tal signore indagato aveva effettivamente complottato contro lo Stato. La teoria di Geiger avrebbe trovato nei mesi successivi molti riscontri. In modo anche questo abbastanza paradossale, corrispondeva comunque alla teoria che sullo stesso argomento formulò un personaggio del tutto diverso, il famoso drammaturgo tedesco orientale Heiner Müller. Heiner Müller parlò di questa sua teoria una sera d'inverno, verso la fine del 92, all'inizio del 93, in un incontro letterario che era stato promosso in un caffè di Berlino Ovest, in teoria per parlare di teatro, in realtà per parlare d'altro. Il problema era che nei giorni precedenti era uscito su tutti i giornali che dall'archivio della Stasi era venuto fuori un fascicolo intestato a un collaboratore informale, quindi a una spia, con il nome di copertura di Heiner o Zement, e Zement era il titolo di uno dei più famosi pezzi teatrali di Müller. Quindi era ampiamente suffragato il sospetto che proprio di Müller si trattasse. Quella sera c'erano molti giornalisti tedeschi che volevano sapere quello che era successo e molti giornalisti stranieri che volevano capire come avesse funzionato il sistema spionistico e come ci fosse capitato dentro, se c'era capitato dentro, un personaggio importante, conosciuto, riconosciuto anche all'estero come Müller. Müller disse, non so se quel Zement sono davvero io, è possibile, perché io ero un personaggio molto noto nell'RDT, avevo contatti diretti con tutti, anche con Honecker, con il Ministro della Cultura, avrò sicuramente parlato con dei funzionari della Stasi, però io non ho mai fatto la spia. Quel fascicolo, in realtà, se esiste davvero, se davvero riguarda me, è stato messo insieme a mia insaputa per danneggiarmi. Sì, però perché il regime avrebbe dovuto danneggiare proprio Heinem Müller? Perché, e qui appunto la spiegazione di Müller in qualche modo riecheggiava l'analisi di Geiger, perché l'apparato gigantesco della Stasi, della Staatsicherheit, almeno negli ultimi anni, non era servito più a controllare i nemici del regime, ma come dire, a catalogare, a mettere in una lista pronta per essere consegnata eventualmente al futuro Stato tedesco, che si immaginava già sarebbe nato dalle ceneri di un'RDT che stava ormai entrando in una crisi senza sbocco, i nemici del regime, i nemici dello Stato in quanto tale, cioè il grande apparato di Milch, non avrebbe dovuto servire a scoprire i nemici del socialismo, ma a scoprire i nemici del potere, di ogni potere. Esponendo questa teoria, Müller era, diciamo, molto compiaciuto di sé, del proprio ruolo, del proprio acume di scrittore anticonformista, che era riuscito a trasbordare fame e onori dalla Germania in bianco e nero della RDT, nella rutilante Germania a colori post-unificata, nella quale c'era un establishment che lo rispettava in quanto scrittore, ma certamente non lo amava. Perché, questo va detto, l'establishment politico, soprattutto l'establishment culturale della Germania occidentale, aveva molti pregiudizi, aveva una stima molto bassa, diciamo così, dell'intellettualità, dell'intelligenza della Germania Est, e soprattutto per quanto riguardava gli scrittori. Quasi tutti gli scrittori della RDT, Christa Wolf, Stefan Heim, Stefan Hermlin, Günther De Bruyne, Hermann Kant, furono piuttosto maltrattati dalla stampa occidentale, che invece era stranamente propensa al perdono quando non si trattava di scrittori e di intellettuali, ma di funzionari o dirigenti industriali, per esempio. Con questo vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 8 della sera, sempre su Radio 2, per una puntata in cui affronteremo, fra l'altro, le difficoltà che subirono gli scrittori, gli intellettuali della RDT e la nascita di quel fenomeno, che verrà poi chiamato la hostalgie. Dunque siamo a Berlino, dopo la caduta del muro, quando inizia un acceso di battito sul ruolo che gli intellettuali avevano avuto, gli intellettuali in particolare gli scrittori, avevano avuto nella RDT. Una scrittrice che fu particolarmente presa di mira, in modo anche qualche volta sgradevole, fu Christa Wolf. All'autrice del Cielo di Visa fu rimproverato di aver compiuto da giovane una delazione, cioè di aver riferito a un agente della Stasi, ma lei sostiene sempre di non aver mai saputo che si trattava di un agente della Stasi. Le opinioni, i discorsi, gli atteggiamenti che dominavano fra i giovani scrittori del gruppo di cui lei faceva parte. Christa Wolf rimasse particolarmente amareggiata da queste polemiche che furono portate avanti dalle pagine culturali del più autorevole quotidiano della Germania federale. Scrisse anche un libro, Wasp Leib, cioè Che cosa resta, nel quale in qualche modo in forma romanzata, ma con tanti elementi autobiografici, cercava di rispondere a queste accuse che considerava ingiuste. Anche Stefan Heim fu trattato piuttosto rudemente, soprattutto quando si trovò, per un caso che certamente non dipendeva da lui, a presiedere la prima seduta del Bundestag eletto nelle prime elezioni federali che riguardano tutta la Germania. Cosa che non andò giù a molti perché lo consideravano un comunista e perché non apprezzavano il partito di cui era espressione, la PDS, un partito che raccoglieva sì l'eredità della vecchia sed, ma che in qualche modo esprimeva anche istanze generiche di sinistra. Non poteva essere considerato Tukur un partito nostalgico del regime. Le accuse a Heim furono particolarmente sgradevoli perché Heim aveva un passato ineccepibile. Era fuggito dalla Germania in quanto ebreo, aveva trovato rifugio prima in Cecoslovacchia e poi negli Stati Uniti, aveva preso la cittadinanza degli Stati Uniti ed era tornato in Germania con la divisa dell'esercito americano, combattendo coerentemente contro il fascismo. Inoltre, quando si era stabilito a Berlino Est, non aveva mai dimostrato un atteggiamento prono al regime. Anzi, al tempo della famosa rivolta del giugno del 1953, aveva scritto anche un libro molto coraggioso in cui prendeva posizione a favore di quanti protestavano. Il libro si chiamava Cinque giorni a giugno. Cose simili avvennero per Stefan Hermlin, De Bruyne, Herman Kant ed altri. Il problema è che, in qualche modo, il clima in Germania era cambiato, diciamo. Alla passione dei giorni della caduta del muro era subentrata un atteggiamento più politico. Dal momento in cui si era risolta la grande questione del che fare, e cioè se procedere sulla strada di una democratizzazione della RDT è qualcosa di simile appunto alla perestroica di Gorbachev, che avrebbe portato alla creazione di uno Stato con un ordinamento liberale che poi avrebbe potuto confederarsi con l'altra Germania, era stata alla fine preferita la soluzione della unificazione subito, e cioè dell'assorbimento praticamente della RDT nella Repubblica Federale attraverso l'articolo 23 della legge fondamentale, la Costituzione provvisoria della Repubblica Federale, che prevedeva che tutti i lender che lo volessero potessero aggregarsi alla Repubblica Federale. Che il clima fosse mutato in favore di una unificazione molto rapida in base all'articolo 23 della Costituzione, e cioè l'assorbimento dei lender della RDT nella Repubblica Federale esistente, era stato già mostrato, d'altra parte, fin dai giorni successivi alla caduta del muro, da molti segnali, il più importante dei quali fu una grande manifestazione che si venne a Dresda il 10 dicembre 1989, manifestazione che in modo molto significativo fu caratterizzata da uno slogan che recitava Wir sind ein Volk, cioè noi siamo un solo popolo, e che era la correzione, diciamo così, dello slogan che era stato usato invece dai dissidenti, dai gruppi che volevano le riforme durante tutto l'ultimo periodo di vita della RDT, e che recitava invece Wir sind das Volk, e cioè siamo noi il popolo. A Dresda, Kohl, che partecipò alla manifestazione con una certa forzatura, perché bene o male la RDT all'epoca ancora esisteva, quindi era strano che il cancelliere dell'altra Germania partecipassse a una manifestazione nella RDT stessa, dicevo in questa manifestazione il mutamento di prospettiva fu molto evidente. La SPD nello stesso periodo, negli stessi giorni, teneva invece a Berlino un congresso un po' surreale, perché era un congresso che doveva occuparsi del nuovo programma fondamentale che avrebbe sostituito il celebre programma di Bad Gottesberg, ma che era completamente spiazzato dagli avvenimenti che intanto erano accaduti. Quindi la SPD è la grave colpa di non capire bene quali fossero gli orientamenti che andavano maturando. Anche quando il suo leader Oscar Lafontaine sollevò molte obiezioni sull'idea che Kohl aveva messo già sul tappeto di andare a una unificazione economica con il cambio fra il marco occidentale e il marco orientale di uno a uno. Un cambio economicamente folle, perché ovviamente il marco occidentale valeva molto di più del marco orientale, aveva un potere d'acquisto molto maggiore, che però era una necessità politica per non dare ai tedeschi dell'est l'idea di venire, per così dire, comprati, per virgolette, dai tedeschi occidentali. Questo mutamento molto rapido dell'opinione pubblica lasciò a tanti settori della società dell'est una situazione di sconcerto e anche in una certa amarezza, perché avevano immaginato tutt'altro, avevano immaginato la possibilità di essere padroni nel loro paese di un processo di riforma che avrebbe portato alla democrazia. Insieme al dibattito sugli intellettuali, anche questo fu uno degli elementi che caratterizzarono quel grande fenomeno psicologico, il cui venne dato il nome di hostalgie, con un gioco di parole, host in tedesco vuol dire est, e quindi in qualche modo la hostalgie sarebbe la nostalgia dell'est. La nostalgia certo non del regime che nessuno o pochissimi rimpiangevano, ma la nostalgia di uno stile di vita, di certe abitudini, di un certo clima, di certi rapporti umani che nella Germania Est erano esistiti e nella nuova Germania ricca e felice, però anche un po' fredda, non esistevano più. Una testimonianza molto felice, molto ben riuscita di questa hostalgie è un film che forse molti ascoltatori avranno visto, perché è uscito, ha avuto un certo successo anche in Italia, che si chiamava Goodbye Lenin. Goodbye Lenin, come chi l'ha visto sa bene, racconta la storia di una donna, una cittadina della RDT molto fedele alla sua patria e al sistema, che la sera della venuta di Gorbachev a Berlino, il 4 ottobre, cade per strada cercando di aiutare il figlio che viene picchiato dalla polizia e rimane in coma per otto mesi. I medici consigliano al figlio, quando si risveglia dal coma, di non fargli avere degli shock troppo forti. E quale shock sarebbe peggiore che lo scoprire che intanto, in questi otto mesi, la RDT è scomparsa, Berlino è completamente cambiata, un mondo non c'è più, il mondo in cui lei ha vissuto non c'è più. Quindi il film è il racconto di come, il racconto anche molto spiritoso, di come il figlio riesca a tenere nascosta questa realtà, la madre, costruendo tutto un sistema artificiale per cui lei può credere di essere ancora nella RDT com'era. Anche se lei probabilmente a un certo punto capisce quando, uscita di casa, per prendere un po' d'aria, vede passare la statua di Lenin portata via da un elicottero e un grande cartellone della Coca-Cola, col logo della Coca-Cola, che viene issato su Alexander Platz. Cosa verissima questa, perché proprio la comparsa di quell'enorme pubblicità della Coca-Cola sulla Alexander Platz, la piazza forse fra le più conosciute di Berlino, quella del romanzo di Dublin, quella in cui si svolgevano le grandi manifestazioni del regime socialista, quella da cui partiva la famosa Stalin Allé, poi diventata Karl Marx Allé ed ora Frankfurter Allé, con i suoi palazzi in stile staliniano. Effettivamente la presenza, l'arrivo di quella pubblicità dette la misura a tutti quanti di quanto rapidamente stesse cambiando il mondo insieme a Berlino. C'è un altro film del quale forse merita parlare, anche se questo credo che sia quasi del tutto sconosciuto in Italia, perché non è stato mai doppiato e anche in Germania non è proiettato molto spesso. Il film si chiama Drehbuch die Zeitung, che può dire sceneggiatura i tempi, ed è un film strano, con una storia strana, che è questa. Nel 1961 un giovane regista della RDT, che si chiamava Winfried Jung, fu incaricato dal Ministero della Cultura di girare un documentario sul primo giorno di scuola dei bambini di un paesino sull'Oder, a una settantina di chilometri a Berlino, che si chiama Golsov. Poi, nelle intenzioni del Ministero della Cultura, Jung avrebbe dovuto continuare a seguire con la macchina da presa questi bambini negli anni successivi, in modo da mostrare con la crescita di questi bambini, poi ragazzi, poi adulti, il progredire del socialismo reale nel primo stato degli operai e dei contadini sul suolo tedesco, come si diceva allora. Jung era un regista bravo e soprattutto molto onesto, per cui effettivamente fece quello che gli era stato chiesto di fare e lo fece in modo sincero. Quindi cominciò a filmare, a riprendere non soltanto gli aspetti positivi, i successi del socialismo, i miglioramenti, il progresso sociale e così via, ma anche gli aspetti negativi, le difficoltà della burocrazia, la solitudine delle persone, l'impossibilità di esprimersi, di avere la vita che tutti volevano, il desiderio frustrato di poter andare all'estero. Tanto che i bambini Ivi Golsov diventò una specie di cult movie per tutti i dissidenti della RDT. When we arrive, sons and daughters, we'll make our homes, on the water, we'll build our walls. Dreadbook di Zeitem diventò un cult movie per i dissidenti, proprio per i motivi che dicevamo prima. Quando cadde il muro, il regista Jung, insieme con la moglie Barbara, ebbe un'idea. con gli ultimi metri di pellicola, ancora in possesso della famosa casa cinematografica dell'Est, la DEFA, decise di andare a cercare di nuovo i ragazzi di Golsov, a questo punto diventati adulti, perché ormai avevano sui 35-40 anni, e vedere che cosa ne era stato di loro. Ne esce dal seguito del film, dalla seconda parte del film, esce un'immagine molto interessante, molto toccante, della vicenda umana dei cittadini della RDT proiettati nella nuova Germania, perché esce l'immagine di persone che non sanno in qualche modo ritrovarsi nel nuovo mondo nel quale sono stati catapultati, che non rimpiangono necessariamente il passato, anzi quasi tutti non vogliono saperne di quello che era stato il comunismo, il socialismo reale, dei rapporti con l'Unione Sovietica, la burocrazia sfissiante, tutte le brutte cose che vogliono dimenticare, ma che nello stesso tempo non riescono nemmeno a vivere in un mondo che ha cancellato completamente una parte della loro storia, una parte del loro vissuto. Il film comincia con una passeggiata di un gruppetto di ragazzi di Golsov, tutti maschi, nel quartiere a luci rosse di Hamburgo e c'è da un lato il compiacimento per quello che vedono, che certamente nella RDT non era uno spettacolo consueto, nello stesso tempo però quasi una difficoltà ad accettarlo, l'idea che in fondo anche il sesso non può essere soltanto l'esposizione di una merce in una vetrina e quindi i ragazzi, gli ex ragazzi, cominciano a parlare fra loro, a ricordarsi delle vicende, degli amori passati e appunto del mondo che è scomparso. Drehbuch die Zeitung affronta quindi in qualche modo quello che molti ritengono, anche a me pare essere, il problema fondamentale che è rimasto irrisolto nella unificazione tedesca, cioè la rimozione. C'è stata in modo molto evidente in Germania una rimozione di una parte almeno del passato dell'Est. È stata un po' la sindrome che uno psicologo di origine polacca che lavora a Berlino ma che conosce molto bene l'Italia e la letteratura italiana chiama la sindrome di Napoli milionaria. Napoli milionaria perché? Perché in Napoli milionaria, nella Commedia di De Filippo, c'è il personaggio principale, è un uomo che è stato prigioniero, che torna dalla guerra quando la guerra ha lasciato da parecchi mesi Napoli e è ancora immerso in quel mondo di dolore, di lutti, di difficoltà, di paura. Per quanto viva invece in una città che vuole assolutamente dimenticare, che ormai pensa soltanto ad arricchirsi e a godersi finalmente la pace raggiunta, non riesce più ad ambientarsi. In effetti c'è un'analogia tra quello che è accaduto in Germania e che in certo modo continua ancora ad accadere rispetto per esempio al muro, alle difficoltà, alle tristezze, alle vicende anche tragiche delle persone e quello che De Filippo immagina accada a Napoli con il personaggio che torna e trova tutto cambiato ma non trova più il posto in cui lui viveva, non trova più se stesso in qualche modo. Di alcuni aspetti di questa rimozione, alcuni aspetti che riguardano anche degli italiani, parleremo domani. Intanto vi saluto e vi do appuntamento domani alle 8 della sera, sempre su Radio 2. Pochi forse sanno che fra le vittime e fra quanti soffrirono per la costruzione del muro di Berlino e per la divisione tra le due Germanie ci furono anche degli italiani. Il caso più clamoroso del quale si ebbe anche in qualche modo notizia riguardava un camionista che si chiamava Benito Corghi, il quale fu ucciso alla frontiera intertedesca fra la Baviera e la Turingia, fu ucciso dalle guardie di confine della RDT. La storia è una storia molto drammatica perché Corghi era un militante del Partito Comunista e quindi era molto ben disposto per le posizioni del PC di allora, siamo negli anni 70, verso la RDT e il campo socialista come si diceva. Lavorava per le cooperative emiliane e un giorno che si trovava a portare delle merci dalla Germania federale nella RDT attraversò il confine in un passaggio di frontiera appunto fra la Baviera e la Turingia. Appena aveva passato il posto di controllo e si trovava già col suo camion nella zona di nessuno, si ricordò, si accorse, che aveva lasciato dei documenti nell'ufficio della Dogana. Quindi, poiché era molto complicato fare manovra col camion, pensò di scendere e di tornare a piedi verso il confine che aveva già passato. Era una cosa proibitissima, ma lui evidentemente non lo sapeva. Scesa dal camion e cominciò a camminare. Con l'altoparlante i poliziotti di frontiera gli segnalarono più volte che stava facendo una cosa illegale, ma lui non capiva il tedesco e quindi non si rese conto della situazione. A un certo punto uno dei poliziotti prese la mira, sparò e lo colpì nel petto. Corgi morì sul colpo. Qualche anno dopo, dopo l'unificazione, a me capitò di assistere al processo che fu fatto contro il poliziotto che aveva sparato. C'erano la vedova e il figlio di Corgi, cui le autorità della RDT a suo tempo avevano cercato di proporre qualche compensazione, offrendo al figlio di studiare gratis in un'università della Germania Est e alla vedova una somma di denaro, ma non avevano accettato. L'agente di polizia, imputato dell'omicidio, stette tutto il tempo con la testa china, non rispose quasi alle domande del giudice, rispondeva soltanto con dei sì e con dei no e alla fine però fu assolto. Ebbe una pena, se non ricordo male, molto mite, soltanto l'ufficiale che lo comandava, che era stato colui il quale gli aveva ordinato esplicitamente di sparare. Questa assoluzione, diciamo, e questa condanna molto mite non furono un fatto isolato. In genere, in tutti i processi che si svolsero dopo l'unificazione a carico di poliziotti che avevano sparato ed ucciso, questi processi si conclusero quasi tutti con delle assoluzioni. Il motivo è che la magistratura tedesco federale considerava che i poliziotti a suo tempo, i poliziotti della DDR, avessero agito obbedendo a delle leggi di uno Stato che comunque era esistito e quindi avessero avuto in qualche modo il diritto anche di sparare. Questo giudizio cambiò alquanto qualche anno dopo, intorno al 95-96, quando nell'archivio della Stasi fu trovato un documento sul quale era scritto espressamente che, per ordine esplicito di Milke, il ministro per la sicurezza dello Stato e dello stesso Honecker, andavano addirittura premiati i poliziotti che impedivano, anche con l'uso delle armi e anche uccidendo, la fuga di cittadini della RDT attraverso il muro alla frontiera inter tedesca. Corgi non fu l'unico. Ci furono anche altri italiani che soffrirono, anche se non in modo così tragico e definitivo, le conseguenze della costruzione del muro e della divisione inter tedesca. Benito Corgi fu, per quanto se ne sa, l'unico italiano ucciso negli anni del muro e del confine inter tedesco. Ma ci furono altre vittime italiane, almeno una delle quali dovrebbe essere ricordata, mentre la sua memoria è praticamente scomparsa nelle celebrazioni ufficiali. Parliamo di Elena Sciascia, una studentessa universitaria che nel 1973 fu scoperta mentre stava lavorando al progetto di fuga da Berlino-Est di una sua amica. Elena fu catturata, condannata a sette anni di carcere e inviata prima nella prigione di Bautzen, una prigione tristemente famosa del trattamento che subivano le persone recluse, che si trova vicino all'Ipsia, e poi in quella di Hohenschönhausen a Berlino. In queste due prigioni Elena subì maltrattamenti tali, vere e proprie torture, che una volta liberata, e fu liberata in un modo molto particolare, fu venduta praticamente dall'autorità della RDT alle autorità della Germania federale, con una prassi consueta all'epoca e sulla quale vedremo dei particolari più tardi, diceva che aveva subito maltrattamenti tali che poco dopo la sua liberazione ebbe un ictus cerebrale che avrebbe rovinato il resto della sua vita. Anche Mimmo VI e Luigi Spina, due studenti italiani all'Università di Berlino-Ovest, che ebbero un momento di notorietà negli anni 60 e la cui vicenda ispirò addirittura a un film americano, avevano agito esattamente un anno dopo l'elezione del muro, quindi nel agosto del 1962, per aiutare dei loro amici dell'Est. I due, con l'aiuto di altre persone, scavarono un tunnel lungo 120 metri che dalla cantina di una casa della Schönholzerstrasse all'est conduceva in uno stabilimento abbandonato nella parte occidentale della Bernauerstrasse. Il tunnel funzionò per poche settimane e permise il passaggio di un'ottantina di persone e fu uno dei tantissimi passaggi sotterranei che in quegli anni vennero realizzati sotto il confine intertedesco, come quello reso famoso dal libro di Ian McEwan, Lettera a Berlino. Un tunnel molto particolare fu quello che venne scavato sotto il grattacielo della casa editrice Springer, una casa editrice legata alla destra tedesco federale, che era stato edificato proprio a ridosso del muro, in modo tale da rendere più facile la realizzazione dei tunnel. Altri italiani furono molto più sfortunati di Mimmo Sesta e Luigi Spina. Un certo Graziano Bertussin, per esempio, si prese dieci anni di carcere per aver fotografato, in circostanze che la polizia ritenne sospette, l'ambasciata del Vietnam. Il sardo Pietro Porcu fu catturato mentre incontrava un'amica che voleva aiutare a fuggire. Il siciliano Ernesto de Possilis fu condannato per aver calunniato lo stato degli operai e dei contedini. Una vicenda molto particolare è quella che toccò a un altro italiano, del quale non fu mai reso pubblico il nome, che venne prima arrestato e poi espulso perché si era permesso, per così dire, di avere una relazione sentimentale con la figlia di Walter Ulbricht. Tra l'altro la figlia di Ulbricht non si riebbe mai dalla rottura della relazione e morì alcolizzata nell'appartamento in cui viveva da sola a condizioni di estremo degrado, pochi mesi dopo la caduta del muro. In nessuno di questi casi, come già era accaduto per Curghi, la reazione delle autorità italiane fu adeguata. C'è da dire che la reazione delle autorità ufficiali italiane alla repressione che aveva colpito anche alcuni cittadini italiani non fu mai molto dura, molto severa. L'atteggiamento italiano verso la divisione tedesca era un atteggiamento che aveva un largo margine di ambiguità, che fu testimoniato da una famosa gaff diplomatica di Giulio Andreotti, all'epoca ministro degli esteri, il quale in una riunione pubblica dell'Unione Europea, anzi all'epoca era ancora la comunità europea, tirò fuori una frase che fece molto irritare i tedeschi. Disse più o meno, la Germania mi piace tanto che sono contento che ce ne siano due. In quel periodo, infatti, l'Italia stava anche cercando di allacciare le relazioni diplomatiche con la Germania democratica e quindi non aveva molto interesse a porre questioni di principio neppure in difesa dei propri cittadini. D'altra parte l'atteggiamento italiano era comune a buona parte d'Europa, ma a parte forse la Gran Bretagna, anche gli altri grandi paesi europei, erano piuttosto ostili in linea di principio all'idea dell'unificazione, che peraltro negli anni settanta sembrava un'ipotesi comunque molto remota. Soltanto gli Stati Uniti, tutti ricordano il famoso discorso di Kennedy dal balcone del municipio di Schoeneberg quando disse che vina in Berlina, anch'io sono un berlinese, o l'invito fatto da Reagan a Gorbachev, sempre a Berlino, quando disse signor Gorbachev abbatta questo muro, dicevo soltanto gli Stati Uniti mantennero sempre ferma la posizione che era anche quella, almeno in teoria, ufficiale della Germania federale, che il fine della politica tedesca doveva essere la riunificazione delle due parti del paese diviso. In Germania occidentale, nel stesso periodo, era in atto la Ostpolitik di Willy Brandt, e cioè il tentativo di avviare una distensione con l'altra Germania, ma soprattutto con tutto il blocco dei paesi socialisti, a cominciare dall'Unione Sovietica, e si fece strada, per quanto riguardava i rapporti intertedeschi, l'idea non tanto della unificazione politica, quanto quella del ricongiungimento, come si diceva, tramite avvicinamento. Era una posizione sostenuta in modo molto forte da Egon Barr, che era un po' l'ideologo della Ostpolitik, della politica estera di Willy Brandt, e prevedeva che si arrivasse a una democratizzazione del regime dell'Est, che avrebbe trasformato la Germania orientale in un paese sempre indipendente, ma comunque con una struttura politica di carattere democratico e liberale, e a quel punto si sarebbe andati a una confederazione fra i due stati tedeschi. A queste spinte, diciamo, distensive, Berlino Est rispondeva con atteggiamenti molto oscillanti, si andava da aperture anche abbastanza significative, come furono quelle del 73, quando a Berlino Est fu organizzato un festival della gioventù, nel quale i tedeschi permisero che arrivassero giovani da tutta Europa, anche di orientamento politico non comunista, non di sinistra, all'applicazione degli accordi di Helsinki del 75, quando fu aperto un centro stampa, lo stesso in cui poi avrebbe parlato Chaboschi, avrebbe annunciato la caduta del muro, con facilitazioni per i giornalisti stranieri e altre manifestazioni di cauda liberalizzazione, cui seguivano però regolarmente dure chiusure, come per esempio la sottrazione della cittadinanza a un famoso cantautore e scrittore dell'RDT che si chiamava Wolf Biermann, che fu privato della cittadinanza dell'RDT mentre si trovava in tournée nella Germania federale e la cosa suscitò un'ondata di proteste senza precedenti nel 76. Dopo l'avvio della perestroica da parte di Gorbachev a Mosca, la chiusura diventò ancora più rigida. Delle chiusure del gruppo dirigente dell'RDT nei confronti della perestroica di Gorbachev ho un ricordo personale anche abbastanza grottesco. C'era la visita di una delegazione del PC nell'87 con il segretario del partito Alessandro Natta. Durante il pranzo ufficiale offerto da Honecker a me capitò di parlare con Herman Aksen, autorevolissimo esponente del polituro della SED. Io non sapendo bene che argomento sollevare gli dissi, dico, beh certo qui a Berlino state facendo un gran rinnovamento. Alludevo però al rinnovamento urbano che in quei giorni, in occasione del 750esimo anniversario della fondazione della città, le autorità cittadine di Berlino stavano compiendo con l'inaugurazione di nuovi quartieri, il restauro di monumenti, di chiese e così via. Aksen però fraintese evidentemente le mie parole e pensò che io mi riferissi alla perestroica di Gorbaciov e quindi rispose in un modo molto duro e molto pesante dicendo no, questo che stai dicendo è sbagliato perché qui nella RDT non abbiamo bisogno di cambiare la tappezzeria. Da noi, a differenza che in altri paesi va tutto bene, il nostro gruppo dirigente è solido e non prenderemo la via di una politica che porterà il paese allo sfascio come invece stanno facendo altri. Era evidentissimo. l'allusione a Gorbaciov. La visita di Natta si concluse in un clima ancora più freddo di quello che si era registrato alla partenza. Non ci fu nessun documento con una presa di posizione comune come in genere si faceva negli incontri fra partiti comunisti e più tardi lo stesso Natta dovette fare un po' di autocritica perché la scelta del momento in cui si era deciso di andare a Berlino Est era stata del tutto improvvida. Infatti l'inverno dell'87 quando avvenne la visita era proprio il momento in cui più clamoroso e più aperto si andava facendo il divario fra le posizioni di Berlino Est e quelle di Mosca e quelle di Gorbaciov alle quali evidentemente il PC guardava con una certa simpatia. La cosa fu anche oggetto come seppi molti anni dopo di un documento che la fondazione che era dietro diciamo appoggiava finanziava e forniva materiale a Radio Free Europe la radio di propaganda americana in Europa e l'Europa dell'Est di un documento appunto di questa fondazione in cui si metteva in evidenza che c'era una chiara distinzione tra le posizioni del Partito Comunista Italiano e quella degli altri partiti comunisti che era stato un errore la visita di Alessandro Natta e si citava in modo positivo i commenti che sull'argomento aveva fatto l'unità. Per oggi finiamo qui e ci risentiamo lunedì alle otto della sera sempre su Radio 2. La rimozione psicologica del passato che ha un po' riguardato l'atteggiamento dei tedeschi dell'Est e anche dell'Ovest riguardo alla divisione della Germania e soprattutto di Berlino ebbe anche degli aspetti fisici per così dire che consistettero nella rimozione quasi completa del muro. Chi è andato a Berlino negli ultimi tempi sa che del muro è rimasto ben poco e in qualche punto ci sono ancora dei resti ma minimi. La stessa idea di tracciarlo sull'asfalto delle strade per ricordare almeno dov'era non è stata poi messa in pratica. C'è un solo punto in cui della fisicità del muro di Berlino si è ancora una percezione abbastanza immediata ed è il Checkpoint Charlie soprattutto grazie al museo del Checkpoint Charlie. Si tratta di un museo molto molto particolare. Intanto è un museo privato che fu diretto e anzi fu realizzato personalmente da un vecchio professore che si chiamava Kildebrandt e che dedicò praticamente la sua vita a raccogliere le testimonianze del muro e dei metodi di fuga che i berlinesi dell'est utilizzavano per andare all'ovest. Questi metodi di fuga erano i più vari, c'era di tutto, ci fu chi si costruì addirittura un aereo in casa, chi aveva inventato una tuta da palombaro con la quale poteva camminare sul fondo della sprea, molti che tentarono la fuga in aerostato, anzi proprio la penultima persona che morì in tentativo di fuga stava cercando di raggiungere Berlino ovest in pallone. Ma il professore Kildebrandt un giorno a un gruppo di giornalisti stranieri, perché con i tedeschi non parlava molto, era un po' in polemica, raccontò il modo forse più originale con il quale le persone fuggivano. Il metodo era questo, come si sa Berlino era divisa in quattro settori e il settore orientale, quello sovietico, era impenetrabile da parte di coloro che abitavano nel settore occidentale, ma questo non valeva per i militari. I militari avevano il diritto di passare da settore a settore senza alcun particolare controllo, era uno degli accordi presi a suo tempo a Potsdam. Quindi gli americani andavano molto spesso a Berlino oest attraversando il confine al checkpoint Charlie. Quando i presidi sovietici sul confine furono sostituiti da quelli tedeschi, gli americani decisero di non riconoscere l'autorità di controllo di questi poliziotti tedeschi che erano stati messi al confine perché non riconoscevano l'autorità dell'ARDT. Quindi ai militari americani fu dato l'ordine di non considerare assolutamente la possibilità di fermarsi o di parlare con i poliziotti dell'Est. Dovevano attraversare il confine mostrando i documenti militari, quelli sì, i gradi sulla divisa e poi far come se gli interlocutori non esistessero, come se nessuno li avesse fermati, come se davanti a loro ci fossero dei fantasmi e soprattutto non dovevano parlare, non dovevano rispondere ad alcuna domanda. I tedeschi, d'altra parte, che questa situazione non accettavano, facevano di tutto, qualche volta anche un po' divertendosi, per provocare gli americani e costringerli a parlare. Di questo bizzarro balletto berlinese, diciamo così, ci fu qualcuno che pensò di approfittare per organizzare delle fughe. Allora si trovò un sistema, si può immaginare quale, per rubare le divise dei soldati americani che andavano all'Est, i quali venivano portati in locali in cui si vedeva molto e non solo. Poi, approfittando dello stato di incoscienza dei poveri malcapitati, si rubava la divisa, la si metteva addosso a un tedesco dall'Est che voleva fuggire e il tedesco rientrava, cioè anzi andava all'Ovest con questa divisa americana e non avendo l'obbligo di rispondere alle domande né di fermarsi se qualcuno cercava di fermarlo, passava tranquillamente. Gli americani, va detto, non rischiavano nulla le vittime americane perché una volta che si facevano riconoscere poi venivano portati alla comandatura sovietica ed è qui riaccompagnati all'Ovest. Di questo particolare modo di fuggire dall'Est fu vittima un sotto ufficiale dell'aviazione americana che si chiamava Tom. Tom, un giorno insieme con un gruppo di commilitoni, decise di fare un giro a Berlino-Est per andare a vedere i musei. Era una giornata di primavera e lui aveva un pullover sul quale erano cuciti i gradi. Quindi passarono il confine al checkpoint Charlie e poi con l'auto militare fecero un giro della città. A un certo punto Tom, mentre i suoi amici decidono di tornare a Berlino-Ovest, lui vuole trattenersi ancora un po', però a caldo e quindi chiede ai commilitoni se può affidare loro il maglione sul quale, ricordiamo, erano cuciti i gradi. Loro accettano, prendono il maglione e Tom rimane praticamente in camicia a Berlino-Est. Quando torna al checkpoint Charlie per rientrare all'Ovest si trova in una situazione imbarazzante. Dai registri della polizia del posto di frontiera risulta che è entrato un sotto ufficiale americano con i gradi e che pretende adesso di uscire un americano qualsiasi o almeno uno che dice di essere americano in camicia senza gradi. E quindi lo arrestano, anche perché probabilmente i poliziotti avevano già avuto qualche sentore a quel punto che c'era un traffico di divise fra l'Est e l'Ovest. Tom, fedele alle consegne, fa finta di non capire il tedesco e rifiuta di parlare con le persone che lo arrestano. Quindi si fa portare in carcere, resta muto per quattro giorni, il quarto giorno non ce la fa più, si qualifica come cittadino americano e chiede di essere portato dalle autorità militari sovietiche. Alla comandatura sovietica finalmente con il telefono riescono ad accertare la sua identità e lo riconsegnano all'Ovest. Quando raccontò questa storia insieme al vecchio professor Hildebrandt, Tom un po' si vergognava perché pensava di non aver fatto una gran bella figura, però va detto che dalle testimonianze dello stesso professor Hildebrandt che aveva evidentemente studiato la materia, furono qualche decina, forse anche più di un centinaio, i militari americani che si trovarono in condizioni simili. Questo è il racconto di una delle tante stranezze che accadevano intorno al muro di Berlino, causate dalla divisione della tragica divisione della città, ma anche dalla stolidità, certe volte, della burocrazia delle quattro potenze occupanti e dei due stati tedeschi. Torneremo su queste stranezze più in là. Ora vorrei invece tornare a quanto venne scoperto nell'archivio della Stasi. Per vedere alcune delle storie più indicative, diciamo, che uscirono dai 6 milioni di dossier e dai circa 300 mila nomi che giacevano nell'archivio, che furono scoperti dopo le irruzioni nella Normanenstrasse. Forse il più celebre dei collaboratori informali, degli informelle mitarbeiter, così erano chiamati, in realtà erano vere e proprie spie, fu Ibrahim Böhme. Era un personaggio importante perché Böhme era stato addirittura il candidato alla guida del governo della RDT nelle prime e anche ultime elezioni libere che si tennero nel paese prima dell'unificazione il 18 marzo del 1990. Quindi il fatto che si scoprì che era stata una spia fece molto rumore. Io ho ancora davanti agli occhi una foto di Böhme comparsa su un giornale di Berlino, la Berlina Zeitung, un accompagnamento di un'intervista che fu pubblicata nel settembre del 1999. L'intervista si chiamava, era intitolata, Genosse Judas empfängt nicht, cioè il compagno Giuda non riceve. Böhme appare, nella foto appare invecchiato, dimesso, con l'aria molto triste, coperto da una vestaglia consunta, fissa gli occhi nel vuoto ed è appoggiata a una parete spoglia che si immagina la parete di una casa altrettanto squallida, altrettanto vuota. Attaccato al muro c'è un santino di Carlo Marx. E' da alcuni anni che Ibrahim Böhme vive, siamo nel 99, chiuso in quell'appartamento del Prenzlauerberg, un quartiere centrale di Berlino. E' malato di cuore, ma non è questo il motivo per cui non riceve più nessuno a casa. L'immagine della foto è esattamente il contrario dell'immagine che di Böhme conservava chi come me lo aveva conosciuto personalmente. Böhme era infatti un uomo brillante, un bravo conversatore, un uomo che sapeva muoversi, che sapeva commuovere le platee dei suoi comizi. Era stato il capo riconosciuto della SPD dell'Est e sarebbe diventato il capo del governo della RDT se, come quasi tutti ritenevano, i socialdemocratici avessero vinto le elezioni del marzo 90, cosa che invece non avvenne. La sua biografia pare uscita dalla penna di uno scrittore dell'Ottocento. Böhme era un trovatello, veniva da una famiglia ebraica che era scomparsa, molto probabilmente inviata in un campo di sterminio. Il suo vero nome era Manfred Otto e nel 1947 l'orfanotrofio in cui si trovava all'Ipsia lo affidò alla famiglia di un certo signor Böhme, del quale lui prese il cognome. Böhme dimostrò fin dalla tenera età di essere un ragazzo brillante negli studi. Fece una brillantissima carriera scolastica, diventò ricercatore universitario in letteratura tedesca e all'inizio degli anni 60 la SED, come faceva spesso con dei giovani particolarmente brillanti sotto il profilo intellettuale, lo prese sotto tutela e cominciò a favorire i suoi studi. Però a metà degli anni 60 Böhme si lega alla dissidenza contro il regime. Diventa amico di Robert Haveman, forse il più famoso dei dissidenti della RDT, nel 65 viene addirittura arrestato, nel 67 viene espulso dalla SED, nel 68 viene arrestato di nuovo, sconta diversi mesi in prigione. Quando esce diventa un organizzatore di gruppi politici, appoggia il movimento di Solidarnosc in Polonia e comincia ad essere considerato con molta attenzione dai dirigenti della SPD dell'Ovest. Lo stesso Willy Brandt lo prende in simpatia e favorisce la sua ascesa alla guida della SPD orientale. Ora non si sa quando e come in questa biografia all'apparenza così pulita sia entrata la Stasi. Probabilmente Böhme è stato oggetto di un ricatto, ma non si sa quale ricatto. Si sa però che a metà degli anni 70 figura già negli elenchi degli formatori non ufficiali delle spie con il nome di Manfred, che poi in fondo era il suo vero nome. Ricordo l'ultima volta in cui mi capitò di vedere Böhme in pubblico e fu anche l'ultima volta in cui lui comparve in una manifestazione pubblica prima di essere smascherato. Fu la sera del 17 marzo del 1990, proprio alla vigilia delle elezioni nella RDT. La SPD in un albergo di Berlino Ovest, il Seehof, aveva organizzato una specie di festeggiamento anticipato. Infatti tutti erano convinti che i socialdemocratici avrebbero vinto contro una CDU che appariva in difficoltà, che non era radicata storicamente nelle regioni dell'Est e che era stata scossa anche da alcuni scandali recenti, sempre riguardanti lo spionaggio. Quindi alla Seehof c'erano molti giornalisti. Però Böhme non appariva il solito Böhme, era come distratto, incupito. Aveva perfino cambiato un po' aspetto fisico, si era fatto uno strano riportino che copriva una stempiatura che era invece un po' un aspetto tipico della sua figura fisica. Forse presaggiva quello che gli stava cadendo addosso. Le prime indiscrezioni sull'attività di spia di Böhme arrivano in TV la sera del giorno dopo, proprio la sera dei risultati elettorali, insieme con il disastro della SPD, la delusione di Willy Brandt e il trionfo di Helmut Kohl. Lui smentisce e il telegiornale dà notizia della smentita. Dice che sono tutte cose inventate, che non ne sa niente, che lui è assolutamente innocente. C'è da dire che in un primo momento gli credono tutti. Soltanto una persona mostra subito di credere invece che la storia sia vera. Si tratta di Rainer Kunz, poeta e letterato in cui la stasi ha rovinato la vita grazie alle indiscrezioni sulla sua vita privata fornite da un informatore informale con il nome di copertura di Lyric, Lyrica. Kunz capisce che da alcuni particolari capisce che Lyric non può che essere Böhme. Allora fa un giro di telefonate a tutti gli altri dissidenti che conosce, ex dissidenti, Jürgen Fuchs, Ullmann, Watz e soprattutto i coniugi poppe, dei quali parleremo più avanti. In una settimana, proprio da chi gli era stato più vicino, contro Böhme arrivano testimonianze inequivocabili. Il compagno di lotta, l'uomo per il quale si è finiti anche in prigione, quello a cui molti avevano affidato i figli quando venivano arrestati dalla stasi. Quello che tutti chiamavano il nostro piccolo re in realtà è un giuda. La cosa che amareggia di più le persone che l'hanno conosciuto e che sono state in qualche modo vittime del suo tradimento è il carattere assolutamente personale di questo tradimento, l'aspetto più umano, più che quello politico. C'è una frase che i poppe non perdoneranno mai a Böhme e si trova in un rapporto della fine degli anni 70, in cui Böhme dice al suo ufficiale di collegamento nella stasi, credo di essere entrato in confidenza con i poppe e ora potrò fornire anche circostanze sulla loro vita privata, cosa che effettivamente poi avrebbe fatto. Dopo tutte queste rivelazioni, Böhme cessa di difendersi e scompare. Se ne riparlerà brevemente a metà degli anni 90, quando verrà evocata l'ipotesi di una sindrome schizzoide da cui sarebbe stato affetto e che sarebbe stata causata dal suo stato di bambino abbandonato dai genitori e allevato da un estraneo. Nell'intervista del 99 Böhme continua a sostenere di non aver tradito nessuno, ma nella cassetta c'è la sua voce, obietta l'intervistatrice. Sì, risponde lui, la voce è mia, ma io non ho mai detto quelle cose. Anzi, ho scritto un libro per discolparmi, ma questo libro nessuno lo vuole pubblicare. L'intervistatrice dice, io il libro l'ho letto e mi ha colpito il fatto che lei non dica mai io. E Böhme risponde, sì, non dico mai io perché non mi piace che la gente si avvicini troppo a me. Ho ottenuto quell'intervista e quella fotografia per settimane sulla scrivania perché pensavo di fare anch'io un'intervista a Böhme, o almeno di provare perché ero quasi certo che non avrebbe voluto parlare. Era ancora lì quando, dopo qualche mese, lessi su un giornale, ma poco più di un trafiletto, che Ibrahim Böhme era morto. La figlia, qualche mese dopo, raccontò in un'intervista televisiva che Böhme era morto di infarto da solo in un appartamento di Neustrelitz nel quale era andato ad abitare. Con questa nota di tristezza vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera, sempre su Radio 2. Tra le storie che uscirono dall'archivio della Stasi e che in qualche modo rendevano evidente, percepibile la tragedia che era stata la divisione del muro e anche la presenza di un apparato repressivo che entrava nella vita delle persone senza alcuna pietà, senza alcuna considerazione dei fattori umani, abbiamo visto quella di Böhme, Ibrahim Böhme, che era il dirigente della socialdemocrazia dell'Est, che fu smascherato come spia proprio nelle ore in cui si svolgevano le prime elezioni libere nella RDT, nelle quali avrebbe potuto anche diventare capo del governo del paese. Non so perché la storia di Böhme mi colpì tanto, c'era sicuramente un elemento di pietà per la fine triste dell'uomo, ma c'era anche un certo fastidio per l'accanimento con cui il traditore Böhme era stato stanato e condannato, mentre altri, in fondo non meno colpevoli, giravano indisturbati per la nuova Germania e magari davano giudizi su se stessi e sugli altri come se nessuna responsabilità gravasse sulle loro spalle. Come ad esempio Günther Szabowski. Szabowski, come ricorderete, era stato il portavoce della SED che la sera del 9 novembre aveva dato, probabilmente senza nemmeno accorgersene, l'annuncio fatidico della caduta del muro. La stessa stolida arroganza che aveva avuto quando era un esponente del regime, Szabowski dimostrò anche dopo, quando passò dall'altra parte, come se non avesse lui niente da rimproverarsi, come se gli avvenimenti lo avessero scavalcato e non riguardato. Böhme certo aveva una colpa molto grave, che non poteva essere perdonata, aveva tradito i suoi amici, li aveva venduti, però credo che non fosse della stessa pasta di Szabowski e di altri. Lui la sua colpa in fondo l'aveva pagata. Era l'emblema, il rappresentante di un'altra Germania rispetto a quella degli arroganti che facevano finta di niente. Era l'emblema della Germania che nega, che rimuove insieme con il passato anche le responsabilità e che lo fa senza innocenza, avvoltolandosi nel senso di colpa come in un denso fango che la storia ha spalmato sul paese. Szabowski invece, quelli come lui, facevano venire in mente la generazione dei vecchi tedeschi che rivendicano un'innocenza che non hanno. Quelli che dicono io non sapevo, io ho solo obbedito agli ordini. Quelli che il famoso processo di Auschwitz degli anni 60, quello in cui furono rese pubbliche tutte le testimonianze, tutte le prove dell'olocausto, quelli che vissero quel processo come una stranezza oltre come un'ingiustizia. Ma di che cosa stiamo parlando? Sono passati tanti anni i pribche che non capiscono perché qualcuno li voglia in carcere da vecchi per una cosa accaduta più di 60 anni fa. Invece lo sguardo perduto, un po' da matto, di Böme faceva pensare ad altri vecchi, quelli la cui vita era cambiata del tutto, quando i figli o magari i nipoti gli avevano chiesto e tu? Tu dove eri? Che hai fatto? I tedeschi per i quali, secondo una formula che ha avuto una certa fortuna nel dibattito sulla cultura della Germania, il passato non passa perché il passato in qualche modo continuano a portarselo dentro. Il passato che non passa. Si sa che questo dibattito, diciamo questa problematica fu evocata in relazione al nazismo, ma in qualche modo se i tedeschi i conti non riuscirono a farli con Hitler non sono neppure riusciti a farli con la Stasi. Anche se la vicenda, diciamo, è stata certamente diversa perché non è stata bagnata dallo stesso sangue. Nel 1999 uscì un'intervista simile a quella della Berlina Zeitung a Böme. Stavolta il personaggio era Wolfgang Schnur e il giornale il Tage Spiegel. Mi colpì leggendo questa seconda intervista una analogia alla quale non avevo mai pensato, nemmeno all'epoca dei fatti. Come Böme, Schnur era stato in orfanotrofia. All'inizio della loro esistenza e nei mesi decisivi della svolta del paese in cui erano cresciuti, cioè negli anni 40, quando era stata fondata la RDT, i due avevano avuto un destino straordinariamente simile. Come Böme, anche Schnur fu, diciamo, messo sotto tutela dalla sede quando i suoi dirigenti si accorsero che era un giovane particolarmente brillante negli studi. Lo fecero studiare e lo fecero diventare avvocato e da avvocato Schnur ebbe la licenza per l'esercizio della professione, una delle pochissime licenze private che esistevano nella Germania orientale. Quando fu rintracciato dal Tagesspiegel, Schnur aveva 55 anni e lavorava in un paesino del Brandenburgo in cui un milionario dell'Ovest aveva comprato una grande proprietà che era appartenuta un tempo all'Armata Rossa e lui lavorava come consigliere giuridico di questo tedesco occidentale. L'inviato del Tagesspiegel lo trovò in una villa che era appartenuta a Hermann Göring, il famoso maresciallo dell'aria di Hitler, del quale campeggiava nella stanza accanto a quella dove lavorava Schnur, un grande ritratto. Schnur, a differenza di Böme, non negava l'evidenza. Ammetteva di aver lavorato per la Stasi. Raccontò che aveva prestato il suo giuramento segreto quando aveva soltanto ventun'anni. Quattro anni prima, quindi da ragazzo, aveva tentato di riallacciare un rapporto con la madre naturale che aveva rintracciato a Berlino-Ovest, ma lei non l'aveva voluto con sé. Questo fatto disse aveva segnato del tutto la sua vita. Come avvocato Schnur aveva difeso praticamente tutti i più importanti esponenti della dissidenza. Inoltre era particolarmente legato alla Chiesa Evangelica, della quale fu negli anni settanta vicepresidente del sinodo episcopale. In questo ruolo Schnur aveva stretto un rapporto con il direttore del collegio pastorale di Berlino e del Brandenburgo, il pastore di Templin, Horst Kastner, il quale aveva una figlia. La figlia era una ricercatrice universitaria di fisica che, a differenza del padre, aveva una passione per la politica, anche se, va detto, non fu mai una persona impegnata direttamente in attività politiche né veniva considerata appartenente ai ranghi della dissidenza. La donna si chiamava Angela Merkel ed è l'attuale cancelliera della Germania federale. Fra la fine dell'89 e il 90 Schnur la prese con sé come addetta stampa del gruppo che intanto aveva fondato, che si chiamava il Demokratischer Aufbruch, il risveglio democratico, che era particolarmente sostenuto all'ovest dalla CDU di Helmut Kohl. Il vero grande amico di Schnur comunque era Rainer Eppelmann, un pastore evangelico che fu la figura più in vista del movimento pacifista tedesco orientale, che firmò tutti gli appelli in favore della democratizzazione del regime. Quella fra Schnur ed Eppelmann fu una vera amicizia, profonda. Per dieci anni, dal 79 all'89, i due sono praticamente inseparabili. Vanno in vacanza insieme con le famiglie, passano giornate intere a discutere le situazioni processuali dei loro compagni arrestati, compaiono nelle parrocchie evangeliche dove si riesce ancora a tenere in vita qualche forma di dialettica politica. Organizzano dibattiti, scrivono petizioni, tengono i contatti con l'Ovest. Il giorno che Eppelmann trova quattro microspie nel proprio appartamento, dietro la carta da parati, è Schnur che scrive la denuncia alla procura, la quale ovviamente si guarderà bene dall'intervenire. Il giorno dopo l'evento, Schnur, che il nome di copertura è Thorsten, e con questo nome vengono intracciati i suoi rapporti nell'archivio della Stasi, prende atto che i suoi ufficiali della Stasi responsabili lo invitano a dedicarsi al lavoro sulle forze negative, ovvero nemiche della RDT, con particolare attenzione all'attività del pastore Rainer Eppelmann. E lui esegue con molta solerzia. Sul conto del pastore pacifista verranno trovate nell'archivio della Normanenstrasse migliaia di pagine redatte da oltre 40 collaboratori informali, ma il grosso e soprattutto le parti più delicate sono quelle scritte sulla base delle informazioni fornite da Thorsten. Nell'intervista del 99 Schnur si difende sostenendo di essere stato una specie di Oscar Schindler dell'Est. Come Schindler era entrato nel partito nazista per salvare quanti più ebrei possibile e portandoli a lavorare nella sua fabbrica, così lui sarebbe entrato nella Stasi per aiutare la gente. Anche lui aveva la sua lista di persone da far uscire dal carcere. Può darsi che effettivamente nella sua carriera Schnur abbia anche effettivamente aiutato qualcuno, ma sulla qualità delle relazioni che aveva con la Stasi non è possibile alcun dubbio. La notte in cui cadde il muro di Berlino, Schnur era in macchina fra Dresda e Berlino e deve aver avuto l'immediata percezione di quello che si preparava per il suo futuro perché non andò a festeggiare, si chiuse in casa ad aspettare gli eventi. A gennaio, nonostante avessero già cominciato a circolare intorno alla tavola rotonda a cui facevano riferimento tutti i gruppi di ex dissidenti che pensavano delle soluzioni per il futuro del paese, le prime voci sulla possibilità che, come scrisse lo Spiegel, l'uomo di Cole all'Est fosse una spia. Il 7 marzo, intanto, nonostante questo però, il Demokratischer Aufbruch si era fusa in un gruppo più grande che si chiamava Allianz für Deutschland ed era praticamente il corrispettivo della CDU occidentale nell'Est e Schnur, come capo di Allianz für Deutschland, era considerato, come era stato considerato bene per i socialdemocratici, il candidato naturale alla guida del governo se avesse vinto la sua parte politica. Il 7 marzo Schnur viene ricoverato in ospedale per un infarto. Eppelman lo va a trovare ogni giorno e non vuole credere alle accuse che gli vengono rivolti. Ma l'avventura di Schnur ormai è finita. Pochi giorni dopo va lo stesso ministro dell'interno della Repubblica federale Wolfgang Schäuble, si reca al suo capezzale e gli strappa le dimissioni dalla presidenza di Demokratischer Aufbruch e quindi dell'Allianz für Deutschland. La CDU andrà alle elezioni con un altro candidato. C'è un terzo caso di tradimento smascherato che merita di essere raccontato, sia per il clamore che suscitò all'epoca, grazie anche a una bellissima intervista televisiva trasmessa dalla televisione occidentale nell'ottobre del 90, sia perché presenta una caratteristica unica. La spia, che era Monica Heger, venne individuata dalle sue vittime prima della caduta del muro. E nel gennaio dell'89, quindi parecchi mesi prima del 9 novembre, si trovò nella scomodissima posizione di essere considerata una nemica sia dei suoi compagni della iniziativa Frieden und Menschenrechte, che era un gruppo considerato dal Ministero della Sicurezza molto pericoloso, diciamo, fra i nemici principali del regime, e sia dalla stasi per la quale lavorava. Monica era stata molto attiva nel movimento e molto legata a tre donne esponenti di Frauen für Frieden, che era, come dire, l'organizzazione femminile di iniziativa Frieden und Menschenrechte, e cioè Werbel Bolai, Irena Kukuz e Katja Havemann, la vedova di Robert Havemann. All'inizio dell'89, le tre donne si rendono conto che ci deve essere qualcuno che riferisce all'esterno i contenuti delle conversazioni politiche che si tengono nel gruppo. Non è che la cosa le turbi troppo. In fin dei conti, che le opinioni, le loro opinioni, abbiano qualche pubblicità, anche in ambienti non ostili al potere, diciamo così, è nel loro stesso interesse. Però, a un certo punto, dalle contestazioni sollevate dalla stasi ad alcune persone arrestate, Werbel Bolai, Irena Kukuz e Katja Havemann capiscono che qualcuno ha fornito alle forze di sicurezza notizie riguardanti le loro attività cospirative, notizie che possano effettivamente metterle nei guai. I luoghi dove sono costruiti i materiali di propaganda illegali, le macchine per stampare, i nascondigli preparati per ogni evenienza. Allora, le tre donne si trasformano in investigatrici e, dopo una breve indagine, arrivano alla conclusione che solo una persona può aver fornito quelle informazioni. Monica Heger. Il 15 febbraio viene organizzato una specie di processo popolare. Di fronte a un'assemblea di cui partecipano parecchi membri del gruppo, Monica Heger viene chiamata a spiegarsi. Lei cerca di negare, ma si barcamina un po' e, d'altra parte, nessuno ha una prova definitiva. Racconterà poi un riche poppe qualche anno dopo. Noi eravamo sicure della sua colpevolezza. Lo eravamo soprattutto noi donne. Ma lei faceva pena, sembrava disperata, sapeva che nessuno le credeva e che dal giorno dopo si sarebbe ritrovata da sola. Credo che quando il processo finì tutti quanti tirarono un sospiro di sollievo. Il giorno dopo Monica, come si saprà frugando poi negli archivi della Stasi, scrive per il suo ufficiale di collegamento un lunghissimo rapporto sul processo con il titolo Tentativo di analisi. A Normanenstrasse comunque probabilmente già sapevano tutto, perché non era certo lei l'unica infiltrata nel gruppo dei dissidenti. Nell'aprile successivo Monica chiede un incontro alla stessa Bolai e a Gerd Poppe, il marito di Ulrike e confessa loro tutta la verità. Per dieci anni ha fatto il doppio gioco e ha ottenuto dal Ministero per la Sicurezza Nazionale addirittura una specie di menzione d'onore come combattente solitaria di prima linea contro il movimento clandestino di opposizione. Il suo compito non era tanto quello di riferire i programmi politici degli oppositori, ma di individuare e segnalare i dissidenti clandestini, quelli che non si esponevano e dei quali la Stasi non sapeva nulla. Soltanto dopo, nell'intervista del 90, tra le lacrime, Monica Heger dirà che il peggiore miserabile di tutto il paese è quello che fa e resta una spia. Con questo vi saluto e vi do appuntamento, come di consueto, domani alle 8 della sera, sempre su Radio 2. Abbiamo visto le figure di tre spie le cui attività furono rintracciate negli archivi della Stasi. Ibrahim Böhme, Wolfgang Schnur e Monica Heger. Furono tre storie frattante. Gli informelli mitarbeiter, come sappiamo, erano circa 180.000 e pochissimi tra di loro ebbero vicende tali da arrivare alla notorietà pubblica. Moltissimi, fra l'altro, non sono mai stati individuati perché o si erano mimetizzati bene, ricordiamo che nelle carte della Stasi non veniva mai citato il nome vero, ma le persone venivano sempre indicate con dei nomi di copertura, o anche perché nessuno forse aveva davvero l'interesse a cercarli. Gli altri, invece, hanno provocato dei veri e propri terremoti intorno a sé, nei piccoli territori della loro vita privata. Matrimoni andati a rotoli, amori spezzati, famiglie distrutte, amicizie rinnegate, carriere stroncate. E quindi la domanda evidente è perché lo hanno fatto? Perché hanno tradito? È quella che i tedeschi chiamano una Gretchenfrage, cioè una domanda semplice, semplice, ma che va dritta al cuore di una questione fondamentale e alla quale è difficilissimo dare una risposta. La domanda che Margherita rivolge a Faust, credi in Dio. Perché dunque? Per Böhme e Schnur, in modo diverso ma in fondo simile, la risposta va cercata probabilmente nelle loro biografie. Due persone venute al mondo durante la guerra, da genitori in fuga o destinati al campo di sterminio, come quelli di Böhme, cresciute in un ambiente arido come l'orfanotrofio. Due persone delle quali ci si poteva aspettare che cercassero nella loro vita di adulti il risarcimento ai dolori, all'abbandono, al senso di disperazione e alle paure che avevano avuto da bambini. E la Stasi, in qualche modo, offriva certezza e riconoscimento. Li sostenne al posto dei genitori che non c'erano. Fece fare loro buoni studi e una bella cardiera. Li guidò addirittura fin quasi alla soglia del potere nella nuova Germania del dopomuro. Schnur fece il suo giuramento di fedeltà poco dopo che la madre naturale lo aveva rifiutato. Böhme lo fece nel momento in cui sentì molto forte l'esigenza di scoprire, di ritrovare la propria origine ebraica e si cambiò il nome in Ibrahim, quasi a sfidare l'altra Germania, dove negli anni 50 e 60 si stentava ad avviarsi alla necessaria riflessione sul passato nazista. Il perché di Monica Heger fu dettato forse da un'altra insicurezza. Lei era sincera, credeva di amare la propria patria e il socialismo, ma forse voleva sentire forte soprattutto la sua propria immagine. Non poteva più fare a meno della soddisfazione che le dava sentirsi combattente solitaria, eroina della cospirazione, una persona in cui il lavoro contava e quindi anche la sua vita contava, contribuiva a cambiare il mondo. Tutti e tre in fondo ebbero un loro coraggio, un loro forse perverso coraggio, eppure nella grande menzogna ebbero tutti momenti di autenticità, come per esempio la Heger che va dalla Bolai e da Poppe a confessare la verità. Naturalmente le vittime, soprattutto per quanto riguarda Böhme e la Monica Heger, i coniugi Poppe, sono poco propensi all'indulgenza e Böhme non è mai stato perdonato. Così come Eppelman deve aver avuto una delusione terribile, fulminante per Schnur che considerava un amico, un amico vero. Quindi il discorso si fa complicato sotto il profilo psicologico. Torniamo quindi ai fatti più elementari. Anche per ragioni di tutela della privacy nessuno, almeno che io sappia, ha mai tentato una statistica sui motivi per cui tante migliaia di cittadini della RDT e più qualche migliaio anche in altri paesi, perché esistevano spie anche di altre nazionalità, particolarmente tedeschi e occidentali, entrarono nell'esercito invisibile delle spie della Stasi. Dalle storie che sono venute alla luce dopo l'apertura degli archivi della Normanenstrasse si direbbe che il motivo più frequente che ha portato tante persone a diventare spie sia stato il ricatto. Un caso emblematico è quello di un famoso deputato liberale al Bundestag che era stato fra i massimi dirigenti della FDP, del partito liberale di Hans Dietrich Genscher e che si chiamava William Borm. Borm era un politico molto conosciuto e molto rispettato. Era un industriale che aveva fondato già nel periodo fra le due guerre un'importante azienda di elettroacustica che aveva partecipato alla prima guerra mondiale, era stato uno dei massimi dirigenti della Deutsche Volkspartei della Repubblica di Weimar ed era uscito con un onore intatto dal dodicennio nazista. Dopo lo spostamento a destra dei liberali di Genscher che nell'82 avevano rotto l'alleanza con i socialdemocratici del cancelliere Helmut Schmidt per allearsi con Helmut Kohl, Borm era stato tra i fondatori dello sfortunato partito dei liberalen demokraten, i liberali di sinistra che durarono lo spazio di un mattino. Nessuno avrebbe mai dubitato di un uomo con questa biografia. E poi invece dopo la svolta si venne a sapere che Borm, che era nato nel 1895 ad Hamburgo ma aveva abitato a Bautzen, una città che sarebbe poi appartenuta alla RDT, nel 1950 era stato restato dalla polizia tedesco orientale al passaggio di frontiera intertedesco di Eisenach e due anni dopo era stato condannato a dieci anni di reclusione come ispiratore di piani di guerra e di boicottaggio e che dopo un lungo periodo in varie prigioni della RDT alla fine aveva ceduto alle pressioni e aveva accettato di collaborare con la polizia segreta dell'Est. Quindi era stato liberato e rinviato all'Ovest. Tutta la sua carriera quindi da allora, dagli anni Sessanta, fu praticamente etero diretta da Berlino Est, soprattutto per quanto riguardava i rapporti intertedeschi e all'inizio degli anni Ottanta per quanto riguardava l'impegno e il movimento pacifista contro l'installazione degli euromissili. Incontrai Borm personalmente nel grande giardino davanti all'Università di Bonn il 10 ottobre del 1981, in occasione della prima grande manifestazione tedesco-occidentale contro gli euromissili. Era un vecchio signore molto rispettabile, parlava con una lucidità straordinaria e devo dire che mi sarei indignato allora se mi avessero detto che, come invece si sarebbe poi saputo, si incontrava regolarmente con Marcus Wolf, il capo della celebre sezione estera dello spionaggio tedesco-orientale, del quale parleremo poi, il quale Wolf si vantava di aver scritto proprio lui di suo pugno il discorso che, come deputato anziano, Borm pronunciò il 20 ottobre del 1969 all'apertura della legislatura che avrebbe portato Willy Brandt alla cancelleria. Nel 1975 fu sempre Wolf che gli piazzò un suo uomo a fianco come segretario personale, con un'operazione del tutto simile a quella che sarebbe stata compiuta qualche anno dopo, con esiti politicamente disastrosi ai danni di Willy Brandt, con la collocazione nell'ufficio privato come referente personale proprio di Willy Brandt di Günther Guillaume, la spia, diciamo, tedesca dell'Est nella Germania Ovest, forse più famosa in assoluto. Borm faceva tutto quello che noi volevamo che facesse e lo faceva senza fiatare, raccontò una sera Wolf durante una cena, ma non credo che almeno negli ultimi anni lo facesse per paura. In fondo era un uomo anziano, che cosa avremmo potuto fargli? Credo che alla fine si fosse convinto lui stesso delle cose che gli chiedevamo di dire. Abbiamo visto alcune storie di spie e dovremmo vedere ora alcune storie di persone che furono vittime di queste spie, cioè gettare un po' l'occhio sul mondo della dissidenza, della RTT, che era un mondo estremamente variegato e specialmente negli ultimi anni anche molto affollato di organizzazioni, sigle e movimenti. Va detto subito che, come per altri aspetti della vicenda del muro, del rapporto con quel passato particolare che era il passato della divisione della Germania e della divisione di Berlino con il muro, c'è stata in Germania una certa rimozione anche della memoria di personaggi che pure al suo tempo ebbero un ruolo estremamente importante nella battaglia per la libertà. Tra questi personaggi dimenticati possiamo ricordare per esempio Berbel Bolai. Berbel Bolai era una intellettuale, una pittrice, una critica d'arte che, dette vita, l'abbiamo già incontrata in questo ruolo, a un movimento che era a metà fra il femminismo, le rivendicazioni di carattere femminista e le rivendicazioni di carattere politico, di democratizzazione politica. A Berbel Bolai tutti attribuivano la prospettiva di un ruolo politico nella futura Germania democratizzata. In realtà dopo l'unificazione scomparve praticamente nel nulla, come molti altri suoi compagni. Attualmente credo che sia ancora in una fattoria nella campagna del Brandenburgo, dove porta avanti degli esperimenti di tutela ambientale, ma nessuno praticamente si ricorda di lei. La stessa vicenda, lo stesso destino, in qualche modo ebbe Marcus Meckel, che era un dirigente socialdemocratico dell'Est, che fu addirittura anche per un certo periodo ministro degli esteri della RDT democratizzata. e lo stesso destino, toccato a Wolfgang Templin, a Rainer Kunze, ai coniugi poppe, che per un certo periodo tutti e tre ebbero un ruolo nel Partito dei Verdi dopo l'unificazione, ma che poi, un po' per delusioni personali, un po' per il fatto che l'Omino Repubblica non era dimenticato, comunque non riconosceva il loro passato di politici dell'opposizione, scomparvero nel nulla. Gli unici due tedeschi orientali che hanno avuto una brillante carriera nella nuova Germania unificata sono Wolfgang Thiers, che fu uno dei dirigenti del Partito Socialdemocratico dell'Est e poi è diventato uno dei dirigenti più importanti della SPD ed è stato anche presidente del Bundestag, e l'attuale cancelliera, Angela Merkel, la quale Merkel, come abbiamo visto, era una collaboratrice di Schnur, anche se c'è da dire che il suo impegno non fu mai straordinario, aveva un ruolo abbastanza secondario nel mondo della dissidenza. Resterebbe da spiegare perché sia successo tutto questo. Non è così semplice, in qualche modo c'entra un atteggiamento generale della cultura tedesca, in modo particolare della cultura tedesco-occidentale, che ha una naturale propensione a diffidare per chiunque dissenta dalle posizioni ufficiali, anche se le posizioni ufficiali sono sbagliate, sono condannabili. C'è la storia, per esempio, molto indicativa di un disegnatore che io conoscevo molto bene, il quale durante la RDT era un illustratore di libri per ragazzi, molto bravo, e durante la RDT la Stasi lo perseguitava rovinando sistematicamente i disegni che lui mandava alle case editrici. Quando fu assunto da una case editrice di Berlino Ovest, gli arrivò una lettera in cui la case editrice lo pregava di fare particolarmente attenzione nel mandare i suoi materiali. Evidentemente avevano parlato con le case editrici dell'Est e avevano considerato che se il signore era stato in qualche modo tenuto d'occhio e punito con quelle misure, evidentemente c'era qualche motivo per cui doveva essere punito. Veniamo a qualche figura di quelle che furono le vittime, le più note, diciamo, dell'attività della polizia politica. Fra i più famosi dissidenti che subirono le angherie del Stasi ci furono i coniugi Poppe, Gerd e Ulrike Poppe. Lui era un fisico, era membro dell'Accademia delle Scienze e lavorava per un'impresa statale. Nel 1968 cominciò a manifestare delle opinioni contrarie a quelle del regime, diffondere del materiale che non piaceva alla nomenclatura. Nel 1976 partecipò, come tantissimi altri intellettuali, alle proteste per il ritiro della cittadinanza al celebre cantautore Wolf Biermann e per questo motivo Gerd venne espulso dall'Accademia delle Scienze. Dovendosi trovare un lavoro, si impiegò come macchinista in una piscina. A metà degli anni Ottanta fu fra i fondatori della iniziativa Frieden und Menschenrechte, pace e diritti umani, schierata a fianco del movimento pacifista, della quale abbiamo già parlato. Ulrike, la moglie, fu invece fondatrice, insieme con Werbel Bollai, del movimento Frauen für Frieden, che era molto legato all'iniziativa pace e diritti umani, e per questo motivo venne imprigionata varie volte. Nell'archivio della Stasi c'era una quantità impressionante di materiale sui coniugi poppe e fu proprio il lavoro che Ulrike Poppe fece su questo materiale con la collaborazione di una ricercatrice francese che ci ha permesso di ricostruire nel modo più preciso ed esauriente i metodi che la Stasi usava per spiare i nemici dello Stato. Ai poppe erano dedicati dossier contenuti in ben 39 contenitori, che riguardavano due distinte operazioni di controllo, disegnate Zirkel Eins per Gerd e Zirkel Zwei per Ulrike, e dai materiali uscì che non solo loro due venivano spiati, ma anche i loro figli e tutte le persone che in un modo o nell'altro venivano in contatto con loro. Nella prossima puntata, alla quale vi do appuntamento come al solito alle 8 della sera su Radio 2, vedremo altre figure di vittime della Stasi. Abbiamo già cominciato a vedere alcune storie delle vittime della Stasi, e cioè dei dissidenti che furono oggetto di vere e proprie persecuzioni da parte della Stasi. Un sorvegliato speciale che ebbe un trattamento molto crudele fu Wolfgang Templin. All'inizio Templin era un dirigente della SED, che si era poi spostato su posizioni sempre più riformiste, e a metà degli anni 80, era divenuto un sostenitore della perestroica di Gorbachev. Quando il leader del Partito Comunista Sovietico venne a Berlino nell'87, Templin gli indirizzò, anche a nome di altri gruppi di riformatori, una lettera aperta in cui lo invitava esplicitamente a far pressione sui dirigenti della RDT perché anch'essi invoccassero la via della democratizzazione. Questo gesto, questa richiesta, questa posizione, fece letteralmente infuriare la nomenclatura della RDT, che era, come abbiamo visto, sordamente ostile alle riforme, e Templin fu considerato come un vero e proprio traditore. Tant'è vero che operazione traditore è il titolo dei fascicoli che a lui sono dedicati negli archivi. Al traditore bisognava farla pagare. Quindi, contro di lui, gli ufficiali della Stasi prepararono delle vere e proprie misure di distruzione. Sersetsung Masnamen, che era la più grave, diciamo, delle possibilità repressive nel ventaglio delle iniziative della Stasi Ikerheit, e queste misure di distruzione dovevano servire a minarne la credibilità e, soprattutto, a distruggerne la personalità. Un altro intellettuale che le autorità della RDT considerarono un traditore fu Jürgen Fuchs. Anche lui era stato un membro autorevole della SED e si occupava di psicologia, ma scriveva anche racconti e poesie. Una sera Fuchs partecipò a una sessione di letture pubbliche critiche verso il regime e per questo motivo venne espulso dalla SED. Fu privato della casa e costretto a sistemarsi con sua moglie, che era una sua allieva che lui aveva sposato, in una baracca che gli era stata messa a disposizione da Katia Havermann, la vedola di un altro famoso dissidente della RDT, nel proprio giardino. Quando fu liberato, grazie anche a una campagna sulla stampa occidentale, Fuchs emigrò a Berlino Ovest e lì fece una denuncia clamorosa. La Stasi, durante la prigionia, lo aveva sottoposto a radiazioni per provocargli la leucemia. Per il momento l'accusa gravissima non ebbe riscontro, ma in effetti dopo la caduta del muro furono raccolti molti indizi sull'ipotesi che nelle prigioni in cui venivano rinchiusi i dissidenti venissero usati strumenti radioattivi che irradiavano i prigionieri. Pare ad esempio che la Stasi avesse addirittura provveduto a rendere radioattive le pagine di un manoscritto di un altro dissidente famoso, Rudolf Baro. Anche il cantautore e scrittore Stefan Kravchik, insieme con sua moglie Freyje Klier, fu vittima di particolari persecuzioni. Dal 78 all'83 Kravchik era stato un artista famoso e molto apprezzato dal regime, tanto che il gruppo folk del quale faceva parte era stato premiato per le eccezionali prestazioni artistiche e nel 1981 aveva addirittura vinto una specie di festival di Sanremo della Germania orientale. Dopo l'83 però Kravchik cominciò a scrivere testi sempre più critici verso il regime e lo stile di vita nella RDT. Una cosa che la nomenclatura non poteva accettare, quindi dopo un lungo braccio di ferro la casa discografica Amiga gli disdisse il contratto e si arrivò a un vero e proprio divieto di esibizione. Kravchik cominciò allora a cantare nelle chiese, gli unici luoghi in cui la polizia non poteva entrare e non poteva impedirlo, e nonostante le limitazioni le sue canzoni diventavano sempre più popolari. Fuori dalle chiese la Stasi lo seguiva ovunque finché nell'88 non decisero di arrestarlo per diffamazione dello Stato. Il suo arresto però suscitò una forte eco sui medi occidentali e le autorità della RDT volevano evitare un nuovo caso Birman e quindi evitarono di esperlerlo dal paese, facendo però pesare su Kravchik la minaccia di una lunga permanenza in carcere. Kravchik fu espulso quindi andò a Berlino Ovest dove continuò la sua guerriera, ma il motivo per cui è più conosciuto è la partecipazione a un film documentario girato da sua moglie Frey Eclir negli ambienti della dissidenza fra la metà e la fine degli anni Ottanta. È una rara testimonianza dall'interno della vita, delle paure, degli entusiasmi e delle delusioni dei dissidenti negli anni immediatamente precedenti la caduta del muro. Katia Havemann, che come abbiamo visto detto rifugio alla famiglia di Jürgen Fuchs, era la vedova di Robert Havemann, forse il più famoso fra tutti i critici del regime della RDT. Havemann aveva una storia importante, una storia prestigiosa. Figlio di un famoso pittore dadaista, Hans Havemann, Robert nel primo dopoguerra si era iscritto al Partito Comunista e nella celebre organizzazione della Rote Capelle aveva partecipato alla resistenza contro i nazisti. Quando Hitler prese il potere fu cacciato dall'università e costretto la clandestinità. Però i nazisti lo ritrovarono, lo impriggiorarono e lo torturarono anche a Berlino. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Havemann aderì con entusiasmo all'idea di costruire il socialismo in Germania. Si iscrisse perciò alla SED, fu eletto al Parlamento e diventò uno dei massimi dirigenti del partito. Però all'inizio degli anni Sessanta le sue posizioni sulla democrazia e le sue idee di riforma lo portarono a un duro conflitto con i vertici della SED e dopo la pubblicazione di un testo politico che condannava il dogmatismo, Havemann, nonostante fosse molto popolare sia in patria che anche all'Ovest, venne espulso dalla SED e poi dall'Accademia delle Scienze. Nel 1976 fu tra i protagonisti dell'ondata di protesta per il ritiro della cittadinanza Wolf Biermann e proprio per questo fu condannato agli arresti domiciliari in una casa di campagna per tre anni. Scaduti tre anni però la polizia continuò a seguirlo dovunque e la sorveglianza della Stasi diventò anzi ossessiva fino alla sua morte nell'aprile dell'82. Persino ai funerali Havemann non fu lasciato in pace perché ai suoi funerali la polizia politica era presente in modo provocatorio, non facevano nulla per nascondersi e su tutti i partecipanti alla cerimonia vennero aperti dei dossier. La vedova Katia continuò ad essere sorvegliata e tutti quelli che avvicinavano anche lei furono schedati fino agli ultimi giorni dell'esistenza del regime, cioè fino al novembre dell'89. Tra gli amici di Katia Havemann c'era anche il pastore della chiesa evangelica berlinese dei samaritani Rainer Heppelmann che abbiamo già visto come amico di Schnoor. Attivo nell'opposizione dalla fine degli anni settanta, Heppelmann si dedicò molto al lavoro tra i giovani. Nella sua chiesa si tenevano concerti e discussioni pubbliche, cui però si sarebbe saputo dopo l'apertura degli archivi, la Stasi dedicava moltissima attenzione, tanto che le riunioni erano largamente infiltrate. Poco prima della crisi definitiva della RDT, Heppelmann fu tra i fondatori del gruppo Demokratischer Aufbruch, insieme con il suo carissimo amico Wolfgang Schnur, del quale prese il posto quando si scoprì che Schnur era una spia della Stasi. Dal lavoro che Ulrike Poppe fece su una quantità impressionante di materiale che riguardava lei e il marito che fu trovato negli archivi della Stasi, esce, abbiamo detto, un quadro abbastanza preciso del modo in cui la polizia segreta lavorava per spiare e in qualche modo anche condizionare la vita delle persone che prendeva di mira. La quantità del materiale lasciò di stucco anche la stessa Ulrike, cheppure era stata fra quanti, come raccontò la ricercatrice francese che lavorò con lei per mettere ordine in questo materiale, cheppure era appartenuta all'area di quanti sapevano che la Stasi faceva uso di spie e avevano molta contezza del fatto che venivano usati metodi di sorveglianza come il controllo della corrispondenza, l'ascolto delle telefonate, l'installazione di microfoni, i pedinamenti e così via. Però prima che i dossier venissero scoperti si poteva avere un'idea soltanto vaga sull'ampiezza e la meticolosità di questa sorveglianza e i pareri in materia erano abbastanza divisi. Racconta Ulrike Poppe che negli ambienti dell'opposizione, noi che avevamo subito il controllo e spesso anche i tentativi di ingaggio da parte della Stasi, avevamo gli strumenti per valutare l'ampiezza, la forza e la pervasività del sistema e per ritenere che il Ministero della Sicurezza Nazionale avesse contatti più o meno in ogni gruppo dissidente, in ogni gruppo di lavoro, in ogni seminario universitario, nelle imprese, un po' dappertutto. Insomma, nei circoli dissidenti, diceva Ulrike, avevamo coscienza del fatto che la Stasi esercitava un controllo permanente. Quindi ci aspettavamo che quando avremmo messo le mani sugli archivi, semmai le avremmo messe, abbiamo trovato una quantità notevole di documenti. Malgrado questo, però, per molti di noi fu una sorpresa enorme ritrovarsi con una mole di carte che contenevano informazioni raccolte con estrema cura, non soltanto sulla nostra attività politica, sulla nostra, diciamo, attività pubblica, ma anche sulla nostra vita privata. Quindi la vecchia querel che c'era sempre stata nei tempi della RDT, tra chi nutriva le preoccupazioni più forti sul fatto che la Stasi fosse dappertutto e quelli invece che consideravano queste preoccupazioni come preoccupazioni un po' da paranoici, perché certo la Stasi controllava, era forte, eccetera, ma non poteva avere più di un'idea approssimativa sulle attività dei gruppi dell'opposizione, trovò con l'apertura degli archivi della Normanenstrasse la conclusione peggiore. Furono confermati, dice Ulrike, i timori più neri. Ma come erano messi insieme i dossier? Su che documentazioni erano realizzati? Anche in questo caso, l'esperienza di Ulrike Poppe, il lavoro che Ulrike, Ulrike Poppe ha fatto sul proprio caso personale, offre una traccia importante, preziosa. L'origine dei documenti poteva essere di sette tipi diversi. I protocolli di ascolto ambientale, il controllo della posta, l'osservazione diretta, i rapporti forniti dagli agenti, sia quelli ufficiali sia quelli informali, le informazioni provenienti da altri settori della Stasi stessa, i piani d'azione messi in atto sempre dalla Stasi, e i rendiconti relativi a questi piani. Vediamo un po' tutti questi punti più da vicino. Cominciamo dai protocolli di ascolto. Si tratta delle trascrizioni, delle registrazioni di apparecchi, radio spie, registratori, telecamere, che erano collocati negli ambienti frequentati dai soggetti da spiare, oppure nei loro telefoni. Il contenuto delle conversazioni registrate, come emerge dallo studio dell'Eurike Poppe, il più delle volte era politicamente insignificante, mentre i rendiconti che ne facevano gli agenti incaricati della sorveglianza erano molto più attenti alle informazioni di natura privata, per esempio le relazioni psicologiche e affettive tra le persone sorvegliate, oppure lo stato dei loro rapporti e i giudizi che insieme o separatamente davano delle persone terze. Tra Ulrike e Gerd, per esempio, c'erano dei dissapori che avrebbero portato qualche anno dopo al divorzio. Gli agenti della Stasi erano particolarmente attenti a quello che succedeva ai due nel loro appartamento, ma anche ai giudizi che sullo stato della coppia si scambiavano i loro amici. Così Ulrike venne a sapere dall'archivio della Stasi ciò che pensavano del suo rapporto con il marito, amici che con lei e neppure con lui ne avevano mai parlato. Le auscultazioni ambientali servivano anche per misurare l'effetto che provocavano particolari iniziative prese dalla Stasi stessa. Per esempio, dopo la liberazione di Ulrike e di Berbel Bolai, la Stasi aveva tentato, con una serie di lettere anonime e di false affermazioni attribuite a loro, di insinuare fra le loro amiche del gruppo di cui facevano parte dubbi sul loro comportamento e in particolare su un preteso disegno di monopolizzare tutte le attività del gruppo. Nel gennaio del 92, leggendo i resoconti delle registrazioni effettuate dei discorsi delle altre donne di Frauen für Frieden, quando né Berbel né Ulrike erano là, sia l'una che l'altra si resero conto che il tentativo di destabilizzazione qualche successo l'aveva avuto. Alcune delle donne di Frauen für Frieden, per esempio, non credevano che le voci malevoli venissero, come invece altre ritenevano da una manovra destabilizzatrice della Stasi. Si erano sinceramente convinte che Berbel Bolaie e Ulrike Poppe volessero impadronirsi dell'iniziativa politica del gruppo e piegarla alle loro idee personali. Altri protocolli, invece, avevano contenuti assai più innocenti. Ulrike ricordava sempre con qualche stupore, anche in modo un po' divertito, il fatto di aver letto che per tantissimo tempo la Stasi aveva piazzato una telecamera in un edificio vicino che spiava dentro il suo salotto. I resoconti di quella sorveglianza erano di questo tipo. Diverse persone sono entrate e uscite dalla stanza. Sul tavolo ci sono delle grandi caraffe, verosimilmente di caffè. Un altro metodo, questo più tradizionale, ma che veniva praticato con molta solerzia, erano i controlli della corrispondenza. In linea di massima tutta la corrispondenza che riguardasse, in arrivo o in partenza, persone da osservare veniva aperta e letta prima di essere inoltrata. Le violazioni erano talmente evidenti che tutti sapevano quello che accadeva. Ciò che invece non si sapeva che si scoprì negli archivi quando furono aperti è che molta corrispondenza intercettata veniva sequestrata per essere acquisita agli atti. Ci furono quindi migliaia e migliaia di lettere riguardanti anche fatti assolutamente privati, delle quali i destinatari non seppero mai l'esistenza. Un'altra particolarità scoperta dopo è la metodicità con cui veniva controllata la corrispondenza che veniva dall'estero. Non c'era una sola lettera, una sola cartolina o un solo pacco provenienti dalla Germania Ovest o da qualsiasi altro paese del campo capitalistico, come si diceva, che non venisse sistematicamente frugata. E veniamo al terzo sistema di controllo, è quello dei protocolli di osservazione diretta. Gli obiettivi delle operazioni, cioè le persone da spiare, venivano molto spesso seguite per strada. Nel caso di un rikepoppe non pare che questo tipo di controllo abbia prodotto grandi risultati. Sui dossier che la riguardano si trovano resoconti assolutamente insignificanti del tipo Cirkelsvai, ricordiamo che era il nome che era stato dato a un rikepoppe nell'operazione di controllo. Cirkelsvai è uscita di casa alle 8.15, munita della sporta per la spesa già identificata in precedente occasione. Alle 8.22 è entrata in una panetteria all'angolo della Dimitrovstrasse e ne è uscita alle 8.29 con un sacchetto il cui contenuto non è stato possibile identificare. Non deve essere tanto difficile immaginare che ci fosse del pane dentro. Le persone che avevano motivo di credere di essere sorvegliate erano ovviamente molto prudenti perché questo era uno dei sistemi che si sapeva che venivano usati e sapevano in genere come sfuggire a un pedinamento, cosa particolarmente facile a Berlino grazie alla frequenza di cortili che hanno ingressi su più strade. E poi cercavano di evitare incontri compromettenti per strada. L'osservazione diretta serviva, piuttosto che a controllare gli oggetti dello spionaggio, a identificare persone terze che incontravano oppure salutavano i sospetti. Oppure venivano utilizzate a scopo intimidatorio. In questo caso il pedinamento, come tutti noi giornalisti a Berlino Est avemmo modo di verificare sulla nostra pelle, il pedinamento non veniva affatto nascosto. Nei giorni della visita di Gorbaciov a Berlino, in occasione delle grandi manifestazioni di protesta all'Ipsia, due o tre agenti venivano piazzati in modo plateale dietro ad ogni giornalista occidentale, in modo da scoraggiarli a cercare contatti con la popolazione. In un paio di occasioni all'Ipsia, gli agenti intimidatori furono anche riconosciuti e severamente maltrattati dalla folla. E per oggi con questo abbiamo finito, vi do appuntamento come di consueto a domani alle otto della sera, sempre su Radio 2. Nell'enorme mole di materiale che era conservato negli archivi della Stasi, della Normanenstrasse, c'era anche una notevole quantità di documenti dedicati a Gerd e Ulrike Poppe, che furono due fra i dissidenti più famosi della RDT e soprattutto furono quelli che, dopo l'apertura degli archivi, aiutarono l'opinione pubblica a conoscere i metodi con cui la Stasi spiava e controllava la vita dei cittadini della RDT. Fra i metodi utilizzati dalla Stasi ce n'era uno che i coniugi Poppe consideravano particolarmente doloroso. Era il ruolo che svolgevano i collaboratori informali, e cioè le spie volontarie. Certo il capitolo più grosso e anche il più complicato in quasi tutti i dossier che riguardavano i dissidenti. Sui coniugi Poppe almeno 95 informelle mitarbeiter lavorarono in modo continuativo e per questo sono citati nei dossier. 73 di questi 95 furono identificati dai Poppe, anche se erano indicati soltanto con il nome di copertura, ma loro in base alla ricostruzione dei colloqui che riferivano e degli ambienti che frequentavano furono in grado di riconoscerli. In altri 240 resoconti manca l'indicazione della fonte. Se si fa il calcolo si vede che solo per due dissidenti, la coppia dei Poppe, lavorò probabilmente un centinaio di spie. Non tutti gli informatori erano conosciuti da Gerde e Ulrike Poppe. Moltissimi riferivano semplicemente su conversazioni che li avevano riguardati, conversazioni colte in casa di qualcuno, in un caffè o in treno o in pubblico. Una quindicina di spie invece, che erano alla base di ben 800 pagine di rapporto, furono riconosciute dai Poppe come appartenenti al circolo dei loro amici, delle loro conoscenze dirette. Si trattava di persone con cui erano in confidenza. Dai riassunti che dei resoconti di queste persone facevano i Führungs Officier, cioè gli ufficiali della Stasi che sovrintendevano il loro lavoro, non si capiva sempre qual era il motivo che li aveva spinti a spiare. Infatti c'era per tutti gli informelli Mitterbiter una sezione speciale, addirittura più segreta di tutte le altre, in cui si dava conto del motivo per cui questi informatori volontari avevano deciso di collaborare. Quello che invece si intuisce abbastanza bene è il punto fino al quale decidevano di spingersi le spie. Alcuni erano freddi, alcuni rapporti erano freddi, rispondevano soltanto ai quesiti posti loro dai Führungs Officier, evitavano di dare giudizi personali e finché era possibile cercavano di evitare osservazioni sulla vita privata delle persone osservate. Molti altri invece mostravano soddisfazione e zelo nel fare il loro lavoro. Erano molto solerti e alcuni si spingevano addirittura fino a suggerire le misure di distruzione, e cioè le misure che poi la Stasi avrebbe dovuto assumere per rendere inoffensivi i dissidenti che prendeva di mira. In alcuni di questi denunzianten, come si diceva allora, il motivo era politico, ma per la grandissima maggioranza si trattava in genere di motivi molto meno alti, per così dire. L'invidia, la piaggeria, l'ambizione. Ulrike scoprì con orrore che un collega aveva fornito alla Stasi informazioni su di lei soltanto per rubarle praticamente la poltrona. Particolarmente doloroso fu per i coniugi Poppe il capitolo del tradimento di Ibrahim Böhme, il dissidente forse più famoso che si era scoperto nel 1990 essere stato una spia della Stasi. Negli atti che i Poppe Gerde e Ulrike videro soltanto nel 92, trovarono la conferma di quel che in realtà sapevano fin dal marzo 1990, quando Böhme era stato scoperto, e cioè che lui, che loro consideravano forse il loro migliore amico, aveva venduto le loro vite alla Stasi per ben 15 anni. Un altro metodo utilizzato dalla Stasi per scoprire e condizionare la vita dei dissidenti erano le informazioni che venivano raccolte da fonti ufficiali. Il motivo per cui si cercavano anche informazioni dalle fonti ufficiali era che in genere arrivava il momento in cui la punizione dei dissidenti doveva passare attraverso un atto formale, un processo, in un tribunale. I reati classici di cui si cercavano le tracce erano la diffamazione dello Stato socialista, quindi un concetto abbastanza vago in cui poteva in realtà rientrare qualsiasi cosa, il tentativo di fuga dalla Repubblica e il contatto con lo spionaggio estero. Quest'ultimo ovviamente era il reato più grave e ci furono molte condanne anche a molti anni di carcere sulla base di accuse di questo tipo. Si conoscono pochissimi casi di magistrati che rifiutarono l'imbeccata dalla Stasi, ma uno di questi casi riguarda proprio Gerd Poppe. Quando il 24 gennaio dell'84 Poppe fu liberato dalla detenzione per cospirazione a cui era stato condannato, il Pubblico Ministero gli disse che era risultato innocente e avrebbe potuto addirittura chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione. Quando si seppe, il responsabile dell'operazione, un certo colonnello Kuschel, diede istruzioni delle quali è stata trovata la nota nell'archivio della Normanenstrasse perché l'innocenza di Poppe non diventasse oggetto di discussioni nel collettivo politico del Museo per la Storia tedesca, dove lavorava Ulrike e dove in una posizione del tutto subordinata perché faceva in realtà il meccanico della piscina, lavorava anche lo stesso Gerd Poppe. Particolarmente accanito nelle persecuzioni contro i Poppe fu un certo luogotenente Zönchen, del quale torneremo a parlare. E veniamo alle misure di distruzione che erano un po' il compimento delle indagini che la Stasi conduceva su quelli che considerava i nemici del regime. Si trattava di condizionare negativamente la vita e le relazioni sociali delle persone oggetto dell'osservazione. Le più dure misure di distruzione evidentemente erano quelle che venivano attuate nelle prigioni, in particolare in tre prigioni. Nelle due prigioni di Bautzen, una piccola località vicino a Dresda e che era famosa proprio perché in questa cittadina si trovavano due penitenziari, uno addirittura fin dal tempo del nazismo e a Hörnschenhausen a Berlino. Le torture in carcere erano quelle, diciamo così, tipiche di tutti i regimi dittatoriali e quelli in cui non c'è un controllo di legalità. Privazione del sonno, isolamento, in qualche caso, come risultò da una denuncia fatta da Jürgen Fuchs, che era un dissidente e che fu recluso a Hörnschenhausen, pare che la Stasi utilizzasse addirittura dei materiali radioattivi per contaminare i reclusi più pericolosi e provocare loro delle malattie, in particolare la leucemia. Le misure che la Stasi prendeva contro i nemici del regime non contemplavano sempre il carcere. C'erano metodi meno grossolani, ma forse perfino più perfidi, per rovinare la vita delle persone prese di mira. E addirittura c'erano degli uffici presso la centrale della Stasi, in cui degli specialisti studiavano le misure migliori, e spesso lo facevano con grande fantasia, le misure migliori volte a condizionare la vita o a boicottare o impedire del tutto l'attività politica dei dissidenti. Wolfgang Templin, che era stato un dirigente della SED e poi si era spostato su posizioni riformatrici, era particolarmente odiato. Quando si seppe che stava preparando una lettera aperta per Gorbaciov, che nell'87 sarebbe venuto in visita a Berlino, questo ufficio speciale si inventò che Templin faceva il doppio gioco, e cioè faceva finta di essere un dissidente, ma in realtà era proprio una spia della Stasi e aveva tradito degli amici. Pare che si arrivò anche al punto di arrestare apposta delle persone per dare credibilità a questo presunto tradimento di Templin. La cosa paradossalmente funzionò, perché nelle settimane precedenti, l'arrivo del segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, alcuni esponenti dei gruppi che avevano promosso l'appello, la lettera aperta, ritirarono la firma, proprio perché cominciavano anche loro ad avere dei sospetti su Templin. Particolarmente odioso fu l'uso che, sempre nell'ambito di queste cosiddette misure di distruzione, la Stasi fece dei contrasti fra le generazioni. Spesso si utilizzavano i figli, anzi meglio, si utilizzava il rendimento scolastico dei figli per mettere in difficoltà i genitori, se questi erano considerati persone da punire. Si favoriva la carriera scolastica dei ragazzi, spingendoli ad assumere un atteggiamento molto conformista e a produrre materiale scolastico allogiativo del regime. Era una paura abbastanza diffusa questa, fra i genitori, diciamo, che avevano figli piccoli nella RDT, perché l'uso strumentale dei ragazzi e anche dei bambini si sapeva essere uno strumento assai diffuso. Per esempio, una delle figlie, la famiglia Baldamus, quella che era stata divisa dal muro, il padre e il fratello erano rimasti all'ovest e la madre e le due figlie erano invece tornate a Berlino Est quando era stato costruito il muro, una delle due ragazze visse questa situazione con particolare dolore sulla propria pelle. Lei aveva una bambina piccola di 4 anni e fu portata, diciamo, in qualche modo a considerare questa bambina come l'unica possibilità che aveva per poter continuare la sua carriera. Lei lavorava per un'istituzione culturale molto importante che si occupava di cinema e quindi per fare carriera avrebbe dovuto anche viaggiare all'estero, cosa che era impossibile perché il padre e il fratello erano fuggiti all'ovest e quindi le persone che avevano parenti stretti all'ovest normalmente non ottenevano il permesso di uscire dal paese. Ebbene, lei si trovò, e certo non fu una situazione molto gradevole, a considerare l'esistenza della figlia come una specie di passaporto che le avrebbe consentita di andare all'estero. Infatti era una pratica comune della RDT di trattenere i parenti, specialmente i figli, delle persone che ottenevano il permesso di andare all'ovest come una forma di ostaggio, cioè le autorità della RDT sapevano che quelle persone sarebbero tornate perché avevano lasciato i figli a casa. Un ulteriore metodo era quello di, per così dire, entrare negli affetti delle persone da colpire, cioè si cercava di condizionare, per esempio, le relazioni fra i coniugi. Quando si sapeva che c'erano delle tensioni, delle difficoltà, si cercava di intervenire per aggravarle e soprattutto si inviavano delle persone incaricate proprio di questo con l'obiettivo di sedurre, di ricattare poi i dissidenti o le dissidenti che più davano fastidio. Anche i coniugi pop furono oggetto di questa particolarissima e odiosa misura. Quando la Stasi seppe che c'erano difficoltà di coppia fra i due e si cominciava a parlare di un possibile divorzio, fu inviato un cosiddetto Romeo, e cioè un signore che aveva lo scopo proprio quello di far innamorare la signora Poppe, Ulrike Poppe, con lo scopo di far precipitare la crisi della coppia. Paradossalmente la cosa funzionò al contrario, nel senso che la comparsa di questo estraneo invadente, rafforzò la coppia anziché farla separare. Il Romeo che era stato mandato dai Poppe per far scoppiare il loro matrimonio e che aveva fallito clamorosamente il suo obiettivo, ne ebbe anche qualche conseguenza. Nei rapporti ufficiali figura infatti una reprimenda ufficiale della Stasi, chiamato per nome e per cognome, che tutto lascia pensare che sia stato proprio quella persona. Un'altra storia in cui invece fu protagonista in questo caso non un Romeo, ma una Giulietta, riguardò un carabiniere italiano. Il carabiniere era in servizio presso l'ambasciata italiana di Berlino Est. Su un carico pare personale di Marcus Wolf, il capo del controspionaggio esterno della RDT, il militare fu agganciato e sedotto da questa donna, che era stata incaricata di carpiri ai segreti della sede diplomatica. Era infatti un momento molto particolare perché l'Italia aveva appena riconosciuto la RDT, c'era anche qualche frizione col governo della Germania federale e la nomenclatura di Berlino Est voleva saperne di più. Racconta Marcus Wolf, che è l'unica fonte di tutta la storia, che la donna però si innamorò veramente del giovanotto, il quale fu scoperto a passare i documenti, quindi fu rispedito in Italia e processato. Scontata la condanna, tornò a Berlino dove la sua Giulietta intanto aveva ottenuto di abbandonare il servizio, circostanza assolutamente insolita, nel senso che era molto difficile per chi faceva la spia, specialmente per chi lo faceva dietro regolare al ruolamento, lasciare poi spontaneamente il servizio attivo. Ma Marcus Wolf sostenne almeno una sera a cena che era stato lui stesso, quando aveva visto il sentimento che questa donna provava per il suo fidanzato italiano, a dirle che se voleva lasciare il servizio segreto poteva farlo e poteva andare a vivere con il suo amato, cosa che avvenne sempre secondo la versione di Marcus Wolf e secondo lui i due vivono ancora felici e contenti a Berlino Ovest. I Romei e le Giuliette comunque in genere funzionavano meglio. Dopo la caduta del muro fu evidente l'entità delle confidenze che gli agenti della Hauptverwaltung abteilung di Wolf, cioè era l'apparato esterno del controspionaggio tedesco orientale, che gli agenti di Wolf, ben addestrati dalla bisogna, erano riusciti a strappare negli anni 70 e 80 al personale femminile degli uffici governativi di Bonn. In questi casi, a differenza della love story del carabiniere italiano, queste avventure non avevano in genere un happy end, si concludevano con la scomparsa improvvisa del seduttore e il licenziamento delle sedotte abbandonate. Raramente si fecero dei processi in Germania federale per evitare proprio un inopportuno clamore pubblico. D'altra parte lo spionaggio intertedesco, specie quando i rapporti fra le due Germanie si fecero meno tesi nel periodo della Ostpolitik de Willy Brandt, era considerato un peccato veniale rispetto allo spionaggio verso altri paesi. C'era anche un importante dirigente socialdemocratico dell'Ovest che in privato, un po' scherzando, un po' però facendo sul serio, addirittura lo difendeva, diceva in fondo lo spionaggio è un metodo per conoscersi meglio e io considero che sia una cosa buona che Honecker e i suoi uomini sappiano che i nostri dirigenti sono sinceri quando dicono di volere la distensione e il miglioramento dei rapporti. Su questa visione forse un po' troppo rosea dello spionaggio intertedesco proiettò però un'ombra piuttosto scura il cosiddetto affare Guillaume. Ne parleremo lunedì della prossima settimana, sempre su Radio 2, sempre alle 8 della sera. L'affare Guillaume fu l'episodio forse più clamoroso, certamente il più sfortunato, dello spionaggio tedesco orientale nella Germania Ovest. Nel 1972 l'agente Günther Guillaume, per volere diretto di Wolf, era stato infiltrato nello staff dell'allora cancelliere federale Willy Brandt e ne aveva conquistato la fiducia fino a diventare il suo segretario personale, consigliere e capo della segreteria, quindi al corrente di tutti gli affari più delicati del governo di Bonn. Fu un errore gravissimo perché quando Guillaume fu scoperto ne derivarono dei danni politici enormi al processo di distensione e alla Ostpolitik, danni che furono molto più grossi dei vantaggi che Berlino Est e Mosca, che ovviamente era anch'essa molto interessata, avevano tratto dalle informazioni che Guillaume aveva dato. L'affare Guillaume, insieme con il caso del deputato liberale William Borm, che fu praticamente costretto a collaborare con la Stasi, con un ricatto, e la corruzione di Julius Steiner, un deputato della CDU, il cui voto fu determinante a far fallire una mozione di sfiducia contro Brandt, furono gli unici episodi di una certa gravità che si verificarono fra i servizi tedeschi dell'Est e dell'Ovest, dall'inizio degli anni Settanta in poi. Prima degli anni Settanta la situazione era stata diversa perché nel pieno della Guerra Fredda non erano mancate operazioni anche pesanti di destabilizzazione, rapimenti, perfino qualche omicidio. Ma negli anni Settanta appunto il clima di distensione effettivamente era tale che i rapporti fra Bonn e Berlino stavano lentamente avviandosi verso qualche normalizzazione. Bonn e Berlino non esistevano all'epoca due città più diverse. Bonn, che era stata scelta come capitale federale all'inizio degli anni Quaranta, proprio per la sua natura di città piccola e decentrata, quindi lontana dai fasti orribili di Berlino, era una città molto tranquilla, forse anche troppo. Come disse una volta John Le Carré, il celebre scrittore di romanzi di spionaggio, Bonn è piccola come la metà del cimitero di Chicago, in compenso è molto più tranquilla. Berlino era tutto il contrario. Berlino, soprattutto ma non solo per il dramma che viveva essendo una città divisa dal muro ed essendo una città in cui la popolazione era stata costretta alla separazione per 28 anni, aveva nel bene e nel male comunque un suo fascino. Era una città che soffriva, ma era anche una città in cui c'erano degli aspetti di vita paradossali, in qualche caso anche grotteschi. Di alcune di queste stranezze berlinesi rimane qualcosa ancora oggi, per chi conosce la città è facile capire di che parlo e comunque rimane un po' nel ricordo di tutti quelli che l'hanno frequentata in quegli anni come una città in cui succedevano cose che in nessun'altra città del mondo potevano succedere. Berlino si viveva in una condizione diversa da quella di tutte le altre grandi città europee. C'erano delle cose che altrove erano impensabili. Una, per esempio, era il rapporto che i berlinesi dell'Ovest avevano con il muro. Il rapporto che avevano con il muro i berlinesi dell'Est è evidente, non credo che abbia bisogno di essere spiegato. Quello dei berlinesi dell'Ovest invece aveva degli aspetti veramente singolari. Per esempio, per un lungo periodo di tempo accadde che le persone che raggiungevano Berlino-Ovest da diversi paesi dell'Europa occidentale, per motivi di risparmio e per evitarsi complicazioni, arrivare in aereo a Berlino-Ovest era abbastanza complicato perché soltanto le compagnie aeree delle potenze occupanti avevano il diritto di atterrare Berlino. Quindi, per ragioni economiche e per evitare troppi trasbordi, avevano preso l'abitudine di prendere l'Interflug, che era la compagnia aerea della Germania orientale, atterrare all'aeroporto di Schönefeld, cioè all'aeroporto di Berlino-Oest, dove c'era un pullman che portava tutti quanti a Berlino-Ovest. Durante uno di questi viaggi a me capitò di notare una cosa abbastanza strana, cioè mentre appena entrati nel territorio di Berlino-Ovest, nel quartiere di Neukölln, notai che i giardini delle case erano in genere spogli intorno alle case, ma erano straordinariamente ricchi di orti, alberi di frutta, fiori e quant'altro, proprio nell'immediata vicinanza del muro. Non riuscivo a capire il motivo di questa scelta di coltivare in modo così intenso proprio il punto più vicino al muro. Per cui un giorno presi la metropolitana, andai a Neukölln, andai a bussare alla porta di una di queste villette che avevano il giardino, che arrivava fino al muro, e mi apri un signore turco. Io gli chiesi, dico ma perché succede questo? Lui mi disse, venga con me, e mi fece poggiare la mano sul terreno vicino alla casa, e mi disse, senti che qui il terreno è ancora gelato? Era forse fine febbraio, inizio marzo, ancora inverno. E in effetti il terreno era gelato. Poi mi portò proprio sotto il muro e mi disse, adesso senta qui, poggiai la mano e sotto il muro il terreno non era gelato. E lui mi disse, questo è il motivo per cui coltiviamo tutto qua, che la presenza del muro crea evidentemente un clima particolare, un clima che nessuno sapeva spiegare, molti fecero le stesse osservazioni. La situazione che avevo fatto io, ma nessuno sapeva dare una spiegazione. Però era un fatto indubitabile che d'inverno sotto il muro era più caldo, e d'estate sotto il muro era più fresco. Tant'è vero che le tante famiglie turche di Neukölln, nei giorni di festa, avevano l'abitudine di piazzarsi proprio al ridosso del muro per fare i loro barbecue, contenti anche per il fatto che il fumo se ne andasse dall'altra parte. Tra le stranezze berlinesi determinate dall'esistenza del muro, ci fu anche quella che si creò quando il muro cominciò a scoprire. Nel senso che il muro era il confine di stato fra due stati che continuavano ad esistere, perché per un anno la Repubblica Federale e la Repubblica Democratica Tedesca continuarono ad essere due stati sovrani. Però, essendo il muro piano piano distrutto, in certi punti non si capiva più se si era all'ovest o all'est. A me capitò, un giorno, di percorrere in auto un grande stradone che all'epoca attraversava Potsdamer Platz, che non era ancora occupata dagli edifici del grande piano urbanistico di Renzo Piano e della Sony. Percorrendo questa strada, a un certo punto, per superare un camion, andai oltre la linea di mezzeria. Quindi avevo commesso un'infrazione. Dopo pochi metri c'erano due poliziotti con la divisa della polizia dell'RDT che mi fermarono e mi contestarono l'infrazione. Io avevo torto, quindi ero convinto che mi avrebbero fatto la multa, quando mi resi conto che in realtà in quel momento eravamo chiaramente a Berlino-Ovest, non eravamo più sul territorio dell'RDT. Quindi chiesi ai due poliziotti, dicono, ma voi avete il diritto di farmi una multa sul territorio di un altro Stato? Quelli si misero a parlottare fra loro e stavano evidentemente per rinunciare. Quando comparvero invece due poliziotti con la divisa di Berlino-Ovest, quindi sul loro territorio, allora i tedeschi orientali li chiamarono, parlarono un po' fra loro e la multa alla fine me la fecero i poliziotti occidentali. Cosa estremamente spiacevole, ma soprattutto estremamente indicativa del clima che si andava determinando, di come rapidamente stavano cambiando le cose. Fino a due o tre settimane prima quei poliziotti sarebbero stati pronti con le armi in pugno a spararsi addosso. Ora si mettevano tutti d'accordo per fare la multa all'italiano che era stato indisciplinato. Una situazione molto curiosa si era creata invece verso metà degli anni Ottanta, sempre sulla Potsdamer Platz. Bisogna considerare che la Potsdamer Platz non tutta apparteneva al territorio di Berlino-Ovest, pur se era tutta ad ovest del muro. Nel momento dell'erezione del muro, infatti, i tedeschi orientali fecero delle correzioni nel tracciato del confine per evitare troppi angoli morti o cose che poi sarebbero state difficilmente difendibili. Quindi esistevano delle piccole porzioni di territorio della RDT ad ovest del muro. Una parte della Potsdamer Platz, quella che i berlinesi chiamavano il Triangolo di Lennè, perché era delimitato da una strada che si chiamava la Lennestrasse, era uno di questi, diciamo, ex-club della RDT in territorio di Berlino-Ovest. Quando a metà degli anni Ottanta si sviluppò a Berlino un grande movimento di occupatori di casa, di squatters, che erano spesso e volentieri in, diciamo, duro contrasto con la polizia, questi ragazzi presero l'abitudine di rifugiarsi nel Triangolo di Lennè, consapevoli del fatto che la polizia di Berlino-Ovest lì non li avrebbe mai potuti raggiungere e arrestare. Quindi c'erano queste manifestazioni nel centro di Berlino, poi a un certo punto si mettevano tutti a correre e raggiungevano Potsdamer Platz e lì, a ridosso del muro, erano al sicuro perché la polizia di Berlino-Ovest non poteva fare nulla. Naturalmente questo, diciamo, era inaccettabile per il Senato di Berlino-Ovest che spinse per fare un accordo con l'autorità della RDT perché il Triangolo di Lennè fosse accessibile anche alla polizia dell'Ovest, cosa che avvenne per cui una mattina si presentarono 900 agenti di polizia pronti a sgombrare questo campo provvisorio degli autonomi. Questi ultimi, quando videro le brutte, scalarono tutti il muro dall'Ovest verso Est e si rifugiarono nella RDT. Alla RDT, diciamo, le autorità tedesco-orientali non parve vero di poter far fare una brutta figura al Senato di Berlino-Ovest per cui li accolsero e in pompa magna li rifocillarono e poi li fecero di andare verso Berlino-Ovest. C'è ancora una particolarità che forse merita di essere raccontata. Sulla autostrada cittadina nei pressi di Schoenberg, a Berlino-Ovest, c'è stato per anni, non so se ci sia ancora, forse c'è ancora perché non ho mai potuto controllare, uno strano cartello stradale. Si tratta di un divieto di circolazione, con tutti i crismi del divieto di circolazione, solo che nel bianco circondato dall'anello rosso non c'è, come c'è solitamente altrove, non so, il disegno di un camion, il disegno di una moto, di un carro a cavalli. C'è disegnato un carro armato, cioè quello è un divieto di circolazione per i carri armati. E si tratta di un segnale, non di quelli, diciamo, fatti dai militari per i militari, che solo loro capiscono, a noi profani non dicono niente. Proprio un regolare segnale del codice della strada che proibisce il transito dei carri armati sull'autostrada di Schoenberg. Allora, uno può immaginarsi che cosa sarebbe potuto succedere nel caso fosse scoppiata la guerra. I russi sfondano verso il centro di Berlino, arrivano a Schoenberg, dilagano con i loro carri armati sull'autostrada, poi vedono il segnale e naturalmente scendono dall'autostrada, si infiliano nelle strade normali e l'offensiva va a Remengo. Oppure, al contrario, sono i tedeschi occidentali, è la Nato che riesce, diciamo, a contenere i sovietici, però anche loro arrivano al divieto di circolazione e devono lasciare l'autostrada con i loro carri armati e i sovietici vincono la guerra. Insomma, scoppia la terza guerra mondiale, Berlino viene distrutta, come il resto d'Europa e del mondo, da un'esplosione atomica, però l'onore del codice della strada tedesco è salvo. Fra le trante bizzarrie che accadevano, accaddero intorno al muro di Berlino, una in particolare è rimasta, credo, nella memoria, nel cuore di un'intera generazione di tedeschi dell'Est. è il concerto che si tenne nel giugno del 1987 a Berlino-Ovest, ma che toccò particolarmente i ragazzi di Berlino-Est. Accadde questo, infatti, che degli organizzatori musicali di Berlino-Ovest avevano chiamato per un grande concerto da tenersi proprio al ridosso del muro, vicino al Reichstag, molti importanti artisti internazionali. Erano previsti Phil Collins, David Bowie, Leo Ritmix e altri, insomma, un'occasione importante per chi amava quel tipo di musica. La notizia, ovviamente, si diffuse immediatamente anche a Berlino-Oest e creò una grande agitazione per i giovani di Berlino-Oest, i quali pensavano che se si fossero avvicinati al muro da quella parte, e siamo proprio in pieno centro a Berlino, avrebbero potuto anche loro in qualche modo partecipare al concerto, non fisicamente, ma almeno sentirlo. La cosa arrivò, ovviamente, anche alle orecchie delle autorità e della polizia politica. E avvenne una cosa estremamente spiacevole, e cioè che quando i giovani cominciarono ad avvicinarsi a migliaia verso il luogo da dove avrebbero potuto seguire, pur restando all'este, il concerto, la polizia intervenne con molta durezza, usando i manganelli e per la prima volta anche dei bastoni che davano la scossa. Quindi ci furono molti feriti, e soprattutto ci fu moltissima amarezza, perché non si capiva che male potevano fare questi giovani andando ad ascoltare della musica vicino al muro. Più tardi il governo della RDT cercò di sostenere la tesi decisamente incredibile che avevano saputo che ci sarebbero stati dei gruppi che avrebbero tentato una fuga di massa durante il concerto. Cosa assolutamente improbabile. Per oggi è tutto, Vi saluto e vi do appuntamento, come di consueto, domani alle 8 della sera, sempre su Radio 2. Quelli che sicuramente soffrirono di più per il muro di Berlino e la divisione della città furono i giovani. L'episodio del concerto che si tenne nell'87 nella parte ovest della città e che molti ragazzi dell'est avrebbero voluto quantomeno ascoltare e furono duramente repressi dalla polizia, aveva creato fra questi ragazzi, fra questi giovani, un clima, se possibile, ancora più ostile nei confronti dell'ottosità del regime. Quello che si rimproverava soprattutto era l'idea che non si potesse uscire dal paese, che i giovani non potessero avere le cose che i giovani di tutto il mondo avevano, a cominciare dalla musica, dalla buona letteratura, dal cinema. E questo era un sentimento che contribuì moltissimo alla nascita e allo sviluppo della dissidenza politica. Ricordo che Ghero, un ragazzo che avevo già incontrato subito dopo la caduta del muro che mi aveva raccontato la sua fuga dalla RDT attraverso l'Ungheria, ricordava con molta tristezza quell'episodio dell'87 e con molta rabbia anche, tant'è vero che raccontò la cosa fu il motivo per lui e per alcuni suoi amici di organizzare una prima, piccolissima manifestazione di protesta che però nello spirito almeno in qualche modo anticipava quelle che sarebbero avvenute negli anni successivi. Quindi nel luglio dell'87, circa un mese dopo l'episodio del concerto, Ghero con alcuni amici, ma erano non più di sei o sette, si recò al checkpoint Charlie con l'obiettivo di fare un'azione dimostrativa e cioè cercare di passare all'ovest come se il confine fra Berlino Est e Berlino Ovest fosse un confine qualsiasi come quelli che ci sono fra paesi normali che esistono ma che possono essere attraversati. Quindi quel pomeriggio andarono con tanta rabbia al checkpoint Charlie. Era un pomeriggio molto caldo, per strada non c'era nessuno, mentre si avvicinavano al checkpoint Charlie sulla Friedrichstrasse, in pieno centro quindi di Berlino, incontrarono soltanto due VOPOS, cioè due agenti della polizia, che non provarono nemmeno a fermarli. Solo quando Ghero e gli altri si avvicinarono alla postazione dove venivano controllati i documenti, uscì una voce femminile da un altoparlante che intimò l'Alt. Intanto Ghero aveva avuto modo di sbirciare diciamo oltre il confine, senza vedere granché, perché in realtà quello che vide fu un paio di poliziotti di Berlino Ovest, dei militari americani, e la continuazione della Friedrichstrasse dalla parte occidentale che, diceva lui, sembrava esattamente identica alla nostra. Poi dall'edificio uscì una donna, una donna ufficiale di polizia, e disse andatemene, perché se fate ancora un passo commettete un reato. Allora uno dei ragazzi disse che se il reato di attraversamento illegale della frontiera non l'avevano ancora commesso, significava che erano ancora nel territorio dell'RDT e quindi avevano il diritto di restarci quanto tempo volevano. La donna a quel punto avrebbe potuto prenderla molto male e le conseguenze avrebbero potuto essere pesanti, ma evidentemente il caldo e forse l'età dei ragazzi che manifestavano la convinse un po' a non essere troppo dura. Andatevene a bere una birra da qualche parte, disse, e non mettetevi nei guai. Ecco, ho raccontato questo episodio perché credo che dia un po' il senso della frustrazione con cui i giovani dell'est vivevano la presenza del muro. Quando chiesi a Ghero se lui aveva mai pensato di fuggire, lui mi rispose, dice, certo che ci ho pensato, ci pensavo sempre, ma non seriamente. La Zonne Nallée, in italiano il Viale del Sole, è una lunga strada di Berlino che attraversa tutto il quartiere di Neukölln e finisce in quello di Treptow. Neukölln è all'ovest, Treptow è all'est. Al tempo del muro aveva la particolarità di trovarsi quindi quasi tutta all'ovest e soltanto un pezzettino, diciamo, poche decine di metri a Treptow e quindi all'est. Ovvio che chi abitava in quella parte, la parte sbagliata, per così dire, della zona Nallée, si sentisse particolarmente sfortunato. Se fosse vissuto solo qualche metro più in là, sarebbe stato all'ovest. Sullo strano destino di questa strada e dei suoi abitanti, c'è un romanzo di un giovane autore della ex RDT, Thomas Brussig, dal quale è stato tratto anche un film che ha avuto un certo successo, soprattutto a Berlino, ma che è uscito, credo, anche in Italia. Il romanzo si intitola in italiano In fondo al Viale del Sole e comincia con una trovata ironica e molto divertente. Comincia a Potsdam, alla famosa conferenza, nella quale i quattro grandi che hanno vinto la guerra stanno discutendo proprio l'assetto di Berlino e sono arrivati al punto in cui si tratta di definire il confine tra Neukölln e Treptow. Gli occidentali, in particolare Churchill, sono assolutamente determinati a far rientrare tutta la zona Nallée all'ovest. A un certo punto, però, a Churchill si spegne il sigaro, il proverbiale sigaro che teneva sempre in bocca, e Stalin, in un modo di gentilezza per lui abbastanza inconsueto, prende un fiammifero e glielo riaccende. Allora il primo ministro britannico, stupito e grato per il bel gesto di Stalin, dice al dittatore sovietico e va bene, tieniti pure un pezzo della zona Nallée. E così un pezzettino del Viale del Sole finisce per restare all'est. Il romanzo e il film che ne fu tratto sono una rappresentazione molto ostalgica, come si dice con un gioco di parole per il fatto che ost in tedesco vuol dire est e quindi diciamo che richiama in qualche modo la realtà e l'identità dell'est, della fuori di T. Una rappresentazione, dicevo, alquanto ostalgica di com'era la vita dei giovani nella Berlino divisa. Tra la vita normale di tutti i giovani, gli innamoramenti, i rapporti difficili con i genitori, le difficoltà a scuola e così via, e le angherie poliziesche del regime che con i giovani proprio non sapeva assolutamente come comportarsi e quindi i piccoli gesti di rivolta che però non turbavano più di tanto la vita del quartiere perché la vita poi scorreva tutto sommato abbastanza tranquilla. Verso i giovani il regime cerca di essere paternalista ma il più delle volte è goffo e in certe occasioni anche crudele. Pur di scoraggiare il traffico di blue jeans che era una cosa che i giovani della Germania orientale praticavano in massa a tratti dalle mode occidentali, il regime fa produrre dei jeans made in the air che i ragazzi trovano ovviamente orribili. La musica pop occidentale ora viene tollerata ora viene proibita e comunque in ogni caso è sempre vista di malocchio. La radio e i negozi di dischi sono riempiti da canzoncine e da uno pseudo rock dell'est che ovviamente non piace a nessuno anche perché la qualità a parte un gruppo che ebbe una certa meritata notorietà che si chiamava i Ramped Combo in realtà è musica un po' dozzinale che non piace ai ragazzi. Tutti i ragazzi vogliono andare di là ma nello stesso tempo e il romanzo lo descrive con molta ironia non sopportano di sentirsi umiliati dai turisti e dai vecchi parenti che hanno il permesso di venire all'est che arrivano con i loro soldi e l'atteggiamento di chi fa una specie di safari in una regione selvaggia. Quando Gert e Ulrike Poppe due dissidenti molto famosi cui va il merito di aver prodotto la ricostruzione più efficace dei metodi che la stati usava per colpire i dissidenti ebbero modo di consultare i loro dossier trovarono molto frequentemente il nome di un certo luogotenente Zönchen. Sarebbe interessante sapere che cosa è stata la sua vita dopo la caduta del muro. C'è un signor Zönchen che ha anche lo stesso nome di battesimo del luogotenente che perseguitava i poppe che dirige a Berlino un'agenzia di investigazioni private indagini sulle infedeltà familiari ma soprattutto sui comportamenti aziendali e sulla consistenza patrimoniale di imprese e privati. In fondo questo signor Zönchen svolge lo stesso lavoro che l'altro Zönchen se è un altro e non è lo stesso faceva una ventina di anni fa per la Staatssicherheit. Naturalmente non sappiamo se è la stessa persona sappiamo però che moltissimi ufficiali della Stasi nella Nuova Germania si sono riciclati proprio come investigatori privati in fin dei conti è il mestiere per il quale erano stati addestrati non risulta però che il nostro uomo sia mai stato oggetto di indagini particolari e neppure Gerd e Ulrike Poppe pare che abbiano mostrato una particolare curiosità per lui perché probabilmente sanno che le indagini servirebbero a ben poco il signor Zönchen sempre ammesso che si tratti della stessa persona anche se compì delle azioni assolutamente deplorevoli come ufficiale della Stasi non rischia nulla nessuno dei 300.000 e più agenti della Stasi e cioè 180.000 regolarmente reclutati più i 120.000 informelle mitarbeiter quindi le spie volontarie a soldati a suon di quattrini o di ricatti è infatti punibile per la legge della Nuova Germania a meno che non abbia compiuto reati specifici non immediatamente riconducibili al loro servizio ha voluto così la corte di Karlsruhe che è l'equivalente della nostra corte costituzionale con una sentenza in cui ha affermato che l'attività di spionaggio rientra nelle attribuzioni di sovranità di ogni Stato e quindi chi l'ha esercitata ritenendo di obbedire al buon diritto del proprio paese non può essere punito e quindi la maggioranza degli ex agenti della Stasi non ha nulla da temere questo spiega perché a differenza di quanto è avvenuto in altri paesi e di quanto è avvenuto in Germania nel dopoguerra nella ex RDT non si è mai sviluppata un'organizzazione sul tipo di Odessa quella che servì a proteggere e a nascondere alla giustizia le ex SS e i criminali nazisti non c'è nessun bisogno di questa protezione diciamo complottarda tant'è vero che gruppi di ex agenti regolari e soprattutto di ex ufficiali continuano a tenersi in contatto e l'estate di due anni fa uscirono addirittura allo scoperto in modo clamoroso accettando di partecipare a una specie di congresso organizzato da una università tedesca che solo dopo molte polemiche si tenne ma spostato in Danimarca diversa invece la condizione degli informelli mitarbeiter assai meno propensi in generale che ci smette a rimancare il passato ma anche qui non perché abbiano paura di conseguenze giuridiche e penali ma perché hanno ragionevole timore che emergano prove finora magari non emerse nascoste dei loro tradimenti privati delazioni e spionaggio danni di amici e familiari vantaggi finanziari e professionali realizzati sull'inganno e altre miserie di questa natura accanto agli agenti ufficiali e alle spie volontarie c'è un terzo gruppo di ex membri del servizio segreto della RDT si tratta degli agenti del controspionaggio vero e proprio cioè lo spionaggio esterno condotto in altri paesi che faceva capo alla Hauptverwaltung Abteilung HWA in sigla del celebre Marcus Wolf questi ex agenti potrebbero in realtà essere incriminati ma non in Germania potrebbero essere incriminati in base alle leggi degli stati che furono oggetto delle loro attenzioni anche questi però pare che non debbano avere molto da temere dalle stesse ammissioni dell'ultimo capo della HWA Werner Grossman che prese il posto di Marcus Wolf al momento della svolta politica nella RDT si sa infatti che negli archivi della CIA americana esiste un elenco chiamato l'archivio Sira che messo a confronto con i documenti sequestrati a suo tempo a Berlino permetterebbe ai servizi americani di ricostruire completamente l'elenco delle spie tedesco-orientali negli anni della guerra fredda questo spiega l'interesse che gli americani mostrarono fin dall'inizio per l'archivio della Normanenstrasse si ricorderà che in occasione della prima eruzione della folla nell'archivio stesso fu accertata la presenza di agenti segreti della CIA e dell'FBI ma Grossman è convinto che comunque l'intelligence americana non ne farà nulla per due motivi intanto per rendere noti quei nomi si dovrebbero fornire le prove di come si è arrivati a smascherarli e quindi delle trame non sempre limpidissime che furono ordite in Germania dai servizi segreti degli Stati Uniti prima e dopo l'unificazione e poi è risaputo che molti ex agenti tedesco-orientali hanno messo a disposizione degli Stati Uniti il loro notevolissimo bagaglio di conoscenze sulla Russia e di contatti con gli apparati poi passati al servizio di Putin e del nuovo potere del Cremlino la pubblicazione dei loro nomi sarebbe un modo per bruciare questi agenti e quindi un modo di privarsi di uno dei pochi strumenti di conoscenza dall'interno che gli occidentali possono avere sul sistema di potere di Putin e dei dirigenti attuali del Cremlino quindi ecco abbiamo tre gruppi gli agenti ufficiali dello spionaggio interno le spie volontarie e gli agenti del controspionaggio esterno nessuno dei quali è davvero interessato a un patto di solidarietà reciproco sul passato nessuno diciamo ha interesse a far rivivere in qualche modo in qualche forma un sistema che protegga chi ha fatto parte del più potente e pervasivo sistema di spionaggio mai messo in piedi negli anni del dopoguerra sul territorio europeo e forse in tutto il mondo non c'è una odessa nella storia della stasi dopo la stasi ci sono però molte cose che ancora debbano essere spiegate con questo vi saluto e vi do appuntamento come di consueto a domani alle 8 della sera su Radio 2 non ci sono state e a questo punto sicuramente non ci saranno particolari misure di punizione per chi aveva fatto parte del sistema spionistico della RDT della celebre stasi d'altra parte questa rinuncia alle punizioni è uno dei prezzi che la Germania ha pagato per il ritorno alla normalità e non è l'unico in generale si può dire che c'è stato un processo generale di cancellazione delle responsabilità individuali e accompagnato da molte reintegrazioni di vecchi funzionari e di persone che comunque avevano un ruolo nel far funzionare lo Stato l'amministrazione e l'economia nella Germania orientale per esempio i dirigenti delle imprese il management delle imprese e così via un'unica eccezione c'è in questo generale perdono fra virgolette che ha abbracciato tutti ed è quella dei professori i professori delle scuole superiori e soprattutto i professori universitari ai professori della ex RDT in effetti la Nuova Germania l'ha fatta pagare anche in modo abbastanza salato anche i professori che insegnavano magari materie tecniche e non avevano nulla a che vedere con materie di carattere politico o ideologico sono stati in genere allontanati e questo ha qualcosa a che vedere anche con l'atteggiamento che alcune università dell'Ovest hanno avuto un riflesso di protezione verso il corpo accademico esistente e l'idea che non si dovesse dare troppo spazio a professori e studiosi che venivano dall'Est a proposito della reintegrazione dei vecchi funzionari c'è un caso che mi colpì in modo particolare anche un po' spiacevole devo dire nelle settimane immediatamente successive alla caduta del muro di Berlino quando la capitale era ancora Bonn e Bonn stava organizzando una sede di staccata dell'ufficio stampa del governo federale a Berlino mi capitò di andare in questa sede che era poi la stessa in cui era stato il centro per i giornalisti dell'RDT e di incontrare un signore che conoscevo si chiamava Fred Müller e l'avevo conosciuto in circostanze un po' particolari molti anni prima verso l'83 e l'84 il giornale l'Unità mi aveva chiesto un reportage sulla situazione in Germania dopo gli avvenimenti polacchi cioè l'instaurazione del coprifuoco da parte di Jaruzelski e la grave crisi economica in cui versava quel paese dovevo insomma studiare un po' gli effetti che questo provocava sulla Germania all'ultimo giorno della mia permanenza a Berlino Est l'ultima sera vennero da me dei funzionari dell'ufficio stampa che mi dissero che la mattina dopo avrei avuto un incontro importante con il capo dell'ufficio la mattina dopo andai e di fronte a una tavola imbandita con ogni ventidio di queste colazioni berlinesi senza fondo trovai un signore che si alzò in piedi venne ad abbracciarmi e mostrava molta confidenza nei miei riguardi io avevo l'impressione di non averlo proprio mai visto ma pensai che forse mi sbagliavo questo signore che si qualificò come il dottor Müller cominciò a fare domande alquanto invarazzanti sulle posizioni di Berlinguer sull'ostilità che l'istacco diciamo che Berlinguer cercava da Mosca creava nel partito insomma evidentemente voleva delle informazioni riservate io piuttosto seccato gli risposi io faccio il giornalista queste cose non le so e comunque non ne parlerei con lei ci lasciamo in una situazione di notevole freddezza lo stesso Müller che nell'82 voleva informazioni riservate e le chiedeva in modo tanto sgradevole me lo ritrovai davanti a gennaio o febbraio del 90 come impiegato e funzionario del governo federale la cosa devo dire mi stupì abbastanza gli chiesi conto dell'incontro che avevamo avuto tanto tempo prima e che tra l'altro si era conclusa con la rivelazione da parte sua che era stato lui a provocare le molte difficoltà che io avevo incontrato per fare quel servizio per l'unità io appunto gli chiesi spiegazioni e lui fu molto vago e sfuggente gli chiesi però se aveva obiezioni a che io parlassi di lui con il capo dell'ufficio della sede di staccata dell'ufficio di Berlino che era un funzionario ovviamente del governo di Bonn lui disse no no non c'è problema quindi io andai a parlare con il suo capo e così non perché lo volessi danneggiare ma insomma perché la cosa mi incuriosiva chiesi spiegazioni chiesi ma come mai quello era diciamo una spia dichiarata della RDT e adesso fa l'alto funzionario del governo federale come funziona questa cosa al che il capo dell'ufficio mi disse ma che vuole era comunque una persona competente in ogni caso la sua punizione l'ha avuta perché prima era lui direttore dell'ufficio e adesso invece un impiegato come gli altri il direttore sono io e poi sa certe volte con chi è coerente si lavora anche meglio nel senso che lui ha cambiato idea adesso è fedele alla nuova Germania e quindi non vedo perché dovremmo licenziarlo ora può darsi anche che questo diciamo fosse vero in ogni caso è certo che moltissimi lavoratori dipendenti specialmente operai di fabbrica che si ritrovarono sul luogo di lavoro i vecchi dirigenti del tempo della RDT magari compiere le stesse angherie le stesse prepotenze ad avere lo stesso atteggiamento arrogante che avevano avuto al tempo del regime soltanto in nome di un altro governo beh questa gente non era affatto contenta ci furono molte proteste su questo particolare aspetto dell'unificazione tedesca e devo dire che molte di queste proteste erano abbastanza giustificate la cosa riguardò non soltanto i dirigenti di fabbriche imprese ma riguardò anche molti amministratori locali in una cittadina della Sassonia Analt nella quale io mi ricavo spesso perché l'avevo scelta un po' come diciamo città campione nella quale andare ad osservare i cambiamenti che avvenivano dopo l'unificazione c'era molta scontentezza nell'aria perché quello che era stato il responsabile della Stasi nella cittadina una cittadina relativamente piccola che tutti conoscevano dopo la caduta del muro e l'unificazione fu riciclato in un ruolo di consigliere politico del borgomastro e insomma non solo non pagò per le illegalità che aveva commesso ma fu in qualche modo anche promosso questo signore io l'avevo conosciuto nei giorni immediatamente successivi alla caduta del muro e lui non mostrava alcun problema a dire quello che aveva fatto anzi rivendicava in qualche modo di aver contribuito a salvaguardare la pace cittadina raccontò che aveva si inviato dei rapporti a Magdeburgo che era la capitale della regione ma che erano rapporti che non avevano fatto male a nessuno e certo è che dopo qualche mese nella sua nuova veste istituzionale l'uomo cominciò a avere una certa fortuna anche personale qualche anno dopo lo ritrovai a Berlino Ovest che si occupava della distribuzione di bevande tratte dalla frutta della zona intorno a Zerbst particolarmente famosa per la qualità dei suoi prodotti agricoli è evidente che questa generale amnistia delle responsabilità che fu decretata dalla nuova Germania nei confronti di chi aveva avuto un ruolo attivo e pesantemente negativo nel regime dell'RDT pesava particolarmente su chi invece di quel regime era stato vittima per esempio su Gertraud F la storia di Gertraud me la raccontò uno psicologo polacco che esercitava a Berlino e me la raccontò proprio in questa chiave e cioè per spiegarmi quanto era ingiusto che nella nuova Germania non si fosse tenuto conto delle persone che il male l'hanno ricevuto si sia invece soltanto troppo spesso perdonato che il male l'ha fatto Gertraud mi raccontò Enne non è una paziente è un'amica però è un'amica che avrebbe urgente bisogno di cure a suo tempo tanti anni fa era una brava ricercatrice chimica e lavorava in un laboratorio di Lipsia dove aveva davanti a sé la prospettiva di una bella carriera quindi vediamo Gertraud a Lipsia pienamente inserita nella società tedesco orientale non particolarmente brillante non particolarmente disinvolta nei rapporti sociali ma comunque una donna sicura di sé con una carriera da mano un giorno compare sulla sua strada un ragazzo un po' più giovane di lei e comincia una storia sentimentale però dopo qualche settimana Gertraud si rende conto che in quella storia c'è qualcosa che non funziona il ragazzo sembra molto più interessato al lavoro che lei fa piuttosto che a lei stessa fa continue domande sui suoi colleghi vuole sapere se qualcuno di loro viaggia all'estero vuole sapere quali sono le persone che hanno accesso a dei dati particolari e comincia a raccontare che il campo della chimica medica è un campo in cui la RDT è molto avanti e che quindi ci sono continui tentativi di spionaggio da parte di altri paesi insomma lei capisce che questa storia non è nata per l'interesse che ha suscitato nel ragazzo quanto piuttosto per un motivo diverso quindi c'è una scenata lei lo lascia e chiede di essere trasferita da Lipsi a Berlino sta a Berlino un paio di mesi e dopo un paio di mesi viene arrestata l'accusa è che ha tentato la fuga verso l'Ovest e questo sarebbe stato il motivo per il quale era venuta a Berlino lei nega perché non ha mai avuto l'intenzione di andarsene ha un lavoro che le piace non si occupa di politica tutta la sua famiglia i genitori e un fratello sono nella RDT e all'Ovest non conosce nessuno ma al secondo interrogatorio in carcere compare anche il suo ex fidanzato il quale conferma sì mi aveva detto che voleva trasferirsi a Berlino perché da qui è più facile fuggire è lui l'ex fidanzato che a un certo punto le offre un fazzoletto di cotone perché si asciughi il sudore poi l'ufficiale che conduce all'interrogatorio solleva il fazzoletto con un tagliacarte e lo fa cadere in un cassetto lei non capisce non sa come nessuno allora lo sapeva che la stasi quando può colleziona anche gli odori delle persone che scheda è un modo per identificare le persone una specie di DNA fatto alla buona diciamo così la sera dell'interrogatorio la rilasciano e le ordinano di tornare all'Ipsia qualche giorno dopo all'Ipsia la restano di nuovo stavolta l'odore viene raccolto costringendola a sedere su una sedia e ad alzare la gonna in modo da toccare con le gambe il panno che è sulla sedia se lei proprio vuole andarsene da quelli di là faccia le cose per bene le dice la donna della polizia che la interroga presenti una regolare domanda Gertraud pensa che il consiglio sia sincero e quando esce presenta la sua brava richiesta ufficiale cosicché quando l'arrestano per la terza volta hanno anche la prova tanto è vero che lei voleva fuggire signorina che ha tentato di farlo persino con il permesso dello Stato ma è stata una vostra funzionaria a suggerirmelo dice lei era per metterla alla prova e come vede ha funzionato Gertraud a questo punto è davvero nei guai ora le dice all'ufficiale della polizia che la sta interrogando una donna ci sarà l'istruttoria sul suo tentativo di fuga dalla Repubblica l'istruttoria consiste in un interrogatorio che dura tutta la notte con la richiesta di firmare carte che Gertraud non ha nemmeno la forza di leggere e con altre due o tre ore la mattina dopo passate in piedi accanto a un divano sul quale la proibizione è assoluta di stendersi a meno che non confessi la sera Gertraud viene caricata su un pulmino e viene portata in carcere a giudicare dalla distanza che lei calcola mentalmente dovrebbe essersi trattato del famoso penitenziario di Bautzen a pochi chilometri da Dresda lei però non ne sarà mai sicura perché viene chiusa in una cella di isolamento con le luci sempre accese e viene lasciata da sola per tre o quattro giorni la sera del terzo o quarto giorno la vengono a prendere la caricano su un pullman sul quale salgono poi altri sei o sette detenuti il pullman parte e viaggia tutta la notte verso ovest all'alba attraversa un ponte sull'elba che segna il confine intertedesco Gertraud insieme con gli altri che sono con lei è stata comprata dal governo federale un gruppo di amici conoscenti dell'ovest tra cui il nostro psicologo polacco aveva saputo che cosa stava accadendo e ha chiesto l'intervento di un avvocato specializzato il ministero dell'interno di Bonn ha un fondo speciale per riscattare i prigionieri dell'est e a Berlino c'è l'avvocato Vogel che praticamente si occupa solo di questo procaccia buoni marchi dell'ovest che vanno a finire nelle casse di Schalk Golodowski un inquietante personaggio un trafficante di valuta occidentale a cavo di un misterioso ufficio che praticamente serve soltanto a procurare valuta occidentale alla RDT quando il gruppetto di ex prigionieri riparte dal posto dei confine e attraversando una parte dell'RDT arriva a Berlino ovest c'è una piccola delegazione ad attenderli un amico dello psicologo e di Gertraud forse con l'intenzione diciamo di sdrammatizzare il clima si mette a scherzare dice non sai quanti bei soldi ci siete costati voi tutti a noi poveri contribuenti occidentali lei si infuria comincia ad insultarlo e vuole scappare via lui dice lo psicologo è stato un cretino ma la reazione di lei mostrava un disagio comunque fortissimo come se non la stessero liberando ma chiudendone in un'altra gabbia a nessuno piace pensare di essere comprato è un fatto e anche il nostro amico psicologo lo conferma che prima della caduta del muro specialisti e autorità di Berlino si sono dovuti occupare seriamente del disagio di chi riusciva ad arrivare al di qua del muro e proprio i comprati le persone che venivano comprate erano quelle che avevano le maggiori difficoltà ricordo che ci fu un professore universitario italiano che dette scandalo racconta sempre lo psicologo perché in una conferenza pubblica sostenne che c'era sì molta gente che voleva scappare dall'est all'ovest ma c'era anche chi voleva tornare non mi piacque affatto lo spirito con cui fece quell'osservazione e però qualcosa di vero c'era ci sono stati davvero dei casi di ritorno che furono ovviamente molto sfruttati dalla propaganda comunista c'erano tante persone che di là non stavano bene e che venivano di qua perché cercavano le libertà e che poi scoprivano che nella libertà non sapevano vivere perché la vita era dura nella RdT ma può essere dura anche nella Germania libera e arrivavano persone che non erano assolutamente attrezzate contro questa durezza gente che non era abituata a cercarsi un lavoro o una casa perché all'una o l'altra magari male ma all'una o l'altra pensava qualcun altro persone che non riuscivano ad abituarsi alla spersonalizzazione dei rapporti sociali che è tipica di queste nostre società gente che dava del tu a chi non doveva che tentava troppo presto di familiarizzare nella RdT a suo tempo c'erano pochi telefoni nelle case così per i berlinesi dell'est era abbastanza consueto uscire e passare da un amico per vedere se era in casa chi manteneva questa abitudine anche qui all'ovest veniva subito considerato uno scocciatore invadente e maleducato perché da noi si va in casa ad altri solo dopo un invito formale sembra una stupidaggine ma nel mio lavoro diceva lo psicologo vengo molto spesso a contatto con persone che soffrono soffrono veramente per queste difficoltà ancora oggi e per oggi è tutto vi do appuntamento come di consueto a domani alle 8 della sera sempre su Radio 2 Gertraud F fu una delle tante persone che soffrirono in modo particolare il cinismo delle misure messe in atto dalla Stasi contro quelli che riteneva ai suoi nemici lei infatti apparteneva al novero di quei circa 34.000 prigionieri politici che furono venduti letteralmente venduti alle autorità della Repubblica Federale in cambio di valuta occidentale l'ultima volta che la vidi fu per un pranzo che un amico comune un psicologo d'origine polacca aveva organizzato proprio per farmela conoscere Gertraud arrivò con molto ritardo e spiegò ritardo dicendo che aveva voluto evitare che il tassi attraversasse Berlino Est lei infatti si rifiutava di rimettere piede in quella che era stata la Repubblica Democratica tedesca non era tornata neppure all'Ipsia la sua città natale è la città in cui lavorava aveva lavorato fino al momento in cui un agente ufficiale della Stasi non aveva cercato di sedurla per carpirle segreti sul suo luogo di lavoro lei era una chimica lavorava in un importante laboratorio chimico e non voleva avere più nessun rapporto con l'est della Germania però anche Berlino Ovest si trovava male disse che non riusciva a vivere una vita normale e che stava pensando con il marito di trasferirsi all'estero in Francia o in Italia mentre raccontava questo Gertraud aveva gli occhi persi nel vuoto mi ricordava in qualche modo la foto che avevo visto pochissimi giorni prima a corredo di un'intervista a Ibrahim Böme la più famosa forse delle spie che furono smascherate nella RDT uno sguardo perso nel vuoto come se non riuscissero né lei né Böme a trovarsi in qualche modo in sintonia con il mondo nel quale vivevano adesso la vendita dei prigionieri politici fu un capitolo molto pesante dei rapporti intertedeschi il traffico cominciò molto presto già all'inizio degli anni 60 quando il muro era stato appena eretto il governo di Bonn incaricò un sottosegretario di occuparsi della vicenda e il sottosegretario andò all'est con una valigetta piena di marchi occidentali e prese contatto con un avvocato che si chiamava Wolfgang Vogel ed era un intimo amico di Von Ecker sulla base dei contatti fra i due nacque un sistema abbastanza complesso per ogni prigioniero politico il governo federale pagava una somma che variava ma che poteva essere anche considerevole si calcola che nei 28 anni di esistenza del muro in questo modo la Repubblica Democratica tedesca abbia incamerato la bellezza di 3,6 miliardi di marchi occidentali tanto che si diceva allora che i prigionieri politici erano il più importante materiale da esportazione della RDT ad occuparsi della vicenda all'est non era soltanto l'avvocato Vogel ma c'era anche un certo Alexander Schalk Golodkowski che era il capo di un organismo un po' misterioso che si chiamava il coordinamento commerciale questo organismo aveva come unico scopo si sarebbe scoperto poi quello di procacciare valuta occidentale per le esigenze della RDT valuta occidentale una parte della quale comunque rimaneva poi nelle tasche sue e di alcuni bonzi della nomenclatura della RDT intorno al traffico dei prigionieri politici non ci fu mai grande pubblicità da parte della RDT però ovvi motivi ma anche in Germania occidentale si cercò di evitare che la stampa ne parlasse tanto che un vice cancelliere fu incaricato una volta di fare un giro proprio nelle redazioni dei giornali e delle televisioni per convincere i giornalisti a non parlarne troppo perché si temeva che se la vicenda fosse diventata uno scandalo nazionale la possibilità di liberare delle persone sarebbe morta il traffico dei prigionieri politici funzionava diciamo grosso modo così il governo di Bonn segnalava alle autorità di Berlino le persone che era interessato a riscattare in genere si trattava di spie di secondo rango di funzionari statali dell'ovest che erano in qualche modo incappati nella repressione ad est oppure di personaggi privati che venivano appoggiati da qualche lobby o da persone che erano disposte anche a contribuire al pagamento del riscatto le persone riscattate venivano portate poi su un'autostrada che andava all'ovest ai posti di frontiera di Hermsdorf e Warta Herleshausen e là venivano consegnate alle autorità tedesco federali nei casi più importanti invece si usava il ponte di Gliniche un ponte che unisce Potsdam nella RDT alla periferia sud-ovest di Berlino-ovest attraversando il fiume Havel è su questo ponte che avvennero gli scambi di spie più clamorosi fra il blocco dell'est e i paesi occidentali il caso più clamoroso fu quello del dissidente sovietico Sharansky il quale fu fatto transitare sul ponte di Gliniche verso l'ovest in una giornata freddissima di pieno inverno faceva quasi 20 gradi sotto zero il lago ovviamente il Van Zee era totalmente ghiacciato ma anche il fiume cominciava a ghiacciarsi il che fece rischiare grosso a una giornalista della televisione americana credo che fosse la CBS che nonostante tutti gli avvertimenti dei poliziotti di Berlino ovest era andata sulla banchina per filmare più da vicino le guardie di confine che stavano dall'altra parte il blocco di ghiaccio sul quale si trovava si staccò dalla riva e cominciò a galleggiare e andare verso la Germania orientale diciamo e lei per poco non finì in braccio ai VOPOS alla polizia della Germania est Schalke Golodkowski non si occupava soltanto di questo traffico era in realtà una figura centrale in tutte le vicende che in qualche modo riguardavano l'approvvigionamento di valuta dell'ovest da parte della Germania est perché ci fu fra le due Germanie un traffico molto intenso di rapporti economici il più delle volte coperti ci furono prestiti esportazioni agevolate contributi a fondo perduto promossi soprattutto dalla baviera di Franz Josef Strauss il leader storico della CSU tanto che si disse si diceva all'epoca che la RDT di nascosto era diventato in realtà l'undicesimo membro della comunità europea allora la comunità europea ora Unione Europea contava in realtà soltanto dieci membri il motivo per cui la Repubblica Federale e in particolare la Baviera di Strauss stringevano tanti rapporti economici con Berlino Est era ovviamente di carattere umanitario si trattava di rendere più facile la vita ai fratelli separati dell'Est ottenendo in contropartita di questi contributi qualche facilitazione per il passaggio delle persone attraverso il confine intertedesco in effetti dovete essere legato a qualche trattativa economica l'accordo anzi una serie di accordi che furono stretti fra Bonn e Berlino Est negli anni 70 che permisero il passaggio delle persone anziane dell'Ovest che avevano parenti all'Est e certe facilitazioni in occasione di eventi privati importanti come lutti funerali malattie gravi matrimoni e altro di cittadini dell'Est che avevano parenti all'Ovest i passaggi di persone tra l'Ovest e l'Est avvenivano prevalentemente a Berlino e a Berlino avvenivano soprattutto tramite la rete ferroviaria e in particolare nello snodo ferroviario della stazione della Friedrichstrasse la stazione della Esban cioè della metropolitana di superficie la stazione era divisa in due settori il settore superiore era parte integrante del rete di Berlino Est e quindi era a pieno titolo territorio di Berlino Est il piano inferiore invece era parte della rete complessiva della città e quindi ci si poteva arrivare anche con treni provenienti dall'Ovest nella stazione c'era un edificio nel quale le persone che erano state in visita all'Est e tornavano all'Ovest e prendevano commiato dai parenti o gli amici che erano andati a trovare quindi in questo edificio si vivevano momenti di particolare commozione tanto che l'edificio era un grande baraccone di cemento fu chiamato il Trenen Palast cioè il palazzo delle lacrime c'è da notare che dopo la caduta del muro e l'unificazione delle due Berlino il Trenen Palast non fu abbattuto a differenza di tante altre testimonianze al tempo della RDT diventò una sorta di spazio per rappresentazioni teatrali musicali per dibattiti convegni soprattutto per quelli che in qualche modo ricordavano il passato del muro e della divisione della città quando fu reso possibile l'accesso all'archivio della Stasi una delle cose di interesse più vasto ovviamente era l'analisi dei motivi che avevano spinto tante persone ricordiamo che i collaboratori informali quindi le spie volontarie erano più di 120.000 motivi che avevano spinto queste persone ad accettare di fare questo lavoro ovviamente il motivo principale quasi esclusivo era il ricatto ma i ricatti potevano essere di varia natura dallo studio della sezione dell'archivio dedicata in modo particolare ai collaboratori informali la cosiddetta I.M. Acten si possono desumere quali erano i principali motivi di ricatto il primo era diciamo un ricatto di natura politica per così dire e cioè la persona che si voleva convincere a collaborare veniva avvicinata dalla polizia segreta la quale gli diceva che se non avesse collaborato sarebbe stata diffusa in giro sospetto che lui era già un collaboratore della Stasi oppure che era un dissidente particolarmente pericoloso e con tutte le conseguenze che ne derivavano un sistema tipico di convincere le persone a collaborare era quello di arrestare le persone per proposito di espatrio illegale che era un vero e proprio reato nella RDT e poi al momento di rilasciarla dirgli che non se ne sarebbe fatto nulla il procedimento non avrebbe avuto un seguito se lui accettava di collaborare oppure ancora più perfidamente di arrestare un familiare o una persona comunque legata alla persona da mettere sotto torchio e dirgli se tu non collabori questa persona verrà arrestata e verrà perseguita perché diremmo che voleva fuggire all'estero cioè da considerare che questa minaccia valeva tanto per le persone che erano state già individuate come dissidenti e che in qualche modo effettivamente avevano una certa ostilità per il regime ma molto spesso furono utilizzate anche con delle persone che non avevano alcuna intenzione di danneggiare lo Stato o di fuggire all'estero che avevano la particolare sfortuna però di essere in possesso di informazioni particolari o di frequentare ambienti che la Stasi voleva mettere particolarmente sotto osservazione con le persone che esercitavano professioni in cui era essenziale godere se non dell'appoggio almeno della neutralità della non ostilità dell'autorità il gioco del ricatto spesso era molto sottile attori che improvvisamente non trovavano più ingaggi scrittori cui le case editrici cominciavano a creare difficoltà artisti che non ricevevano più commesse finché non dicevano di sì soltanto quando queste persone cedevano tutto ricominciava come prima e qualche volta anche meglio di prima mi capitò di venire a conoscenza di un caso che riguardò un'attrice era un'attrice abbastanza conosciuta e amata nella RDT che aveva conquistato una certa popolarità interpretando una commedia comico-sentimentale forse l'unica commedia leggera diciamo così della cinematografia tedesco-orientale che ha avuto un buon successo nel paese un dirigente della Lega dei Cineasti un giorno chiese a questa attrice di stringere amicizia con un uomo di cinema legato a un partito comunista dell'Ovest che avrebbe passato un periodo di tempo a Berlino lei rifiutò e raccontò tutto alla vittima designata e questa commise l'errore di andare a protestare col dirigente del Ministero della Cultura che aveva organizzato il suo soggiorno bene quel giorno la carriera dell'attrice finì improvvisamente i registi che prima facevano la corte perché la volevano nelle loro produzioni scomparirono la stampa smise del tutto di parlarne ebbe soltanto delle particine minori a teatro e soltanto dopo l'unificazione tedesca poter riavere qualche ruolo in produzioni cinematografiche ma ormai in produzioni minori perché il pubblico l'aveva dimenticata diverso fu il caso invece di E.B che era una cantante ed era la solista di un coro abbastanza famoso e molto diciamo apprezzato dal regime perché aveva un repertorio prevalentemente politico cantavano canzoni di Brecht di Kurt Weill e assolutamente ortodosso il gruppo godeva quindi di una situazione di privilegio ed era tanto ben visto dall'autorità che alcuni suoi membri anzi soltanto delle ragazze che ne facevano parte fu autorizzato a un certo punto a fare una tournée all'estero vennero anche in Italia cosa davvero straordinaria per una formazione composta quasi esclusivamente da giovani bene E.B fu avvicinata della Stasi che la incaricò formalmente di raccogliere notizie dai suoi amici stranieri e l'interesse era soprattutto per quello che succedeva nei partiti comunisti francese spagnolo italiano erano infatti gli anni dell'eurocomunismo che preoccupavano non poco l'ala ortodosso diciamo della SED e anche e soprattutto il partito comunista dell'Unione Sovietica E.B fu molto contrariata dalla proposta però decise di non opporre una resistenza aperta che le sarebbe costata la carriera e quindi adottò una tattica elastica non disse di no ma cominciò sistematicamente a informare gli interlocutori della richiesta della Stasi e di volta in volta si accordava con loro su quanto raccontare in genere era il contrario di quello che al Ministero della Sicurezza speravano di sentirsi dire c'è da dire però che E.B la fece franca diciamo non fu mai scoperta ma la Stasi non era così ingenua in molti altri casi si premuniva contro l'eventualità di un doppio gioco del genere tanto che si scoprì sempre dagli archivi che esistevano moltissime spie il cui unico scopo era quello di vigilare su il comportamento di altre spie e cioè dovevano spiare su come spiavano gli spioni diciamo così e molte persone che cercavano di barcamenarsi nel modo D e B furono scoperte e punite con questo per oggi vi lascio e vi do appuntamento domani alle 8 della sera sempre su Radio 2 i metodi che la Stasi usava per ricattare le persone e convincerne molte a collaborare al controllo e al condizionamento della vita dei dissidenti e dei nemici politici furono molti fra questi c'erano anche i ricatti di natura sessuale questi ricatti erano abbastanza semplici da praticare in una società come quella della RDT che era caratterizzata da una certa libertà di costumi ma era molto controllata un modo per convincere qualcuno a riferire sul partner era di procurargli un'avventura e poi minacciare di raccontare tutto molti tradimenti della fedeltà coniugale vennero alla luce dopo l'apertura degli archivi e furono a causa di un numero che non è stato mai precisato ma sicuramente deve essere stato abbastanza alto di divorzi non tanto per gli aspetti sessuali e sentimentali quanto per la sorpresa e il dolore di chi all'improvviso scopriva di essere stato spiato o spiata proprio dal compagno o dalla compagna della vita un aspetto curioso e sicuramente abbastanza triste di questo fenomeno riguardò proprio il protagonista del famoso film La vita degli altri cioè il film che molti avranno visto e che raccontava in modo dettagliato e con molta umanità una vicenda della stasi cioè il tentativo riuscito della stasi di spiare e condizionare la vita di una attrice e di uno scrittore abbastanza famosi importanti ebbene il protagonista del film che era l'attore Ulrich Mühe aveva avuto una storia molto simile a quella che poi veniva raccontata nel film in una intervista rilasciata dopo che il film era uscito dopo che aveva vinto anche l'Oscar per il miglior film straniero a Los Angeles Ulrich Mühe è il protagonista quello che nel film è il capitano della stasi Wiesler che è incaricato di organizzare il controllo che dovrà rovinare la vita di Christa Maria Zeeland l'attrice legata sentimentalmente allo scrittore Dreiman quindi Mühe il vero Mühe non il personaggio raccontò che lui era stato protagonista di una storia del tutto simile raccontò che la sua seconda moglie Gianni Grohlman che era stata un'attrice di teatro abbastanza importante sulla scena tedesco orientale per anni aveva riferito alla stasi tutte le confidenze non soltanto sue private ma anche della cerchia dei suoi amici perché era stata diciamo arruolata dalla stasi stessa Gianni Grohlman respinse molto seccamente questa accusa riuscì anche a impedire la pubblicazione dell'intervista rivolgendosi a un tribunale però la notizia diciamo la vicenda uscì comunque sui giornali tedeschi e fu forse l'ultima manifestazione pubblica di Ulrich Mühe che già al tempo della realizzazione del film le vite degli altri era molto malato e che sarebbe morto nel 2007 per un tumore allo stomaco ci furono per fortuna anche storie di tradimenti che finirono in modo non così tragico per esempio quella che riguardò i coniugi poppe che furono oggetto di una fra le tante e spiacevolissime attenzioni di cui erano stati fatti oggetto da parte della stasi furono anche oggetto di un tentativo di introdurre nella coppia che la polizia politica sapeva già essere un po' in crisi per motivi del tutto personali il tentativo dicevo di introdurre un elemento di disturbo con un romeo abbiamo già visto questa pratica dei romei che avrebbe dovuto sedurre un riche poppe affrettando così i tempi del divorzio cosa che avrebbe screditato e messo in difficoltà la coppia e i dissidenti presso i circoli a loro vicini in realtà la cosa non funzionò affatto perché il romeo fallì il suo obiettivo e anzi la coppia sia pure provvisoriamente perché poi alla fine il divorzio si arrivò si rinsaldò abbiamo visto anche la vicenda del carabiniere italiano che era stato sedotto da una Giulietta spia dell'est e la conclusione felice che poi la vicenda aveva avuto grazie all'intervento almeno così diceva lui personale di Marcus Wolf quindi i quicatti di natura sessuale erano un altro grosso capitolo dei metodi con cui la Stasi assoldava i suoi collaboratori c'è da dire però che c'era anche un ampio settore di lavoro diciamo in cui operavano agenti che non facevano alcun mistero di essere delle spie erano per esempio i cosiddetti betroyer e cioè i fiduciari che l'organizzazione incaricata di curare l'informazione per i giornalisti stranieri in base agli accordi del 1975 della carta di Helsinki cui anche la RDT aveva aderito i fiduciari dicevo venivano messi a disposizione dei giornalisti stranieri perché li aiutassero nel loro lavoro in realtà lungi dall'aiutarli i betroyer erano in qualche modo spie dichiarate che nel migliore dei casi si limitavano a riferire ai loro superiori di quello che i giornalisti occidentali facevano nel peggiore dei casi come avvenne regolarmente nei mesi più convulsi della crisi della RDT invece lavoravano per così dire improprio e cercavano di creare tutte le difficoltà possibili e immaginabili alle persone che avrebbero dovuto aiutare ricordo un caso molto particolare che mi colpì molto un giorno che durante la visita di Gorbaciov a Berlino il 7 ottobre dell'89 insieme con una collega avevamo chiesto di poter incontrare il parroco di una parrocchia evangelica della periferia berlinese che si era particolarmente impegnato nel movimento dei riformatori in un primo momento i funzionari dell'ufficio stampa cercarono di risuoderci dall'incontrare questa persona dicendo che non era importante che cosa ci importava perché dovevamo andare così lontano e così via di fronte alla nostra fermezza nel chiedere l'incontro ci misero alle calcagna due betroyer particolarmente solerti i quali ci seguivano ma senza fare il minimo sforzo di nascondersi su una Wartburg era una delle macchine dell'est che venivano usate normalmente proprio dalla polizia politica una Wartburg bianca che seguiva la nostra auto dovunque andasse quando arrivammo dal parroco cominciammo a parlare mentre parlavamo con lui arrivarono due telefonate chiaramente di insulti e di minacce io mi alzai dalla sedia dove eravamo seduti andai alla finestra e vedi che alla fine della seconda telefonata in modo molto plateale uno dei due betroyer stava tornando la macchina all'epoca non esistevano i telefonini portatili e l'uomo era andato a telefonare da un posto pubblico la ricostruzione di questo mondo di quello delle vittime della stasi ma soprattutto delle spie fu reso possibile in modo sistematico per le persone che erano interessate e anche per i ricercatori storici dalla fine del 1991 esattamente dal 30 dicembre del 1991 quando fu approvata la legge che istituiva il BSTU una sigla complicatissima anche per i tedeschi che indicava l'ufficio federale di gestione dell'archivio della stasi che tutti subito in Germania chiamarono Gauk Behörde dal nome del pastore evangelico Gauk che era stato uno dei dirigenti del movimento riformatore e poi dopo la caduta del muro di Berlino si era particolarmente impegnato perché l'archivio venisse aperto la legge arrivò alla fine di un aspro dibattito fra chi avrebbe voluto che l'archivio venisse chiuso e sepolto insieme con le carte che custodiva e chi voleva invece che venisse aperto con la più ampia pubblicità alla fine fu trovata una soluzione razionale e molto democratica va detto che non fu per esempio adottata in altri paesi del blocco dell'est dove la gestione dell'archivio dei vari servizi segreti sarebbe stata negli anni successivi motivo di grandi frizioni politiche e anche in qualche caso di gradevolissimi ricatti politici in Germania mi aveva detto questo fu evitato la legge prevede sostanzialmente che abbia accesso ai dossier che riguardano la propria persona e il proprio caso tutti i cittadini tedeschi dell'est e dell'ovest che abbiano fondato motivo di ritenere che durante il regime dell'RDT ci siano state nei suoi confronti illecite misure di polizia va detto che anche gli stranieri particolarmente i giornalisti a certe condizioni sono autorizzati ad accedere agli archivi naturalmente l'accesso è poi accompagnato da una serie di misure che garantiscano la privacy ed evitino quello che invece accadde un po' nelle primissime settimane nei primi mesi dopo la caduta del muro di Berlino cioè il diffondersi di una ridda di voci di sidice e di notizie incontrollabili che tendevano a coinvolgere un po' tutti e che spesso furono utilizzate in modo molto improprio per motivi di lotta politica la discussione sul che fare dell'archivio della Normannestrasse si intrecciò temporalmente per certi versi anche sotto il prefilo dei contenuti a quella che si svolse altrettanto aspra negli stessi mesi sul trasferimento o meno da Bonn a Berlino della capitale della Nuova Germania nel momento in cui era caduto il muro e Berlino Ovest e Berlino Est erano state riunificate in base alla Costituzione tedesca in realtà la capitale era diventata automaticamente Berlino si trattava perciò di decidere se Berlino doveva rimanere capitale soltanto simbolica oppure effettivamente il governo e i massimi uffici federali si dovessero spostare da Bonn a Berlino appunto la discussione fu molto aspra e molto complicata e si concluse il 20 giugno del 1991 con uno storico voto del Bundestag che decise con 338 voti a favore di Berlino contro 320 che erano andati a Bonn il problema del trasferimento della capitale da Bonn a Berlino aveva un retroscena politico e politico-culturale molto importante Bonn infatti rappresentava una certa idea della Germania e Berlino rappresentava un'altra idea diversa della Germania Bonn era una piccola città nella Renania quindi nella regione della Germania tradizionalmente più aperta verso la Francia il Benelux e la Gran Bretagna la parte più occidentale diciamo con un'economia industriale molto sviluppata e con una tradizione democratica che si poteva far risalire fino ai tempi dell'occupazione napoleonica Berlino invece rappresentava la tipica eredità prussiana quella degli Hohenzollern quella degli Juncker i grandi proprietari terrieri della nobiltà più chiusa e con un'economia fondata prevalentemente sul latifondo agricolo una tradizione che va detto durante gli anni della RDT specialmente Honecker e altri dirigenti del paese non avevano esitato anche a sfruttare al loro vantaggio tant'è che il castello degli Hohenzollern era stato abbattuto ma era stato lasciato sulla Hunter dell'Inden la grande statua di Federico il Grande è evidente che chi propendeva per Bonn voleva sottolineare con questa sua scelta un'idea della Germania più legata ai suoi partner occidentali più legata alla comunità europea e alla Nato e aveva un po' il sospetto che lo spostamento a Berlino spostasse verso est l'asse politico-culturale della Germania lo spostasse verso l'Oriente verso la Russia in particolare come geograficamente era rappresentato dal fatto che Berlino si trovava soltanto a 70 km dall'Oder e quindi dalla frontiera attuale con la Polonia e diciamo era già in quella grande pianura che occupa tutto il nord-est europeo arrivando fino a Mosca ed oltre d'altra parte chi invece propendeva per Berlino tendeva a considerare Bonn una capitale non soltanto un po' finta ma anche socialmente inadeguata perché si trovava in una regione lontana dai problemi le contraddizioni le difficoltà che i tedeschi soprattutto quelli dell'est che venivano dall'esperienza della RDT si trovavano ad affrontare nella vita reale e quindi Berlino non aveva soltanto questa connotazione diciamo sgradevole di città prussiana e di non dimentichiamo capitale del Terzo Reich quindi con tutti i ricordi del nazismo che ancora in qualche modo leggiavano su di essa ma era anche però una città che rappresentava la volontà che il governo fosse più vicino al paese reale ai tedeschi che soffrivano che non ce la facevano ad andare avanti che stavano ricostruendo in modo estremamente faticoso specialmente nei primi anni il tessuto di un paese moderno la scelta dolorosa difficile che fu fatta alla lunga si dimostrò efficace sotto questo profilo perché il passaggio da Bonn a Berlino comportò un grande flusso di investimenti su Berlino e quindi sull'area circostante e quindi sui lender dell'est la ex RDT che nel giro di pochi anni fece toccare all'economia dell'est quasi gli stessi livelli di ricchezza dei lender dell'ovest a gestire in modo particolare questo momento di passaggio che comportava anche la gestione dei beni che erano stati di proprietà pubblica nel regime dell'RDT fu un ente creato appositamente dal governo federale e si chiamava la Troy Hand la Troy Hand gestiva i beni e i servizi vendeva sostanzialmente i beni e i servizi dell'est agli investitori occidentali e certe volte va detto agì con una certa disinvoltura pare in effetti che in quel periodo ci furono moltissimi investimenti nascosti della mafia russa e pare anche della criminalità italiana si dice in modo particolare della camorra napoletana si diceva all'epoca che la camorra avesse investito nella ex RDT una quantità di soldi straordinaria addirittura 70 miliardi di marchi dell'epoca con questo la puntata di oggi finisce e vi do appuntamento a lunedì prossimo sempre su Radio 2 alle 8 della sera lo spostamento della capitale da Bonn a Berlino spostamento che avvenne in modo graduale ma abbastanza rapido ebbe anche come conseguenza dei mutamenti che avvennero all'interno del tessuto berlinese come la Germania si spostava in qualche modo da ovest verso est anche la vita berlinese la vita culturale la vita economica gli spettacoli la vita consueta delle persone cominciò a gravitare sempre più verso l'est quello che era stato il più famoso forse dei quartieri alternativi diciamo così giovanili in cui si dispiegava la cosiddetta scene di Berlino cioè questa particolare commistione di cultura giovanile di avanguardia artistica che era stato Kreuzberg diventò MIT e cioè l'antico quartiere centrale della vecchia berlino predivisione e soprattutto il Prenzlauerberg il quartiere immediatamente a nord del centro dove cominciarono a fiorire teatri ristoranti alternativi comuni di giovani quello che era stato che fino a qualche anno prima era stato appunto Kreuzberg questo spostamento verso est configurò una certa deoccidentalizzazione di una città che si era sentita sempre molto vicina a New York e magari a Londra e abbastanza diversa invece delle grandi metropoli europee come Parigi Madrid o Roma Berlino in qualche modo spostandosi verso est diventava invece più europea più continentale diventava veramente quello che la sua collocazione geografica voleva che fosse cioè un crocevia fra l'est e l'ovest un crocevia rappresentato in qualche modo simbolicamente dal grande asse che attraversa la città da est all'ovest e che è formato dalla Unter der Linden la grande strada monumentale dell'est che continua dopo la porta di Brandenburg e quindi all'ovest con la Strasse der Sitz Stenjuni e poi con la Bismarckstrasse è un'arteria lunghissima lunga più di 15 chilometri che in qualche modo simbolicamente unisce l'est dell'Europa all'ovest Mosca e Parigi anche se c'è una battuta molto autodenigratoria che circola a Mosca che dice che partendo da Pechino viaggiando sempre verso l'ovest la prima grande città che si incontra è Berlino il che è un modo per dire che Mosca non è una grande città è ancora troppo provinciale ma insomma questo è un problema che riguarda i russi ricordo che in un periodo molto particolare della vicenda cittadina di Berlino unificata cioè quando nel 95 il famoso artista bulgaro Cristo insieme con la moglie decise di impacchettare secondo il suo stile il Reichstag lì a Berlino cosa che le autorità tedesche concessero dopo una lunghissima discussione tipicamente tedesca molto di principio ricordo che in quei giorni molto belli perché era l'inizio dell'estate tutti quanti i berlinesi andavano a vedere questa cosa straordinaria che non avrebbero mai più vista cioè il Reichstag coperto da questo grandissimo lenzuolone bianco tutto legato fece un incontro che mi è rimasto insomma nella memoria all'incontro con una ragazzina era quasi un'adolescente russa la quale ogni giorno per tutto il periodo in cui ci fu questa specie di festa al Reichstag si sedette sul bordo di questa grande strada dell'ovest e dell'est e suonava molto molto bene la fisarmonica io la intervistai per sapere un po' chi era che faceva perché e lei mi disse proprio questo a me piacerebbe che Berlino fosse veramente il centro d'Europa culturale come adesso è diventato il centro d'Europa geografico molto del fascino che Berlino esercita anche oggi specialmente sui più giovani è dato da questo suo aspetto diciamo da questo suo saper essere punto di incontro tra est e ovest e quindi vero centro europeo in questo Berlino offre veramente una tradizione di ottimo livello in tutti i campi in cui l'Europa è culturalmente ricca il teatro la musica sia la musica classica che la musica moderna e giovanile l'architettura le arti figurative recentemente anche il cinema che prima era diciamo un po' una cenerentola nel panorama artistico tedesco naturalmente un po' del fascino di Berlino è anche legato al suo passato più recente anche se la cosa può sembrare strana e per certi versi anche spiacevole ma l'idea che Berlino sia stata fino a pochi anni fa la capitale spionistica del mondo naturalmente ha un suo fascino come ha un suo fascino il ricordo di una città che ha vissuto una situazione davvero straordinaria come quella di essere divisa in due parti che non potevano toccarsi l'una con l'altra e appartenevano a due mondi diversi la capitale delle spie dicevamo una delle spie più famose della storia tedesca è Markus Wolf del quale parleremo adesso Markus Wolf era il capo della cosiddetta Hauptverwaltung abteilung che una parte diciamo era un settore della stasi della polizia politica ma era il settore che si occupava dello spionaggio esterno e quindi in qualche modo aveva una gestione separata rispetto alla stasi vera e propria che invece si occupava del controllo dei cittadini della rdt questo dualismo avrebbe avuto soprattutto negli anni più recenti profondi effetti politici infatti Markus Wolf fu in qualche modo il contraltare di Erich Milke il potentissimo capo del ministero per la sicurezza dello stato che dominava in contrastato invece sulla stasi intesa come servizio interno Milke veniva da una famiglia operaia e fin da giovane aveva militato nel partito comunista e alla fine degli anni 20 e nei primi anni 30 quando furono violentissimi gli scontri fra i comunisti e il nascente partito nazista Milke ebbe un ruolo molto importante nella costruzione dell'apparato militare e nell'apparato clandestino del partito comunista oltre ai comunisti e nazisti c'era un terzo protagonista delle violenze di quegli anni ed era la polizia berlinese la quale abbastanza spesso prendeva posizione a favore della destra e contro i comunisti quando accadde che in uno scontro di piazza un militante comunista amico di Milke fu ucciso per l'appunto dalla polizia Milke decise di vendicarlo e organizzò insieme con dei compagni un agguato ed uccise due poliziotti naturalmente subito dopo l'omicidio dovete fuggire a Mosca a Mosca Milke fece una rapida carriera negli apparati della sicurezza occupandosi in modo particolare del controllo degli emigrati tedeschi in Russia e già il fatto stesso che si è riuscito a sfuggire alle purghe staliniane indica che era un fedelissimo esecutore degli ordini di Stalin il quale finita la guerra volle che tornasse in Germania per riorganizzare per l'appunto un servizio di controspionaggio nella zona occupata dai sovietici quella che poi sarebbe diventata la RDT anche qui Milke che non era un intellettuale ma aveva grandi abilità organizzative riuscì a mettere su in piedi in poco tempo una struttura molto efficiente che ebbe gli elogi di Stalin in persona e nel 57 fu nominato ministro per la sicurezza dello Stato carica che avrebbe mantenuto fino al novembre del 1989 tutt'altra biografia è quella invece del suo rivale Marcus Wolf Marcus Wolf veniva da una famiglia borghese anche se diciamo conquistata agli ideali del comunismo e di origine ebraica il padre Friedrich Wolf era un fisico che ebbe una certa notorietà come scrittore il fratello maggiore di Marcus Korrad Wolf sarebbe diventato un regista abbastanza importante abbastanza conosciuto dopo la salita al potere di Hitler la famiglia Wolf fu costretta a fuggire dalla Germania prima in Francia e poi a Mosca a Mosca Wolf frequentò la scuola tedesca e poi si iscrisse a un corso di ingegneria aeronautica perché voleva partecipare in qualche modo allo sforzo bellico diciamo per sconfiggere la Germania nazista ben presto però capì che non era il mestiere che faceva per lui perché lui piaceva fare il giornalista quindi cominciò a lavorare nei servizi radiofonici che organizzavano trasmissioni per i soldati della Wehrmacht con l'obiettivo di favorire le defezioni e magari il passaggio dalla parte dei sovietici e quando la guerra finì fu mandato dai russi a lavorare al radio che veniva in quel periodo messa su dai sovietici nel settore orientale della Germania quindi lavorò per qualche anno in questa radio si chiamava la SFB e proprio per la radio seguì anche i lavori del famoso processo di Nuremberg il processo in cui furono giudicati i principali leader nazisti nel 52 i dirigenti del servizio segreto di Mosca vollero che Wolf che continuava a prendere ordini da loro si dedicasse alla riorganizzazione del controspionaggio esterno della nascente RDT e quindi nel 1953 quando aveva appena 30 anni Wolf fu uno dei fondatori della intelligence che fu aggregata ma con una posizione di particolare indipendenza alla stasi diretta da Milke i rapporti fra i due non furono mai pacifici un po' per motivi di potere molto per motivi ideologici anche per differenze di carattere Milke era un uomo molto rigido molto chiuso mentre Wolf era una persona che amava godersi la vita ed era anche abbastanza aperto al dialogo con gli altri Alla guida della Hauptverwaltung Kapteilung cioè del controspionaggio esterno della RDT Marcus Wolf ebbe una serie di successi straordinari tanto che il servizio segreto della RDT si conquistò la fama del più organizzato ed efficiente dei servizi dell'est per 25 anni Marcus Wolf fu per i servizi occidentali l'uomo senza volto riuscì infatti a non farsi fotografare mai e a rimanere per i suoi nemici all'ovest una persona della quale si conosceva l'esistenza ma nessuno era in grado di riconoscerlo soltanto nel 75 un anno per lui abbastanza infelice per una leggerezza Wolf fu fotografato a Stoccolma da un fotografo di una rivista dell'Ovest la sua immagine comparve sulla copertina della rivista Stern e da quel momento in poi l'uomo senza volto un volto lo ebbe lo stesso anno Wolf pagò anche le conseguenze dell'errore più grave che abbia mai compiuto nella sua carriera e cioè la conduzione dell'affare Guillaume Guinter Guillaume era una spia dell'Est un agente molto bravo che Wolf decise di introdurre nell'entourage più ristretto dei collaboratori di Willy Brandt l'operazione riuscì pienamente Guillaume conquistò la fiducia di Willy Brandt e divenne il suo persoellichier referente cioè una specie di organizzatore della segreteria insomma tutte le decisioni importanti venivano presi insieme da Brandt e da lui quando però Guillaume fu scoperto si ebbe chiara la percezione che il vantaggio che il servizio segreto dell'Est e anche il servizio segreto dell'Ovest avevano tratto dalle moltissime informazioni che Guillaume aveva dato sui vertici di Bonn erano superati di gran lunga dall'effetto politico negativo che la scoperta di una spia nel suo entourage immediato provocò avvillibrante e soprattutto alla sua politica di distensione la Ostpolitik che in quegli anni era un po' il suo cavallo di battaglia che tanto Mosca che Berlino-Est avevano invece tutto l'interesse che non venisse danneggiata più tardi Marcos Wolf fece una dura autocritica sul caso Guillaume sostenendo che fra i suoi errori quello era stato sicuramente il peggiore a metà degli anni Ottanta quando al potere al Cremlino salì Mikhail Gorbachev che dette vita alla glasnost e alla perestroica Wolf a differenza di Milch che mantenne invece un atteggiamento molto critico e molto negativo verso questo sviluppo Wolf appoggiò pienamente il processo riformatore il che contribuì ovviamente ad approfondire il baratro fra le due anime diciamo del spionaggio dell'Est lo stesso Wolf e Milch nel 1986 visto che non riusciva a smuovere sulle sue posizioni la nomenclatura dell'Est Marcos Wolf lasciò il servizio e da quel momento cercò di accreditarsi fra i riformatori del sistema socialista nella RdT il 4 novembre del 1989 partecipò insieme a praticamente tutti quasi tutti gli esponenti della intelligenza della RdT alla grande manifestazione sull'Alexander Platz nella quale veniva chiesto l'adozione di un corso riformatore da parte del governo di Berlino Est veramente in quell'occasione Wolf fu anche fischiato dalla piazza che ovviamente non era disposta a credere al 100% alla sua piena conversione alla democrazia comunque indubbiamente quando cadde il muro di Berlino Wolf era tra i personaggi che in qualche modo erano schierati dalla parte giusta della barricata cioè quella del rinnovamento dello Stato socialista per ora finiamo qui vi saluto e vi do appuntamento come di consueto domani alle 8 della sera su Radio 2 all'inizio degli anni 90 mi capitò abbastanza spesso di incontrare Marcus Wolf il capo del servizio estero di spionaggio della Stasi l'uomo senza volto come veniva chiamato quello che si diceva in giro ma lui smentì sempre questa ipotesi aveva ispirato il personaggio di Carla il protagonista della spia che venne dal freddo di John Le Carré mi capitò di incontrare Wolf insieme con altri corrispondenti di giornali italiani anche perché con il tempo Marcus Wolf aveva sviluppato una particolare predilezione per la cucina italiana e per il vino italiano e non si faceva sfuggire alcuna occasione conviviale insieme con la moglie Andrea una bella donna alquanto più giovane di lui e che doveva essere la sua terza o quarta moglie Mischa era un uomo molto brillante che raccontava storie affascinanti e sapeva raccontarle attirando l'attenzione di chi lo stava a sentire come la vicenda del suo mancato arresto a New York si trattava di questo un giorno era stato convocato un incontro ovviamente segretissimo di tutti i servizi dell'est a Cuba a Lavana un aereo partì da Berlino pieno di agenti segreti e fra gli altri anche Marcus Wolff una tempesta tropicale però costrinse l'aereo a un atterraggio d'emergenza a New York atterrato a New York l'aereo poiché proveniva da Berlino Est fu isolato in un parcheggio particolare dell'aeroporto Kennedy e circondato dagli uomini dei servizi segreti americani tutti erano convinti che prima o poi gli americani sarebbero soliti a bordo e avrebbero fatto una bella retata di spie di tutto l'est e avrebbero anche arrestato quello che era il più ricercato di tutti e cioè lo stesso Marcus Wolff per cui a un certo punto alcuni decisero che bisognava far sparire le carte più compromettenti ma come? Wolff raccontava raccontò durante una cena con noi giornalisti italiani che aveva visto che a un certo punto due orientali che sedevano davanti a lui forse due nordcoreani avevano aperto le borse e avevano cominciato a mangiare i documenti che vi erano contenuti Wolff raccontò di essersi detto in quel momento che lui una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta che piuttosto lo arrestassero ma la carta non se la sarebbe mangiata comunque per fortuna sua l'aereo poter ripartire da New York senza che gli americani salissero a bordo in tutte le occasioni in cui si trovava a parlare con degli italiani Wolff rispondeva in modo negativo alle sollecitazioni dei giornalisti che gli chiedevano se e come il suo servizio avesse avuto in qualche modo a che fare con l'Italia no diceva dell'Italia non ci occupavamo noi ma gli ungheresi e nei casi più difficili il KGB prima della caduta del muro di Berlino sosteneva Wolff lui in Italia c'era stato una sola volta da bambino insieme con il padre con il quale aveva fatto una gita al lago di Como se mancavano tracce della presenza di Wolff in Italia le tracce erano invece ben presenti in altri paesi in Belgio per esempio dove all'inizio degli anni Ottanta si scoprì che il servizio di Wolff la Hauptverwaltung aufklärung era riuscito a piazzare un suo agente nei piani alti del comando militare della Nato e l'agente forniva segreti di cui veniva in possesso ai servizi dell'Est ma alcuni venivano fatti filtrare anche sulla stampa occidentale soprattutto quelli relativi all'avvertenza degli euromissili che era oggetto allora di un duro scontro tra Mosca Washington e il patto di Versailles e la Nato e sulla ricollocazione degli F-16 che erano stati ritirati dalla Spagna all'epoca dello scandalo dell'infiltrazione di un agente segreto orientale alla Nato io ero corrispondente a Bruxelles e ricordo molto bene la severità con cui i rappresentanti di Bonn cercarono di bloccare le fughe di notizie che veniva attribuita allora a una donna che sarebbe stata diciamo piazzata dai tedeschi dell'Est in una posizione amministrativa nella rappresentanza di Bonn alla Nato in realtà si trattava di una voce fatta circolare ad arte proprio da Marcus Wolf perché la spia era un uomo il nome di copertura era Topaz cioè Topazio e fu uno dei pochissimi casi in cui alla base della scelta di campo del tradimento non ci fu un ricatto ma una convinzione politica Topaz era un militare dell'Ovest che al tempo della guerra del Vietnam dalla quale era rimasto molto scioccato si era convinto che gli americani rappresentassero un pericolo per la pace mondiale e quindi aveva accettato di buon grado di infiltrarsi nella Nato per contrastare i piani di guerra americani forse un caso simile fu quello di Gert Bastian Gert Bastian era un generale dell'esercito tedesco federale che aveva assunto negli anni 80 e all'inizio degli anni 90 posizioni pacifiste il 19 ottobre del 1992 Bastian si suicidò dopo aver ucciso la sua compagna Petra Kelly che era una notissima esponente dei Verdi si disse che l'omicidio suicidio era stato provocato dal fatto che il generale anzi l'ex generale perché a quel punto aveva lasciato il servizio sapeva che stavano per uscire dall'archivio della Stasi documenti per lui molto compromettenti documenti che provavano non tanto che lui aveva fatto la spia ma provavano il fatto che aveva commesso una serie di leggerezze di cui i servizi dell'Est avevano approfittato un altro argomento di conversazione ricorrente con Marcus Wolf era il Vaticano più volte nel corso degli anni c'erano state voci secondo le quali c'era stata una particolare attenzione dei servizi dell'Est in particolare di quello diretto da Wolf per la Santa Sede quando c'era stato l'attentato a Giovanni Paolo II come è noto la colpa era stata attribuita ai Bulgari però non si era mai esclusa del tutto l'ipotesi che anche i servizi dell'RDT fossero in qualche modo coinvolti Wolf negava risolutamente questa ipotesi eppure qualche traccia in Vaticano i suoi servizi l'avevano lasciata nel 95 lui stesso fu costretto ad ammettere che aveva lavorato per la Stasi un monaco benedettino Eugen Brammerz che era stato per un certo periodo molto vicino a Casaroli il segretario di Stato Casaroli e quindi aveva conosciuto dall'interno e molto bene i segreti della diplomazia vaticana inoltre non fu mai smentita la voce secondo la quale una spia della RDT lavorava addirittura nella specola vaticana cioè l'osservatorio astronomico della Santa Sede dell'ipotesi di un coinvolgimento tedesco orientale nelle vicende vaticane si tornò a parlare nel maggio del 98 quando in Vaticano fu ucciso il capo delle guardie svizzere Alois Esterman l'omicidio compiuto da una recluta Cedric Tourney sembrava essere il frutto di una vicenda passionale in realtà uscirono però dei documenti dai quali si poteva dedurre l'ipotesi che Esterman fosse stata a suo tempo una spia della Stasi su richiesta del mio giornale telefonai a Wolf per avere un parere sull'argomento fu l'unica volta in cui si mostrò abbastanza scortese diciamo disse che non ne sapeva niente che voleva essere lasciato in pace il motivo probabilmente è che l'avevo chiamato durante il weekend sabato una domenica all'ora di pranzo e lui era impegnato ai fornelli nella sua casa di campagna sul fiume in Brandenburgo c'è da dire che i vinieghi di Wolf su una qualsiasi partecipazione del suo servizio alle vicende italiane spoggiavano su un punto accertato la Stasi aveva molti collaboratori non tedeschi ma a parte il caso di un carabiniere addetto all'ambasciata italiana a Berlino Est che fu irretito da una spia e collaborò con i servizi segreti non risultarono mai altri casi di italiani coinvolti nello spionaggio almeno non di italiani residenti in Germania d'altra parte gli italiani all'epoca nella RDT erano pochissimi sostanzialmente soltanto diplomatici e qualche collaboratore di università a Berlino Ovest erano un po' di più ma comunque un numero assai molto più limitato che in altre regioni della Repubblica Federale c'era una piccola comunità italiana formata da operai della Siemens o pensionati della Siemens e delle industrie dell'indotto da qualche studioso che lavorava nelle due università berlinesi da qualche studente e da un certo numero di persone attive nel settore della ristorazione va detto che all'epoca come anche poi in seguito a Berlino erano moltissimi i ristoranti e gli esercizi gastronomici chiamiamoli così italiani ma molto spesso e specialmente all'epoca non si trattava di veri ristoranti italiani perché erano gestiti in realtà da persone d'altra nazionalità greci turchi medio orientali o magrebini quindi la comunità italiana era ridotta forse non più di 1500 o 2000 persone si trattava di una comunità che politicamente gravitava piuttosto a sinistra ma date le posizioni del PC dell'epoca e dato anche dal fatto che una certa presenza l'avevano anche i gruppi extra parlamentari dell'estrema sinistra che non erano proprio favorevoli diciamo all'idea del socialismo reale le autorità dell'est guardavano a questa comunità italiana con una certa diffidenza diffidenza che diventò ostilità aperta quando Enrico Berlinguer prese le distanze dal partito comunista dell'Unione Sovietica del blocco dell'est e si affermò la breve stagione dell'eurocomunismo in quei giorni curiosamente e dando prova di tutto il loro spirito burocratico i dirigenti della SED che prima davano del tu alle persone con cui entravano in contatto e appartenevano al PC in quanto formalmente si trattava di partiti fratelli tra virgolette cominciarono a usare il lei cosa che produsse in qualcuno una specie di crisi di identità ma insomma la maggior parte era molto contenta che ci fosse questa presa di distanza che eliminava vicinanze spesso imbarazzanti alcuni militanti del PC ricevettero anche qualche attenzione speciale da parte della polizia nelle occasioni in cui si recarano all'est fu il caso per esempio di tre simpaticissimi romagnoli che ogni estate venivano da Alfonsine nella loro città a Berlino Ovest ospiti di un esponente del Partito Comunista Italiano che pensionato alla Siemens si era dedicato al giardinaggio e aveva una specie di piccola casetta di legno prefabbricata nel suo giardino alla periferia della città Ogni estate nel mese di luglio i tre si stipavano nella casetta dove entravano a malapena e da lì partivano ogni giorno per una missione che durava ormai da anni i tre essi erano messi in testa infatti di rintracciare un ex caporale della Wehrmacht che durante la loro prigionia come internati militari italiani in Germania durante la guerra li aveva aiutati prima a sopravvivere e poi a fuggire e a fuggire in un momento in cui rischiavano veramente il peggio perché i comandi militari tedeschi li avevano assegnati al lavoro di fortificazione delle trincee sul fronte orientale nel momento in cui i russi stavano travolgendo lo stesso fronte quindi i tre volevano ritrovare quest'uomo per ringraziarlo di quanto aveva fatto perché non l'avevano mai più visto dopo la fine della guerra l'ultimo recapito del caporale però era in un paesino al di là dell'Oder a est dell'Oder e quindi nel territorio che dopo la guerra era stato assegnato ai polacchi i tre speravano che l'uomo poiché era tedesco non era polacco si fosse comunque rifugiato sulla riva occidentale dell'Oder e abitasse in uno dei paesi o delle piccole città che costeggiano il fiume dalla parte tedesca per cui battevano tutta quella zona della Germania chiedendo informazioni a tutti e cercando di rintracciare questa persona tanta curiosità non piacqua affatto alle autorità della RDT e agli italiani fu fatto capire in modo abbastanza brusco che era meglio che la smettessero e se proprio volevano stare nella RDT se ne stessero a Berlino senza andarsene troppo in giro un altro italiano che ebbe qualche fastidio pur essendo notoriamente di sinistra fu un giovane germanista studioso del cinema tedesco accadde che il germanista si trovò ad attraversare il check point charlie un pomeriggio proprio mentre erano in corso i mondiali di calcio del 74 nel momento in cui attraversava la frontiera e i poliziotti dell'est controllavano i documenti l'Italia subì un gol da parte di Haiti che era una squadra non propriamente diciamo fra le favorite e poi perse anche la partita credo allora uno dei poliziotti che aveva fermato questa persona attaccò uno sfotto sulle sventure calcistiche dell'Italia il nostro amico non seppe diciamo restare zitto di fronte allo sfottò e rispose per le rime ne nacque un battibecco e per ritorsione le guardie di frontiera cominciarono a fare un controllo molto accurato dell'auto e a sfogliare tutti i libri che erano a bordo fra i libri trovarono un'opera dello storico Heinrich von Traitschke uno storico dell'ottocento considerato molto reazionario la cui lettura era assolutamente interdetta ad est del muro per cui sequestrarono il libro e di fronte alle sue proteste inflissero al germanista tifoso della nazionale la più umiliante delle ispezioni corporali con questo per oggi abbiamo finito vi do appuntamento come di consueto a domani alle 8 della sera sempre su Radio 2 nel 1986 quando si fece più forte il corso riformatore di Mikhail Gorbachev per la perestroica alla Glasnost la cosa ebbe effetti diretti anche in Germania il dualismo che era sempre esistito fra la stasi vera e propria e cioè il servizio di controllo interno diretto con metodi molto duri da Erich Milke e lo spionaggio esterno affidato alla sezione Hauptverwaltung Aufklärung diretta da Marcus Wolf precipitò in uno scontro aperto politico Wolf aveva degli appoggi perché ovviamente godeva del sostegno di Gorbachev e degli ambienti gorbacheviani di Mosca era però anche molto odiato e anche a Mosca dagli ambienti del KGB del servizio sovietico che non tolleravano che stavano cercando di sabotare il corso riformatore Wolf si trovò quindi in qualche modo vittima anche dello scontro interno che si era aperto a Mosca e soprattutto nei servizi di Mosca lui cominciò a buttarla in politica nel senso che cercò di collocarsi in una tradizione che in qualche modo esisteva sia pure molto debole nella Germania Est in favore delle riforme l'esponente di questa corrente riformatrice era stato fino a qualche anno prima il membro del Politbureau Werner Lamberts Lamberts però era morto otto anni prima in un misteriosissimo incidente aereo sui cieli della Libia sul quale alleggiava il sospetto che in qualche modo fosse stato anche organizzato dai servizi dell'Est da Milke e forse anche da Onecker Wolf cercò allora un altro punto di riferimento politico in Hans Modrow che era il capo della SED di Dresda e che era l'unico esponente della SED in quel momento che sostenesse posizioni riformatrici Modrow era considerato un po' una speranza per il rinnovamento del gruppo dirigente della RDT in seguito sarebbe stato anche per breve tempo primo ministro del governo che fu formato dopo la caduta del governo di Willistoff e gestì le prime fasi del negoziato per la riunificazione tedesca e in qualche modo era considerato il Gorbachev tedesco però anche Modrow nell'86 era troppo debole per sostenere Wolf e quindi Marcus nell'86 fu costretto alle dimissioni la battaglia fra lui e Milke si risolse con la vittoria di Milke più tardi Marcus Wolf avrebbe scritto un libro che si chiama In Meinem Eigenen Aufstrag che si può tradurre come per incarico dato da me a me stesso una cosa del genere un libro tutto sommato abbastanza goffo nel quale cercava di accreditare presso la nuova Germania presso gli ambienti democratici degli ex dissidenti l'idea che in qualche modo lui avesse anticipato anche i temi del rinnovamento democratico della RDT in realtà pur essendo sicuramente diciamo un riformatore pur essendo vicino a Gorbaciov Marcus Wolf non aveva mai avuto questo coraggio non era mai sceso decisamente nella competizione politica con l'idea di rompere il sistema di potere di Honecker e gli altri oltre al libro in cui cercava di accreditarsi come anticipatore in qualche modo del movimento riformatore della RDT Wolf scrisse anche altri libri tant'è vero che aveva un po' anche il vezzo di presentarsi quando gli chiedevano ufficialmente che mestiere facesse di dire scrittore di libri di un libro in particolare parlò durante una delle scene pantagrueliche che un noto ristoratore italiano di Berlino Ovest organizzava con lui come ospite d'onore sto finendo un libro disse Wolf che si chiamerà I segreti della cucina rossa io che ero seduto accanto a lui caddi in un equivoco sul titolo che lui aveva citato e ingenuamente pensai che la cucina fosse una metafora cioè che Wolf avesse scritto un libro sui servizi segreti sovietici che erano stati la cucina di mille intrighi e mille storie complicate in realtà non si trattava di una metafora si trattava proprio di un libro sulla cucina russa un libro di ricette nel quale non mancavano anche riferimenti personali ai suoi rapporti con la Russia e con la società russa ma sostanzialmente si trattava proprio di un ricettario per cui mi trovai un po' in imbarazzo quando lo stesso Wolf qualche tempo dopo mi chiese di scrivere la prefazione all'edizione italiana io la scrissi nonostante la mia totale ignoranza della cucina russa quella vera e qualche tentativo di riprodurre in proprio alcune delle ricette descritte nel libro che peraltro erano complicatissime naufragò nel disastro ma torniamo al 1986 e alla scomparsa dalla scena di Marcus Wolf il suo successore alla guida della Hauptverwaltung Aufklärung fu Werner Grossman che era stato uno dei suoi più stretti collaboratori ma che il regime considerava più ortodosso e in grado di collaborare con Milke come Wolf non aveva fatto Grossman si trovò a barcamenarsi in un mare di difficoltà quelle create dal dissidio ormai aperto e clamoroso fra Mosca e Berlino e poi anche nelle lotte di potere che rilaniavano il servizio di riferimento e cioè il KGB l'HWA il controspienaggio esterno in queste condizioni cominciò a perdere colpi alcuni dei suoi agenti furono scoperti in certi paesi si dovettero ritirare le spie che erano state piazzate in posti importanti perché si rischiava che venissero smascherate e soprattutto in Africa dove i servizi dell'RDT erano stati particolarmente attivi dovessero registrare dei colpi abbastanza duri anche nel pieno delle sue difficoltà il servizio che era stato di Marcus Wolf riuscì però in un'impresa importante ebbe il merito di riuscire ad anticipare grazie all'accesso che i suoi agenti avevano negli istituti di ricerca più importanti e negli ambienti governativi di diversi paesi occidentali il giudizio sulla gravità della crisi economica oltre che politica che stava per abbattersi sulla RTT in particolare i dirigenti dell'Aptailung riferirono ai dirigenti della SED sullo scetticismo con cui gli esperti tedesco-occidentali e gli americani guardavano a un progetto su cui invece la nomenclatura della RTT contava moltissimo per risollevare le sorti e la credibilità dell'apparato tecnico-industriale del paese si trattava della realizzazione di un megachip che avrebbe nell'idea dei dirigenti della RTT affiancato la tecnologia informatica della Germania orientale a quella dei paesi occidentali ma era un'illusione proprio dai rapporti del controspionaggio risultò chiaro che il megachip che peraltro era una fase ancora molto prematura cioè soltanto a livello di studio arrivava abbondantemente in ritardo sull'evoluzione delle tecniche informatiche in media secondo gli analisti occidentali nel parere che veniva riferito dal servizio ai dirigenti della SED lo sviluppo della tecnologia nella Germania orientale era in ritardo di una decina se non di una ventina di anni rispetto agli altri paesi industrializzati perché questo il problema principale era che il sistema schiacciato da una soffocante pianificazione e affidato alle cure di funzionari che non avevano la minima idea di che cosa fossero le leggi di mercato era assolutamente incapace di rinnovarsi un esempio clamoroso di questa incapacità di rinnovarsi fu rappresentato dalla storia della Trabant la Trabant era la vetturetta che per un certo periodo anzi per parecchi anni fu un po' il simbolo della motorizzazione della RDT e in generale dei paesi del blocco orientale quando la Trabant cominciò ad essere prodotta nelle auto-officine di Zwickau nel 1957 era effettivamente un'auto per molti versi all'avanguardia sia per quanto riguardava le soluzioni tecniche motoristiche diciamo sia per quanto riguardava i materiali con cui veniva costruita una sorta di cartone plastica che evitava il ricorso all'acciaio sia per quanto riguardava i costi di fabbricazione il problema per la Trabant fu che non venne mai rinnovata ancora a metà degli anni 80 mentre il mondo dell'automobile aveva fatto passi da gigante la Trabant continuava ad essere prodotta come veniva prodotta nel 1957 il team di ingegneri che a suo tempo l'aveva progettata si offrì allora di mettersi al lavoro per studiare le innovazioni necessarie ma poiché nessuno aveva l'autorità di autorizzare questo lavoro e nessuno aveva la possibilità di decidere per esempio la chiusura o rinnovamento della fabbrica di Zwickau non se ne fece nulla tanto che la fabbrica dopo l'unificazione fu assorbita dalla Volkswagen e quella che era stata una geniale vetturetta innovativa restò solo il ricordo di un trabiccolo lento rumoroso molto poco ecologico la cui presenza sulle strade disturbava non poco i tedeschi dell'Ovest e fu anzi uno dei motivi di frizione fra i Pessis e gli abbinanti dell'Ovest e gli Ossis e gli abbinanti dell'Est la vicenda della Trabant vale come esempio di un problema che diventò davvero ingestibile e irresolubile verso la fine degli anni Ottanta l'apparato produttivo della RDT aveva un urgentissimo bisogno di rinnovamento di modernizzazione e forse ancora di più aveva bisogno di una urgente introduzione di regole di rispetto ambientale che mancavano del tutto l'inquinamento nella RDT era a livelli spaventosi specialmente nelle regioni più industrializzate negli anni Ottanta uscì in Germania occidentale uno studio secondo il quale la piazza davanti alla stazione centrale di Lipsia era il luogo più inquinato del mondo e nella zona delle industrie chimiche della Sassonia Analt la regione con capitale Magdeburgo a ovest di Berlino si calcolava che fosse 20 volte più facile ammalarsi di cancro che in Germania occidentale assolutamente disastrose poi erano le conseguenze create dalle numerosissime ed estese servitù militari che avevano lasciato i sovietici quando dopo l'unificazione i soldati russi lasciarono la Germania aiutati in questo da un progetto finanziato a fior di miliardi di marchi dalla Germania occidentale si scoprì che chilometri e chilometri quadrati di ex caserme campi di esercitazione poligoni di tiro ex sovietici erano del tutto avvelenati con materiali tossici e anche radioattivi allora molti terreni furono addirittura regalati a dei privati purché si impegnassero a provvedere a proprie spese alle bonifiche quanto a livello tecnologico delle aziende al momento dell'unificazione si disse che salvo alcune pochissime eccezioni per esempio nel campo dell'ottica di precisione il livello tecnologico era più basso delle peggiori aspettative ora può darsi anche che in qualche caso le aziende orientali i cosiddetti combinat fossero depreciati diciamo ad arte per favorire l'acquisizione da parte di imprese dell'ovest oppure per togliere di mezzo pericolosi concorrenti come certamente avvenne nell'industria zuccheriera e in generale in quella alimentare ma che il ritardo dell'est fosse notevole e fosse anche peggiore delle peggiori aspettative non poteva in nessun modo essere messo in dubbio come è difficile non pensare che almeno una parte dell'establishment tedesco orientale fosse al corrente della situazione il problema è che per rinnovare e risanare l'economia dell'RDT sarebbero serviti investimenti pubblici massicci perché gli aiuti all'altra Germania che erano peraltro abbastanza consistenti sia in termini di prestiti sia in termini di clausole commerciali favorevoli comunque non sarebbero mai bastati paradossalmente dalla fine degli anni settanta a tutti gli anni ottanta fino alla caduta del muro il gruppo dirigente di Berlino Est si trovò esattamente di fronte allo stesso dilemma nel quale si era trovato il regime negli anni cinquanta puntare sugli investimenti o sui consumi nel 1953 la dirigenza di allora sotto la guida di Walter Ulbricht della quale faceva già parte Erich Honecker aveva fatto la scelta di puntare sugli investimenti e di comprimere i consumi c'erano di fatto ridotti gli stipendi degli operai e specialmente degli operai edili che lavoravano alla ricostruzione di Berlino e alla costruzione del grande quartiere in stile sovietico a est dell'Alexanderplatz e questo alla fine aveva provocato una rivolta popolare molto ampia che poté essere schiacciata solo grazie all'intervento dei carri armati sovietici la cosa aveva convinto i dirigenti di allora ad allentare almeno un po' il freno sui beni di consumo e certo lo scenario del 53 era improponibile negli anni 80 si dice che dall'86 87 in poi l'inevitabile precipitare di una crisi economica e sociale gravissima fosse argomento consueto di conversazione nei colloqui tra i responsabili economici del paese e pare che sia esistito anche uno studio del ministero dell'economia in cui la cosa veniva affermata chiaramente ma né Honecker né i bonzi che lo circondavano vollero mai prendere atto della mala realtà per oggi finiamo qui e ci sentiamo ancora domani alle 8 della sera sempre su Radio 2 Nel periodo immediatamente precedente alla caduta del muro diciamo per tutta la seconda metà dell'89 dopo l'inizio della grande fuga dei cittadini della RDT attraverso l'Ungheria si era manifestata una clamorosa cecità del gruppo dirigente della RDT sulla gravità della crisi che stava maturando di questa cecità il primo responsabile fu certamente Erich Honecker il capo della SED e presidente del Consiglio di Stato quindi la massima autorità tanto del partito che dello Stato ma anche gli altri membri del politbureau e specialmente il ministro per la sicurezza dello Stato Erich Milke ebbero la loro parte ebbero la loro grande responsabilità la Stasi come aveva spiegato molto bene Wolfgang Geiger che fu uno dei dirigenti dell'ufficio preposto alla gestione dell'archivio della Normandestrasse poi sarebbe diventato il capo del Bundesnachrichtendienst cioè il servizio segreto della Germania federale la Stasi diceva Geiger proprio per le sue dimensioni abnormi proprio per la sua pervasività proprio per il suo essere devota soltanto al principio del proprio potere della propria sopravvivenza come organizzazione era incapace di lavorare come dovrebbe lavorare ogni servizio segreto particolarmente in un paese dittatoriale come era la RDT era incapace di capire che cosa si muovesse sotto la superficie dell'opinione pubblica era incapace di prevedere gli sviluppi politici che si stavano determinando negli ambienti della dissidenza non aveva alcuna idea degli effetti che avrebbe portato il duro contrasto che si stava aprendo con l'Unione Sovietica in mano al corso riformatore di Gorbachev tant'è che furono proprio Milke i dirigenti della Stasi che ordinarono ad un certo punto una misura che aveva degli aspetti grotteschi con il sequestro e il divieto di pubblicazioni di diffusione di una rivista che si chiamava Sputnik una rivista sovietica scritta in tedesco per tedeschi e orientali la quale evidentemente veniva considerata una pubblicazione sovversiva quasi come un giornale occidentale quindi la grande fuga dell'estate dell'89 le manifestazioni a favore di Gorbachev la trasformazione dei gruppi dei dissidenti in un vero e proprio movimento politico colsero la Stasi e la dirigenza della SED totalmente impreparati un'impreparazione che provocò una reazione rabbiosa quando cominciarono ad avvenire eventi che nessuno aveva saputo prevedere per tutto il mese di ottobre si intensificarono gli arresti le angherie contro quelli che venivano considerati nemici i controlli ostili e gli ostacoli messi al lavoro dei giornalisti occidentali che sempre più numerosi arrivavano a Berlino Est per seguire l'evoluzione della crisi e la repressione delle manifestazioni ci furono repressioni veramente durissime sanguinose anche a Berlino una addirittura la sera del 7 ottobre proprio mentre si svolgeva nel palastro del Repubblic la cerimonia ufficiale per il quarantesimo anniversario della fondazione della RDT la polizia compì un'irruzione nella Ghezemanikirche una chiesa in cui si erano radunati dei dissidenti e picchiò selvaggiamente tutti i presenti ericonecker eric milk e i dirigenti della sed pensavano che questa fosse la linea giusta e cioè che bastasse un po' di terrore un po' di repressione per ridurre i cittadini alla ragione fu un errore tragico fu la grottesca concretizzazione data al paradosso con cui Bertolt Brecht tanti anni prima aveva commentato la repressione della rivolta del 1953 se il partito non va d'accordo con il popolo aveva detto allora Brecht con la sua ironia feroce sarà bene che si scelga un altro popolo successe la stessa cosa anche dall'altra parte fra i cittadini che meno sopportavano le pesantezze del regime e che non erano legati ai gruppi dissidenti i quali cominciavano a capire che comunque la fine si stava avvicinando si diffuse un'insofferenza che forse non c'era mai stata così forte nei confronti del regime ricordo la sera della cerimonia al Palast del Repubblic una scena che per la RDT e direi per la Germania in genere era assolutamente nuova poco consueta la polizia per proteggere il palazzo dove si svolgeva la cerimonia aveva steso un cordone sulla unter dell'inden ma questo avveniva allora in cui molte persone tornavano dal centro e dovevano rientrare a casa e quindi essendo bloccate le metropolitane i tram gli autobus dovevano tornare a piedi la polizia fermava tutti e pretendeva che tutti aspettassero la fine delle celebrazioni per passare vidi un signore anziano che aveva un bastone cominciare a agitare il bastone contro i poliziotti fin quasi a colpirli e la gente che lo appoggiava cominciava a gridare ci fu una specie di sfondamento del cordone di polizia con i vopos che assolutamente non abituati a questo tipo di reazione non sapevano che fare e alla fine fecero passare le persone d'altra parte ci furono anche persone che volevano fuggire e che fino alla fine si organizzarono per farlo anche se forse avrebbero potuto aspettare e vedere l'evoluzione degli eventi l'ultima vittima del muro di Berlino fu un ragazzo ventenne che si chiamava Chris Giffroy che lavorava come cuoco in un albergo all'aeroporto di Schönefeld pochi giorni prima era morto un altro fuggitivo che aveva tentato di lasciare Berlino Est in Mongolfiera si dice addirittura ma la cosa comparve anche sui giornali ma poi non so se sia mai stata confermata che addirittura ci fu un giovane che attraversò il confine intertedesco tra la Sassonia e la Basso Sassonia cioè fra l'Est e l'Ovest il pomeriggio del 10 novembre del 1989 quando il muro era già caduto lui però è preso come era dai preparativi della sua fuga non aveva letto i giornali né visto la televisione non sapeva ancora nulla di quello che era successo quindi passò col rischio di farsi ammazzare per una cosa che ormai stava diventando assolutamente legale anche perché fino all'immediata vigilia della caduta del muro il regime continuò a dare segnali di fermezza e a non cedere in alcun modo alle prospettive di riforma che il cambiamento in Germania quando arrivò fu rapido e totale ma anche per questo motivo caddero presto le illusioni di chi invece pensava a un'evoluzione verso la democrazia più graduale meno traumatica meno chiusa nella gabbia della volontà costituzionale dell'altra Germania che prevedeva un articolo l'articolo 23 della Costituzione provvisoria in base al quale facevano parte della Germania tutti i lender tedeschi quindi anche quelli dell'est che avessero deciso di aderire alla Repubblica anche per questo la nuova Germania fu subito diversa dalla vecchia Germania anche nei lender dell'est a parte qualche area di sottosviluppo i lender orientali in pochi anni diventarono ricchi quasi come quelli occidentali le grandi città orientali Lipsia Dresda Rostock non sono diverse oggi dalle città del resto d'Europa anche se il punto di partenza era molto arretrato come per esempio a Dresda dove ancora al momento dell'unificazione c'erano le rovine della seconda guerra mondiale l'apparato produttivo è stato rinnovato il che ha comportato il pagamento di prezzi molto alti sotto il profilo sociale e ha scaricato sull'Europa prima sulla comunità europea e poi sull'Unione europea i costi di scelte che furono compiute soltanto dai tedeschi come il cambio del marco orientale alla pari con quello occidentale oggi le industrie dell'est sono efficienti i servizi e le infrastrutture paradossalmente qualche volta sono anche migliori di quelle dell'ovest perché all'est si è dovuto spesso ricominciare da capo e quindi lo si è fatto con tecniche più moderne in questo quadro di rinnovamento c'è qualche elemento che stride quello che suscita più amarezza ancora oggi negli ex abitanti della RDT quelli che tutti ancora continuano a chiamare gli ossis è il fatto che nella struttura sociale della nuova Germania hanno trovato presto una sistemazione personaggi che avevano avuto un ruolo negativo e spesso anche molto sgradevole nella vecchia RDT un motivo di frizione ricorrente è per esempio per gli operai delle fabbriche trovarsi dirigenti o capi reparto che sono gli stessi che esistevano al tempo del comunismo e continuano a comportarsi spesso con il stesso autoritarismo e la stessa arroganza di un tempo e particolare irritazione provoca anche il fatto che perfino delle persone che avevano lavorato attivamente come agenti nella Stasi hanno trovato una sistemazione nella nuova Germania spesso senza essere stata in alcun modo punita quello che è mancato di più è il compimento delle grandi promesse politiche che l'unificazione tedesca aveva portato con sé e cioè la speranza che l'unificazione creasse un nuovo assetto europeo più stabile più equilibrato nell'esposto ai rischi di una nuova stagione di tensioni internazionali queste promesse non sono state mantenute oggi mentre si profiliano scenari di una nuova guerra fredda tra Mosca e l'Occidente e una delle poste in gioco sono le forniture energetiche alle quali la Germania è particolarmente sensibile il paese la nuova repubblica federale rischia di pagare come tante troppe volte le è capitato nella storia le tensioni che derivano dalla sua collocazione geografica al centro dell'Europa diciamo le promesse politiche non mantenute la Nato si è allargata verso est nonostante gli impegni che erano stati presi a suo tempo con Gorbaciov al tempo del negoziato 4 più 2 cioè le 4 potenze vincitrici della seconda guerra mondiale più i due stati tedeschi sull'unità tedesca questi accordi prevedevano che la Germania Est non avrebbe ospitato armi che Mosca considerava pericolose e che i paesi all'est della Germania non avrebbero aderito alla Nato in realtà hanno tutti aderito alla Nato e all'Unione Europea comprese le Repubbliche Baltiche che un tempo facevano parte dell'Unione Sovietica la esclave russa di Kaliningrad l'antica Königsberg russiana di Emanuele Kant sta lì a ricordare ai tedeschi che c'è ancora qualcosa di irrisolto nella geografia dell'Europa e sta lì a ricordarlo ai tedeschi non solo ai tedeschi ma a tutti gli europei anche se pare che non tutti si rendano conto del problema che la mancata definizione di queste questioni può ancora portare con sé anche se ci sono capi di governo come il capo del governo italiano che sembrano addirittura ignorare dove si trovi Kaliningrad a proposito di Kaliningrad o Königsberg come si ricomincia a dire in Germania va considerato il fatto che da qualche tempo è in atto una specie di negoziato informale fra Berlino e Mosca per dare all'ex club russa uno status e un ruolo anche economico che le permettano di continuare a vivere e di non essere un elemento di possibile frizione internazionale come potrebbe essere se le cose restassero come sono al giorno d'oggi a Königsberg sono stati fatti grandi investimenti da parte del governo tedesco e anche di privati tedeschi e in qualche modo si sta cercando con molta prudenza ovviamente di riscoprire e rivalutare in qualche modo il passato tedesco della città il passato prussiano perché come già aveva fatto in qualche modo persino il regime dell'RDT il giudizio che la nuova Germania dà della Prussia non è del tutto negativo con questo vi saluto e vi do appuntamento per quella che sarà l'ultima puntata di questo ciclo a domani sera alle 8 della sera sempre su Radio 2 dalla notte pazza del 9 novembre 1989 quando la storia dell'Europa e del mondo si mise a correre sono passati quasi 20 anni 20 anni soltanto 8 in meno del tempo in cui Berlino rimase divisa separata da un muro che divideva con una città un paese un continente due mondi anche le storie di tante persone 28 anni che a chi li visse sembrarono un'eternità oggi chi nacque nei giorni della caduta del muro sta diventando adulto e sta arrivando alla maturità una generazione che la divisione della Germania e di Berlino la legge ormai sui libri di storia perché non può averne memoria diretta anche questo contribuisce alla rimozione che rischia di imprigionare la Germania ancora una volta per la seconda volta nella sua storia recente in un passato che non passa perché è troppo difficile farci conti non spetta certo a questa trasmissione tracciare un bilancio di questi 20 anni quel che possiamo fare più modestamente è vedere che cosa è stato dei protagonisti non della storia con la S maiuscola ma delle storie che vi ho raccontato nelle settimane scorse Erich Honecker è morto è sull'Incille nel maggio del 94 per un cancro che si portava dietro fin dagli anni delle sue fortune politiche e che fu anche l'oggetto di un libro bellissimo e poco conosciuto in Italia che si chiamava Eroi come noi e che fu scritto da un giovane autore della RDT Thomas Brussig autore anche di un libro del quale abbiamo parlato il libro sulla Sonnenallee e che costituì la prima vera cronaca ancorché grottesca delle ore della caduta del muro nel marzo del 1991 Honecker era fuggito a Mosca ma i russi lo avevano riconsegnato alle autorità tedesche per farlo processare era accusato per un documento con la sua firma nel quale si stabiliva che venissero concessi una beneficenza speciale ai Vopos cioè ai poliziotti dell'est che avevano fermato delle fughe anche uccidendo chi cercava di fuggire al processo che si celebrò al tribunale di Berlino non c'era la folla che molti si attendevano c'erano dei fedelissimi di Honecker alcuni dei quali passarono anche tutta la notte era una notte terribile di vento di tempesta davanti al tribunale ad aspettarlo ma anche loro forse anche i fedelissimi rimasero delusi dal comportamento del loro vecchio idolo il quale durante il dibattimento non solo non dette nessun segno di pentimento ma rimase crudelmente indifferente anche sul destino delle vittime delle persone che erano state uccise per sua disposizione sul muro di Berlino anche Erich Milke fu processato ma paradossalmente non fu processato per le sue responsabilità a capo della Stasi bensì per l'omicidio di due agenti di polizia avvenuto oltre 60 anni prima in tribunale si presentò un uomo che era l'ombra di se stesso con un cappello sempre calcato sulla testa minato da una specie di tremito e di demenza senile che contrastava fortemente con i ricordi del terrore che la sua figura ancora evocava tra chi era stata vittima del regime Milke fu condannato ma la detenzione venne sospesa per le sue condizioni di salute morì il 21 maggio del 2000 se fosse sopravvissuto oggi avrebbe 102 anni e questo dà la misura di quanto appartenga in realtà ad un'altra storia ad un altro momento storico eppure ancora oggi ci sono molte persone che ancora portano sul corpo e soprattutto sull'anima i segni del male che la stasi ha fatto loro Marcus Wolf il mitico Mischa morì a 83 anni nel 2006 la sorte volle che un infarto se lo portasse via proprio la sera del 9 novembre nel 17esimo anniversario della caduta del muro Honecker Milke e Wolf portarono via con sé un pezzo importante del passato della Germania orientale portarono via la sua parte più buia ma anche dall'altra parte dalla parte dei dissidenti dalla parte delle vittime non è rimasto molto le figure più importanti del movimento riformatore che si batte con coraggio e anche con intelligenza politica negli anni del regime sono quasi tutte scomparse oggi pionvate in un anonimato che rappresenta uno dei tanti aspetti sgradevoli della rimozione del passato Verbel Bolai animatrice di mille iniziative nella seconda metà degli anni Ottanta pittrice conosciutissima anche all'Ovest oggi vive nella campagna berlinese in un'azienda dove si occupa di agricoltura biologica Gerd e Ulrike Poppe che frugando e ricostruendo la loro vicenda negli archivi della Stasi permissero la ricostruzione più completa dai metodi di spionaggio della polizia politica nella Germania unificata ebbero separatamente un ruolo un po' secondario e una breve carriera politica nei verdi e così Wolfgang Templin l'ex dissidente della SED che la Stasi considerava a suo tempo il traditore più pericoloso quello da mettere assolutamente in condizioni di non nuocere Marcus Meckel che fu un ministro degli esteri nel governo Modrov che a un certo punto sembrò anche dover assumere un ruolo importante nella SED nella quale militava e il posto che era stato di Ibrahim Böhme prima che venisse scoperto che aveva tradito ed era in realtà una spia occupa un posto di secondo rango nelle file socialdemocratiche nella chiesa di San Nicolo all'Ipsia la Nicolae Kirche che era stata il centro organizzativo per mesi e mesi delle manifestazioni del lunedì quando le persone la gente i cittadini i dissidenti sempre più numerosi scendevano in piazza a chiedere riforme e democrazia oggi si celebrano normali servizi religiosi alcune prigioni alcuni centri di detenzione ospitano musei nei quali vengono portati gli studenti delle scuole che ormai quel passato lo conoscono solo sui libri i libri di storia parlano ovviamente della divisione della Germania del muro e della sua caduta ma a lungo è stato difficile trovare libri o opere d'arte che trattassero in modo completo al di là degli aspetti storici e politici le vicende di quei giorni anche qui c'è stata una specie di rimozione con degli aspetti anche clamorosi per esempio ricordo di aver letto un libro un romanzo un ver romanzo di Jurek Becker uno scrittore della RDT abbastanza conosciuto d'origine polacca il romanzo si chiamava Il cuore di Amanda in cui la caduta del muro di Berlino veniva evocata quasi fosse un evento secondario nonostante il fatto che il romanzo raccontasse a un certo punto la storia di un amore fra una donna dell'est e un giornalista dell'ovest e la difficoltà per loro di trovarsi di riunirsi ma Jurek Becker non ebbe la forza espressiva non ebbe il coraggio forse di far intervenire nel romanzo i momenti della caduta del muro la caduta resta un po' una specie di Deus ex machina così estraneo del quale non si riesce a parlare veramente Ghero il ragazzo che la notte del 9 novembre dell'89 mi aveva raccontato la sua odissea il lungo viaggio compiuto come molti altri da Berlino a Berlino cioè da Berlino est a Berlino ovest attraversando la Germania est la Ciecoslovacchia l'Ungheria l'Austria la Baviera e di nuovo la Germania est per ritrovarsi a due passi dal punto in cui era partita ma dall'altra parte del muro Ghero dicevo ha fatto carriera in una importante azienda informatica vive all'ovest ma torna abbastanza spesso a Berlino l'ultima volta che lo sentì qualche tempo fa mi disse che la madre e la vecchia zia dalla quale aveva trovato ospitalità quando era arrivato a Berlino ovest erano morte a pochi giorni di distanza l'una dall'altra ed abitavano ancora una a Pankow a Berlino est e l'altra a Wedding a Berlino ovest a Berlino mi scrisse poi Ghero mi perdo ancora spesso non mi sono ancora abituato all'idea che le due parti della città siano diventate una sola città certe volte l'unico modo di capire se sono all'ovest o all'est è di guardare per terra e vedere se ci sono le rotaie del tram a suo tempo infatti all'ovest il tram non c'era lo psicologo polacco che mi fece conoscere la storia di Gertrude F la donna a cui la stasi aveva rovinato la vita per carpire segreti del suo posto di lavoro in un'industria chimica e che poi era stata imprigionata e venduta come tanti altri alle autorità della Repubblica Federale lo psicologo dicevo esercita da qualche parte in America dove voleva andare fin dall'inizio di Gertrude non ho saputo più nulla forse è riuscita ad andarsene dalla Germania insieme con il marito un tassista mi raccontò una storia che avevo già sentito quando era giovane prima della costruzione del muro raccontò assisteva spesso alle corse automobilistiche che all'epoca si svolgevano sulla Avus una grande arteria una autostrada alla periferia di Berlino Ovest famosa per queste corse facendo su e giù con la S-Bahn il treno di superficie della stazione di Charlottenburg al Vansey era esattamente la stessa storia che mi aveva raccontato un altro tassista la notte pazzesca del nome anche lui da ragazzo aveva l'abitudine di salire sulla S-Bahn quando c'erano le corse sull'Avus e di seguirle così pagando soltanto il biglietto della metropolitana il tassista che mi portava a Schoenefeld mi disse quando gli raccontai di quel suo collega ma sicuramente l'avevo conosciuto il suo amico perché a vedere le corse ci andavamo in tanti ma fra ragazzi facevamo amicizia molto facilmente della famiglia B quella che era stata divisa dalla costruzione del muro con il padre e il figlio che avevano scelto di andare nella Germania occidentale e la madre e le due figlie che invece erano tornate nella loro casa a Berlino Est non seppi più nulla fino al 2000 quando su un giornale berlinese lessi la storia della scultrice che non fu difficile riconoscere come la madre delle due ragazze la quale aveva intrapreso una battaglia perché una opera che aveva realizzato prima della caduta del muro per il municipio di Schwerin una città dell'Est venisse collocata in una piazza di Berlino Ovest la donna stava diventando cieca e voleva assolutamente vedere questa sua opera esposta in pubblico prima di perdere completamente la vista il giornale non faceva menzione del marito il che mi fece pensare che la famiglia alla fine non si era mai riunita pochi anni dopo la caduta del muro la scrittrice Christa Wolf diede alle stampe un bel romanzo in parte autobiografico che si chiamava si chiama Wasbleibt che cosa resta che cosa resta è la domanda che fra pochi mesi quando ricorreranno i vent'anni dalla notte pazzesca come dicevano i tedeschi Wanzinnich del 9 novembre dovremmo porci un po' tutti quanti che cosa resta di quel pezzo di storia della Germania che cosa resta del terrore delle tristezze delle miserie della stasi ma che cosa resta anche del coraggio di chi si seppe opporre della lezione con cui tante persone riuscirono a sfidare la paura e fecero cadere il simbolo più duro della divisione dell'Europa e del mondo per chi è una certa età per chi ha avuto la fortuna magari immeritata come un giornalista come me di vivere da vicino a quell'evento straordinario restano i ricordi resta la sensazione di gioia il senso di liberazione per tanti e tanti amici dei quali si conosceva l'infelicità perché quella barriera di cemento al di là delle convinzioni delle ideologie chiudeva la loro vita in una prigione comunque ingiusta resta il senso delle speranze che la caduta del muro accese sul futuro dell'Europa sul futuro anche della convivenza fra i popoli d'Europa e del mondo non tutto è andato per il meglio dopo anzi forse gli aspetti negativi hanno finito per prevalere su quelli positivi questi vent'anni hanno portato tante delusioni ma la memoria di quella notte va tenuta viva perché il mondo nonostante tutto dopo quella notte fu più giusto e più umano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti